Da Grushenka Agliosha si avviò verso la piazza della cattedrale, a casa della vetova del mercante Morozov, da Grushenka. Di buon mattino questa aveva mandato Fenia da lui, con l'insistente preghiera di fare un salto a casa sua. Agliosha aveva saputo da Fenia che la padrona si trovava in uno stato di intensa e particolare agitazione sin dal giorno prima. Nei due giorni successivi all'arresto di Mitia, Agliosha si era recato di frequente a casa della Morozova, sia di sua iniziativa sia per incarico di Mitia. Circa tre giorni dopo l'arresto di Mitia, Grushenka si era gravemente ammalata ed era stata male per quasi cinque settimane. Per una settimana era rimasta a letto priva di conoscenza, il suo viso era molto cambiato, era dimagrita, quasi ingiallita, ma nelle ultime due settimane si era sentita abbastanza forte da uscire. Ma agli occhi di Agliosha il suo viso sembrava ancora più attraente e gli piaceva, entrando a casa di lei, incontrare il suo sguardo. Qualcosa si era rafforzato nel suo sguardo, qualcosa di risoluto e assennato. Si andava manifestando una specie di trasformazione spirituale, compariva una determinazione inalterabile, umile, ma positiva e irrevocabile. Sulla fronte, tra le sopracciglia, si era formata una piccola rughetta verticale che conferiva al suo dolce viso un'aria riflessiva e concentrata. Persino severa, a prima vista. Della frivolezza di un tempo non era rimasta traccia. Ad Agliosha sembrava strano che, malgrado la disgrazia che aveva sopraffatto la povera donna, fidanzata a un uomo agli arresti per un terribile delitto, proprio nel momento in cui ella era diventata la sua fidanzata, malgrado la malattia e la quasi inevitabile sentenza che incombeva sul capo di Mitia, Grushenka non avesse perduto la sua fresca allegria di un tempo. Nei suoi occhi, un tempo orgogliosi, raggiava ad esso una sorta di quiete, sebbene, in essi di tanto in tanto, si riaccendesse una certa fiammella sinistra quando una vecchia preoccupazione le tornava alla mente. Una preoccupazione che non era affatto sopita, anzi, si era ingigantita nel suo cuore. L'oggetto di questa preoccupazione era sempre lo stesso. Caterina Ivanovna, che tornava nella mente di Grushenka sin da quando era a letto malata, persino nel delirio. Agli oscia capiva che ella era terribilmente gelosa di lei per via di Mitia. Di Mitia il prigioniero, anche se Caterina Ivanovna non era andato nemmeno una volta a fargli visita in prigione, pur avendone avuto la possibilità. Tutto questo costituiva uno spinoso problema per Agli oscia, poiché Grushenka si confidava soltanto con lui e gli chiedeva consigli in continuazione. Ma lui a volte non sapeva proprio cosa dirle. Entrò nell'appartamento pieno da prensione. Ella era in casa. Da una mezz'oretta era tornata dalla visita a Mitia e dal rapido movimento con il quale ella scattò dalla sua poltrona dietro al tavolo per andargli incontro, egli dedusse che lo stava aspettando con grande impazienza. Sul tavolo giacevano carte da gioco, distribuite per giocare a Duraeki. Era stato allestito un letto sul divano di pelle dall'altro lato del tavolo. Su di esso stava sdraiato Maximoff, in vestaglia e papalina di cotone. Egli aveva un'aria stanca e indebolita, anche se sorrideva dolcemente. Semplicemente, quel vecchietto senza fissa dimora, da quando era tornato da Mokroi con Grushenka, da due mesi addietro, si era semplicemente fermato a casa di lei e lì era rimasto senza muoversi di un passo. Giunto a casa con lei tra la pioggia e il fango, fradicio e atterrito, si era seduto sul divano e l'aveva guardata in silenzio, con un timido sorriso implorante. Grushenka si era terribilmente addolorata e già presentava i primi sintomi di febbre. Si era completamente dimenticata di lui, nella prima mezz'ora dal loro arrivo, presa com'era da mille pensieri. Ma quando ad un tratto fissò lo sguardo su di lui, lo vide che ridacchiava, con una risatina pietosa e smarrita. Ella chiamò Fenia e ordinò che gli desse qualcosa da mangiare. Per tutta la giornata, egli se ne stesse seduto al suo posto, quasi senza muoversi. Quando si fece buio e chiusero le imposte, Fenia domandò alla padrona, «Padrone, il signore passerà la notte qui?» «Sì, preparagli il letto sul divano», dispose Grushenka. Chiesti maggiori ragguagli sul suo conto? Grushenka venne a sapere da lui stesso che in quel momento non aveva davvero dove andare e che il signor Kalganov, il mio benefattore, mi ha detto in faccia che non mi vuole più con sé e mi ha regalato cinque rubli. «Beh, che Dio sia con te, rimani qui allora», decise Grushenka nel suo dolore con un sorriso di compassione. Il suo sorriso fece sussultare il vecchio e le sue labbra tremarono di lacrime riconoscenti. E così il parassita vagabondo rimase a casa sua. Durante la sua notte, egli non mise mai il naso fuori di casa. Fenia e sua nonna, la cuoca di Grushenka, non lo cacciarono e continuarono a dargli da mangiare e a sistemargli il letto sul divano. In seguito, Grushenka finì per abituarsi alla sua presenza e quando tornava dalle visite a Mitia, dal quale aveva cominciato a recarsi non appena si era sentita meglio, ma il grado non si fosse completamente ristabilita, si sedeva e si metteva a discorrere con massimiusca di qualsiasi stupidaggine pur di soffocare l'angoscia e non pensare al suo dolore. Scoprì pure che il vecchietto all'occasione era anche un buon narratore e alla fine la sua presenza le divenne quasi necessaria. A parte Agioscia, che però non passava tutti i giorni e si tratteneva sempre poco, Grushenka non riceveva quasi nessuno. Il suo vecchio, il mercante, in quel periodo caceva a letto molto malato, se ne stava andando, dicevano in città, e infatti morì una settimana dopo il processo a Mitia. Tre settimane prima di morire, sentendolo approssimarsi della fine, egli chiamò a sé finalmente, al piano di sopra, i figli con le mogli e i nipoti e ordinò loro che non si allontanassero più da lui. Da quel momento, dette l'ordine perentorio di non lasciar più entrare Grushenka e nel caso quella si fosse recata a casa sua, dovevano dirle, il padrone, vi augura lunga vita e felicità e vi chiede di dimenticarvi completamente di lui. Grushenka comunque mi andava a chiedere notizie sulla sua salute quasi ogni giorno. «Finalmente sei arrivato», esclamò, gettando le carte e salutando tutta contenta Giosha. «E Maksimuska mi aveva tanto spaventata, dicendo che tu ormai non saresti più venuto. Quanto avevo bisogno di vederti! Siediti qui, vicino al tavolo. Cosa ti posso offrire? Un caffè?» «Sì, grazie», disse a Giosha, sedendosi al tavolo. «M'è venuta una gran fame». «Benissimo! Fenia, Fenia, il caffè!» Grisdò Grushenka. «È da un pezzo che l'abbiamo sul fuoco. Ti stava aspettando. E porta pure i pasticcini. E che siano caldi!» «No, aspetta, Giosha. Oggi abbiamo avuto una lite su questi pasticcini. Glieli ho portati in prigione e lui ci crederesti. Me li ha buttati indietro senza nemmeno mangiarli». Ne ha gettato persino uno per terra e lo ha calpestato. Io gli ho detto «Gli lascerò la guardia. Se non li mangerai entro stasera, vorrà dire che la tua velenosa cattiveria ti nutre a sufficienza». E così me ne sono andata. Abbiamo litigato di nuovo. Da non credersi! Ogni volta che vado da lui, litighiamo. Grushenka disse questo tutto ad un fiato, agitata. Maximoff, che si era subito sentito a disagio, sorrideva ad occhi bassi. «Per che cosa avete litigato questa volta?» Domandò a Giosha. «Non me lo sarei mai aspettato. Immagina un po' che era geloso di quello di prima, mi fa. Perché lo stai mantenendo? Allora ti sei messa a mantenerlo. È geloso di me e non fa che essere geloso di me. La gelosia non lo abbandona mai, neanche quando dorme, quando mangia. Mi è persino saltato in mente di essere geloso di Kuzma la settimana scorsa. Eppure era a conoscenza del primo, vero? È questo il punto? Lo ha sempre saputo, sin dal primo momento, ma oggi all'improvviso ha preso e si è messo a insultare. Mi vergogno di ripetere quello che ha detto. Che imbecille! È entrato Rakitka da lui, subito dopo che me ne sono andata io. Forse era Rakitka che lo sta aizzando. Che dici? Che ne pensi tu? Soggiunse con me sovrappensiero. Ti ama. Ecco qual è il fatto. Ti ama moltissimo. E adesso è particolarmente irritato. Ha ragione di esserlo, con il processo domani. E io ero andata per dirgli qualcosa su domani, perché sai, Agiosha, mi sento male solo al pensiero di quello che accadrà domani. Tu dici che lui è irritato. E io non lo sono, forse? E quello si mette a pensare al polacco. Ma che imbecille! Forse solo di Maximuska qui non è geloso. Anche mia moglie era molto gelosa, signora, disse Maximuska dal canto suo. Gelosa di te? Scoppiò a ridere Grushinka, malgrado tutto. E che motivo aveva di essere gelosa di te? Per le ragazze di servizio, signora. Ma sta zitto, Maximuska, che non sono dell'umore giusto per ridere. Sono persino arrabbiata. E non covare con gli occhi quei pasticcini. Non te ne darò, ti fanno male. Non ti darò nemmeno il balsamuccio. Ecco che mi tocca accudire pure lui, come se avessi un ospizio. E si mise a ridere. Io non merito la vostra beneficenza, signora. Io sono una nullità, disse Maximuska con la vocetta incrinata dal pianto. Sarebbe meglio se riservaste la vostra beneficenza a gente più utile di me, signora. Eh, tutti sono utili, Maximuska. E come facciamo a sapere chi è più utile? Se solo non ci fosse quel polacco, Agiosha, è saltato in mente anche a lui di ammalarsi proprio oggi. Sono stata anche da lui. E gli manderò pure i pasticcini per farlo apposta. Non glieli avevo mandati. Ma dal momento che Mitia mi ha accusata di mandargliagli, allora glieli manderò apposta apposta. Ah, ecco Fenia con una lettera. Sarà ancora da parte dei polacchi. Bussano di nuovo a soldi. E di fatti Pan Musialovic le aveva davvero inviato una lettera straordinariamente lunga e ampollosa, come al suo solito, con la quale le chiedeva di prestargli tre rubli. Alla lettera era legata una ricevuta dei soldi con l'impegno alla restituzione entro tre mesi. La ricevuta era stata firmata anche da Pan Vrublevski. Di queste lettere, con tanto di relative equietanze, Grushenka ne aveva ricevute un bel po' da quel suo primo amore. Il tutto era cominciato due settimane addietro quando Grushenka si era ristabilita. Aveva saputo comunque che durante la malattia i due Pan erano venuti spesso a chiedere notizie sulla sua salute. La prima lettera, ricevuta da Grushenka, lunghissima, scritta su una carta da lettere di grande formato, con un grosso sigillo di famiglia, era terribilmente nebulosa e ampollosa, tanto che Grushenka ne aveva letto solo metà e poi l'aveva lasciata lì, perché non ci capiva niente. Tanto più che non era affatto in vena di occuparsi della corrispondenza. Dopo quella prima lettera, ne era seguita una seconda il giorno successivo. In essa, Pan Musialovic, la pregava di accordargli un prestito di duemila rubli per un brevissimo periodo. Grushenka aveva lasciato anche quella lettera senza risposta. Era seguita una serie intera di lettere, una lettera al giorno, tutte ugualmente sussiegose e ampollose. Ma la somma che si richiedeva in prestito si abbassava gradualmente. Era arrivata sino a cento rubli, poi a venticinque, poi a dieci, e infine Grushenka aveva ricevuto una lettera nella quale i due Pan le chiedevano soltanto un rublo e allegavano la ricevuta firmata da entrambi. Così Grushenka aveva provato un moto di pietà e verso sera aveva fatto una scappata da loro. Li aveva trovati in uno stato di povertà estrema, quasi di miseria, senza cibo, senza legna, senza sigarette, indebitati con la padrona di casa. I duecento rubli che avevano spillato al gioco e a mitia erano svaniti da qualche parte, in men che non si dica. Grushenka tuttavia restò stupita dal fatto che i due Pan l'avessero accolta con una dignità e una fierezza arroganti, con modi estremamente formali e con discorsi pomposi. A Grushenka venne soltanto da ridere e detta il suo primo amore dieci rubli. Quel giorno stesso aveva raccontato l'episodio a mitia, ridendo, e quello non si era affatto ingelosito. Ma da quel giorno i due Pan si erano aggrappati a Grushenka e la bombardavano quotidianamente di lettere con richieste di soldi, e quello ogni volta gliene mandava un pochino. Ma ecco che a mitia, all'improvviso, era saltato in mente di mettersi a fare il geloso in quel modo crudele. Come una sciocca avevo fatto un salto da lui, solo per un minutino mentre mi recavo da mitia, perché anche lui si è ammalato. Col mio pan di prima, riprese Grushenka con fretta nervosa, stavo giusto ridendo mentre raccontavo a mitia, figurati che quel mio polacco ha pensato di mettersi a cantare le canzoni di un tempo, sperando che io mi commuovesse e lo sposassi. E a quel punto mitia è saltato su con i suoi insulti, che li mandasse ai polacchi quei pasticcini. Fenia, sono loro che hanno mandato quella ragazzina? Allora, dalle tre rubli e una decina di pasticcini, avvolgeli in una carta e ordina che li consegni. E tu, Agiosha, devi assolutamente riferire a mitia che io ho mandato i pasticcini. Non lo riferirò per nulla al mondo, rispose Agiosha sorridendo. Tu pensi che lui si tormenti e invece lui lo fa apposta per fare il geloso, ma in realtà non gliene importa niente, disse Grushenka con amarezza. Come apposta? domandò Agiosha. Sei una sciocco, Agiosha. Con tutta la tua intelligenza non capisci proprio niente di queste cose. Non mi offende il fatto che sia geloso di una come me, ma mi offenderebbe se non fosse affatto geloso. Sono fatta così. Non mi offengo per la gelosia. Il mio cuore in fondo è crudele e posso essere gelosa anch'io. Mi offende soltanto che lui non mi ami affatto e abbia fatto il geloso apposta. Ecco cosa. Che? Sono cieca io. Non vedo forse. Ha cominciato a parlarmi di quella, di Katka. A un tratto prende e mi fa che quella è così e cos'ha che ha mandato a chiamare un medico da mosca in occasione del processo perché lo salvi e ha assunto il miglior avvocato, il più preparato. Vuol dire che la ama. Si è cominciato a tesserne le lodi davanti a me. Svergognato che non è altro. Siccome lui è il primo ad essere in colpa davanti a me, allora sei presa con me per rendere me colpevole dinanzi a lui e gettare tutta la colpa addosso a me. Come a dire tu sei stata con il polacco prima di venire da me e allora adesso non mi puoi rimproverare per Katka. Ecco come stanno le cose. Vuole scaricare tutta la colpa su me sola. Ha fatto apposta ad attaccarmi. Apposta ti dico. Ma io... Grushenka non riuscì a finire di dire quello che avrebbe fatto. Si coprì gli occhi con il fazzoletto e proruppe in singhiozzi. Lui non ama Katarina Ivanovna disse a Giosha in tono fermo. Beh, lo scoprirò subito se l'ama o no disse Grushenka con una nota di minaccia nella voce scostando il fazzoletto dagli occhi. Aveva il viso alterato. Giosha notò con amarezza che il suo viso che prima era animato da un'espressione mite e di quieta lietezza si era fatto adesso minaccioso e cattivo. Basta con queste sciocchezze e la tagliò corto bruscamente. Non era per questo che ti avevo mandato a chiamare. Agiosha caro che avverrà domani. Ecco che cosa mi tormenta. Ma questo tormenta solo me. Guardo tutti uno per uno e vedo che nessuno ci pensa nessuno se ne occupa a nessuno importa. ci pensi almeno tu domani sarà processato. Dimmelo tu come lo giudicheranno domani. È stato il lacchè il lacchè a uccidere il lacchè signore mio. Non lo condanneranno mica al posto di quel lacchè senza che nessuno prenda le sue difese. Non hanno minimamente incomodato quel lacchè vero? Lo hanno sottoposto a uno scrupoloso interrogatorio osservò Giosha pensieroso ma tutti hanno concluso che non è stato lui. Adesso è a letto molto malato. è malato da allora per quell'attacco di mal caduco. È malato sul serio? Soggiunce Giosha. Oddio non potresti andare tu dall'avvocato per raccontargli tutta la faccenda a quattro occhi. Dicono che l'abbiano fatto venire da Pietroburgo pagando un onorario di 3000 rubli. Siamo stati noi tre a pagare quei 3000 rubli. Io il fratello Ivan e Caterina Ivanovna mentre il dottore da Mosca l'ha chiamato soltanto lei a proprie spese per 2000 rubli. L'avvocato Fetiukovie avrebbe preso di più ma il caso ha avuto grano risonanza in tutta la Russia. Ne parlano tutti i giornali tutte le riviste. Fetiukovie ha accettato di venire più per la pubblicità che per altro perché il caso è diventato ormai famoso. L'ho visto ieri e allora gli hai parlato si scosse in fretta Grushenka mi ha ascoltato e non ha detto nulla ha detto che lui si è già fatto un'idea precisa ma ha promesso di tenere presenti le mie parole. Come tener presenti? Ah quella manica di imbroglioni lo rovineranno e dottore perché hanno mandato a chiamare il dottore? In qualità di esperto vogliono dimostrare che mio fratello è pazzo e che ha ucciso in un accesso di follia fuori di sé sorrise Keto agli oscia solo che Mitia non darà il suo consenso a questo ma questo sarebbe la verità se lo avesse ucciso davvero esclamò Grushenka era pazzo in quel momento completamente pazzo e di questo la colpa è mia vigliacca che sono soltanto mia solo che lui non ha ucciso non ha ucciso ma li ha tutti contro la città intera persino Fenia persino la sua testimonianza ha finito per confermare la sua colpevolezza e anche alla bottega e quello impiegato e prima ancora quello che la gente ha già sentito dire in trattoria tutti tutti contro di lui tutti a far baccano contro di lui sì le testimonianze contro di lui si sono terribilmente moltiplicate osservò agli osce a cupo e quel Grigori quel Grigori Vasilievich che insiste con la sua avversione che la porta era aperta continua a dire sempre la stessa cosa che la vista non c'è verso di smuoverlo sono corsa io stessa da lui gli ho parlato io stessa sta ancora lì ad imprecare sì quella forse è la testimonianza più grave contro di lui disse agli osce quanto al fatto che Mitia sarebbe pazzo certamente adesso dà l'impressione di esserlo presa a dire Grushenka con un'aria particolarmente ansiosa e misteriosa sai Aleshka volevo dirtelo da molto tempo vado a trovarlo ogni giorno e rimango semplicemente a bocca aperta dimmi che cosa ne pensi tu di che cosa pensi che parli in continuazione parla parla ma non riesco a capire nulla penso che parli di qualcosa di molto intelligente che io sono la sciocca che non capisce penso poi che si mette a parlare di una creatura di un bambino cioè e domanda perché quella creatura è povera per quel bambino io adesso andrò in Siberia io non ho ucciso ma devo andare lo stesso in Siberia che cosa vuol dire di che creatura parla non ci capisco un H solo che sono scoppiata a piangere mentre lui parlava perché ne parlava così bene piangeva e così piangevo anche io allora lui all'improvviso mi ha baciata e mi ha fatto il segno della croce con la mano che cosa vuol dire Agiosha dimmi chi è quella creatura deve essere stato Rakitink chissà per quale ragione tutto a un tratto si è messo ad andare a trovarlo sorriso Agiosha dal resto non dipende da Rakitink ieri non sono andato da lui ci andrò oggi non non è Rakitka è suo fratello Ivan Fyodorovic che lo turba è lui che va a trovarlo ecco disse Grushenka e troncò il discorso di botto Agiosha la guardò come folgorato come? va a trovarlo? è andato davvero a trovarlo? ma se Mitia mi ha detto che Ivan non è mai andato a trovarlo ecco ecco che sciocca che sono lasciarsi sfuggire le cose così esclamò Grushenka confusa e avvampata di colpo aspetta Agiosha sta zitto dal momento che me lo sono lasciato sfuggire dirò tutta la verità è andato a trovarlo due volte appena arrivato il giorno che si è precipitato da mosca prima che io mi ammalassi e l'altra volta ci è andato una settimana fa aveva ordinato a Mitia di non dirtelo di non dirtelo per niente al mondo e di non dirlo a nessuno ci è andato di nascosto Agiosha era profondamente assorto nei suoi pensieri stava pensando a qualcosa la notizia evidentemente lo aveva colpito il fratello Ivan non parla con me del caso di Mitia disse poi lentamente anzi in generale ha parlato molto poco con me in questi due mesi e quando sono andato a trovarlo era sempre molto scontento della mia visita tanto che non vado a trovarlo da tre settimane se c'è andato una settimana fa allora è vero in quest'ultima settimana deve aver avuto luogo in lui un certo cambiamento un cambiamento un cambiamento colse al volo Grushenka hanno un segreto c'è un segreto fra di loro Mitia stesso non me l'ha detto c'è sotto un segreto un segreto tale che Mitia non riesce a darsi pace infatti prima era allegro anche adesso è allegro solo che quando si mette a ciondolare la testa e a camminare per la stanza tirandosi i capelli sulla tempia con la mano destra allora capisco che c'è qualcosa che lo turba lo so già altrimenti è allegro anche oggi era allegro mi avevi detto che era irritato sì era irritato ma era anche allegro l'irritazione gli dura per un minuto poi allegro poi di nuovo irritato e sai Agiosha mi stupisco molto di lui lo aspetta un evento così pauroso eppure a volte si mette a ridere per delle vere sciocchezze proprio come un bambino e ti ha veramente ordinato di non dirmi nulla riguardo a Ivan ha detto proprio non glielo dire Mitya teme soprattutto per te perché c'è un segreto l'ha detto lui stesso che c'è un segreto Agiosha tesoruccio vacci tu e cerca di scoprire di che segreto si tratta e poi vieni a dirmelo Ruschenka ebbe un fremito e si mise a supplicarlo scioglimi dal dubbio oh povera me che possa conoscere il maledetto destino che mi attende è per questo che ti ho mandato a chiamare pensi che in qualche modo ti riguardi ma allora non ti avrebbe detto che c'è un segreto di mezzo non lo so forse a me vuole dire qualcosa ma non ne ha il coraggio mi sta mettendo in guardia mi ha detto che c'è un segreto ma non mi vuole dire di che segreto si tratta e tu che ne pensi che cosa penso che è arrivata la mia fine ecco che cosa penso quei tre hanno tramato la mia fine perché qui c'entra anche Katka ha fatto tutto Katka dipende tutto da lei lei è così lei è cosà vuol dire che io non sono come lei è come se me lo anticipasse come se mi avvisasse per tempo ha progettato di lasciarmi ecco tutto il segreto l'hanno pensato in tre Mitka Katka e Ivan Piotrovich Agli Osha volevo chiedertelo da tempo una settimana fa mi ha rivelato all'improvviso che Ivan ha innamorato di Katka perché va spesso a trovarla mi ha detto la verità oppure no parla secondo coscienza distruggimi pure non ti mentirò Ivan non è innamorato di Katerina Evanovna così la penso io ho pensato la stessa cosa mi sta mentendo lo spudorato ecco cosa e adesso mi fa il geloso per poter scaricare la colpa su di me il fatto è che lui è un imbecille e non sa nascondere le sue trame è così franco sai ma gliela farò vedere gliela farò vedere tu credi che io abbia ucciso lui lo viene a dire a me a me si mette a rimproverare me di una cosa simile che Dio lo accompagni ma aspetta gliene farò passare delle belle a Katka al processo le dirò una parolina la spiattellerò tutto la e scoppiò un'altra volta in un pianto amaro ecco che cosa posso dirti di sicuro Grushenka disse a Josha alzandosi in primo luogo lui ama te ama te più di chiunque altro al mondo e soltanto te in questo devi credermi lo so lo so per certo in secondo luogo ti dirò che non voglio estorcergli il suo segreto e se sarà lui a dirmelo di sua iniziativa gli dirò chiaramente che avevo promesso di dirtelo allora verrò da te oggi stesso e te lo dirò solo mi sembra che Katerina Ivanovna non abbia neanche lontanamente a che fare con questa faccenda ma che questo segreto riguardi tutt'altra cosa questo è certo non credo affatto che centri Katerina Ivanovna ma per adesso addio Agiosha le strinse la mano Grushenka continuava a piangere e gli si era accorto che quella aveva dato poco credito alla sua consolazione ma stava meglio per aver dato sfogo al suo dolore per averlo confidato gli dispiaceva lasciarla in quello stato ma aveva fretta lo aspettavano ancora molte faccende da sbrigare il piedino malato la prima di queste faccende riguardava la casa della signora Cioclacova dove egli si affrettò ad andare per concludere ogni cosa prima che fosse troppo tardi per recarsi da mitia la signora Cioclacova era stata indisposta nelle ultime tre settimane e si era inspiegabilmente gonfiato a un piede e sebbene non fosse costretta a letto tuttavia restava mezzo sdraiata tutto il giorno in un attraente ma ineccepibile desabie sul canapè del suo boudoir Aglioccia aveva notato con un sorrisetto innocente che la signora Cioclacova a dispetto della sua indisposizione aveva iniziato a dare sfoggio di eleganza erano comparse certe cuffiette di merletto certe camicette e lui si era fatto un'idea della ragione di tutto ciò anche se ricacciava quei pensieri come troppo frivoli negli ultimi due mesi il giovane Perciotkin era diventato un assiduo frequentatore della casa della signora Cioclacova erano quattro giorni circa che Aglioccia non andava a trovarla entrando in casa egli si affrettò per prima cosa ad andare da Lizza da che aveva da sbrigare una faccenda anche con lei Lizza infatti la sera prima gli aveva mandato una cameriera con la pressante richiesta che egli si recasse immediatamente da lei per una circostanza molto importante cosa che per una serie di motivi suscitò l'interesse di Aglioccia ma mentre la cameriera annunciava l'arrivo di Aglioccia a Lizza la signora Cioclacova aveva già saputo da qualcuno del suo arrivo e l'aveva subito fatto pregare di passare da lei soltanto per un minutino Aglioccia ritenne che fosse meglio soddisfare per prima la richiesta della mamma altrimenti quella l'avrebbe mandato a chiamare in continuazione mentre si trovava ad Alizza la signora Cioclacova stava semistraiata sul suo canapè vestita in modo particolarmente elegante era evidente che si trovava in uno stato di estrema eccitazione nervosa accolsa Aglioccia con gridolini di entusiasmo sono secoli 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 interi che non vi si vede una settimana intera pensate un po' ma in realtà siete venuto solo quattro giorni fa mercoledì voi siete qui per l'ISE sono sicura che volevate sgattaiolare da lei in punta di piedi per non farvi sentire da me caro caro Alexei Fiodorovic se solo sapeste quante preoccupazioni mi dà ma di questo parleremo dopo anche se è l'essenziale comunque ne parleremo dopo caro Alexei Fiodorovic affido la mia Lizza nelle vostre mani dopo la morte dello stare Zosima pace all'anima sua si fece il segno della croce dopo la sua morte io vi considero un monaco asceta anche se il vostro nuovo abito vi sta d'incanto dove avete trovato un sarto così bravo da queste parti ma no no questo non conta di questo più tardi perdonatemi se a volte io vi chiamo agli oscia sono vecchia tutto mi è concesso fece un sorriso civettuolo ma anche di questo parleremo dopo essenziale è non dimenticarci dell'essenziale per favore se la mia lingua dovesse correre un po' troppo ricordatemelo voi ditemi è l'essenziale perché adesso mi rendo conto che è l'essenziale da quando Lisa ha ritirato la promessa fatta a voi quell'infantile promessa Alexei Fiodorovic di sposarvi voi avrete certamente capito che era soltanto la fantasia infantile e giocherellona di una ragazza ammalata che per molto tempo è stata costretta a una sedia grazie a Dio adesso cammina quel nuovo dottore che Katia ha mandato a chiamare da Mosca per quel vostro fratello disgraziato che domani ma perché parlare di domani io muoio soltanto al pensiero di domani soprattutto per la curiosità insomma quel dottore ieri è venuto da noi e ha visto Lisa ho pagato 50 rubli per la visita ma tutto questo non c'entra ancora una volta non è questo che conta vedete ho perso di nuovo il segno perché ho tanta fretta non lo so è terribile come io abbia smesso di capire le cose mi sembra che tutto si stia aggrovigliando in una sorta di matassa temo che tutt'antretto voi schiziate via da me per la noia quando io a malapena vi ho visto ah mio dio che facciamo seduti qui in primo luogo caffè Giulia grafiria caffè agli oscia si affrettò a ringraziare dicendo che aveva appena bevuto del caffè e da chi da grafene alexandrovna da da quella donna ah è stata la rovina di tutti ma del resto io non so dicono che sia diventata santa anche se con un certo ritardo sarebbe stato meglio che lo avesse fatto prima quando ce n'era bisogno ma adesso a che serve tacete tacete alexiai fiodorovic perché io voglio dire tante di quelle cose che credo non riuscirò a dire niente quel terribile processo io ci andrò senz'altro mi sto preparando mi porteranno sulla poltrona e lì mi potrò sedere avrò i miei servi con me e poi sapete devo testimoniare anche io come farò a parlare come farò a parlare non so come farò a parlare bisogna fare un giuramento non è vero sì ma non credo che voi sarete in grado di rendere la vostra testimonianza ma io posso stare seduta ma voi mi confondete questo processo quell'azione selvaggia e poi tutti vanno in Siberia altri si sposano e tutto questo rapidamente rapidamente e tutto cambia e alla fine niente tutti vecchi a guardare la tomba ma che sia pure così sono stanca quella Katia ha distrutto tutte le mie speranze adesso lei seguirà uno dei vostri fratelli in Siberia e quell'altro fratello seguirà lei e vivrà in una città vicina e tutti si tormenteranno a vicenda questa idea mi fa impazzire e soprattutto questa pubblicità ne avranno scritto un milione di volte in tutti i giornali di Pietroburgo e Mosca ah sì immaginate un po' hanno scritto persino su di me che ero una cara amica di vostro fratello non voglio pronunciare un'orrenda parola immaginate un po' immaginate un po' non può essere e dove lo hanno scritto adesso ve lo faccio vedere ieri l'ho ricevuto e ieri l'ho letto tutto ecco qui nel giornale dicerie di Pietroburgo hanno cominciato quest'anno a pubblicare queste dicerie io vado pazza per le dicerie e mi sono abbonata e così me lo sono cercata io stessa ecco le dicerie che vanno mettendo in giro ecco qui in questo brano leggete e allungò dagli oscia il foglio del giornale che prima teneva sotto il cuscino non era tanto scossa quanto spossata e forse era proprio vero che in testa le si era aggrovigliata una specie di matassa la notizia riportata sul giornale era davvero tipica e ovviamente doveva essere stato un vero colpo per lei ma in quel momento per sua fortuna forse ella non era capace di concentrarsi su un solo punto ecco perché un minuto dopo poteva dimenticare persino l'articolo e passare di punto in bianco ad un altro argomento agli oscia era al corrente da molto tempo che la storia dello spaventoso caso si era diffusa per tutta la Russia e dio mio quante notizie e corrispondenze sfrenate era riuscito a leggere in quei due mesi in mezzo alle informazioni veritiere sul conto di suo fratello del caramazzo fin genere e persino sul proprio conto in un giornale avevano persino scritto che dopo l'assassinio del padre lui per il terrore si era fatto monaco a sceta e si era chiuso in clausura un altro contraddiceva il precedente e diceva che lui con la complicità dello stare Zosima aveva scassinato la cassa del monastero e poi se l'erano squagliata dal monastero l'articolo che stava leggendo in quel momento dal giornale di ceria si intitolava da scoto prigionevsk ahimè è questo il nome della cittadina che ho tenuto nascosto fino ad adesso alla vigilia del processo Karamazov era piuttosto breve e la signora Cioklakova non veniva esplicitamente nominata anzi in generale non si faceva nessun nome si informava semplicemente che l'assassino che si apprestavano a giudicare fra tanto clamore era un capitano dell'esercito a riposo personaggio di pessima fama fanullone e reazionario era continuamente coinvolto in intrighi amorosi e godeva in particolare dei favori di alcune signore che si struggevano una di queste una vedovella che si struggeva che faceva di tutto per apparire giovane nonostante avesse una figlia già grande era così affascinata da lui che soltanto due ore prima del delitto gli aveva offerto 3000 rubli a patto che fuggisse seduta stante con lei alle miniere d'oro ma il malfattore aveva preferito uccidere e derubare suo padre proprio della somma di 3000 rubli pensando di farla franca piuttosto che trascinarsi in Siberia in compagnia delle grazie da quarantenne della sua dama che si struggeva questa scherzosa corrispondenza si concludeva come si conviene con espressioni di nobile sdegno contro l'immorale parricidio e il sistema della servitù feudale prima vigente dopo aver letto con interesse Agiosha ripiegò il foglio e lo restitui alla signora Soklakova e allora non credete che si stia parlando di me? riprese a cicalare sono proprio io ho perso quasi un'ora a proporgli le miniere d'oro e tutto ad un tratto le grazie da quarantenne non si sta forse parlando di me? l'ha fatto apposta giudice eterno perdonagli per le grazie da quarantenne così come lo perdono io ma questa è opera questa è opera sapete di chi? del vostro amico Rakitin può essere di Sagiosha anche se io non ho sentito niente a proposito è lui è lui senza forse infatti io l'ho cacciato voi conoscete tutta quanta la storia so che voi lo avete invitato a non farvi più visita da ora in avanti ma per quale motivo questo io almeno da voi non l'ho sentito ah dunque lo avete sentito da lui e che fa mi offende mi offende si vi offende ma lui offende tutti ma per quale motivo lo avevate respinto questo non l'ho sentito neanche da lui e del resto lo vedo molto di rado non siamo amici noi due allora vi rivelerò tutto io non c'è altro da fare sarà la mia penitenza perché c'è almeno un punto nel quale forse la colpa è mia solo un punto piccolo piccolissimo tanto piccolo che forse non esiste per nulla vedete caro mio la signora Czoklakova ad un tratto assunse un'aria scherzosa e sulle labbra le affiorò un sorrisetto dolce ma enigmatico sapete io ho il sospetto voi mi perdonerete Agiosha potrei esservi madre oh no no al contrario adesso vi parlo come se foste mio padre perché una madre in questo caso sarebbe fuori posto beh come se mi stessi confessando allo stare Zosima questo sì che va bene come paragone poco fa vi ho chiamato monaco a Sheta allora quel povero giovanotto il vostro amico Rakitin oh dio mio non riesco proprio a essere arrabbiata con lui mi arrabbio me la prendo ma solo un pochino insomma a quel frivolo giovanotto all'improvviso era saltato in mente figuratevi un po' di innamorarsi di me io l'ho notato tardi soltanto più tardi ma all'inizio cioè un mese fa lui ha cominciato a intensificare le sue visite veniva quasi ogni giorno anche seppure prima eravamo buoni conoscenti io non sapevo nulla quando ad un tratto ho avuto come un'illuminazione e ho cominciato con mio stupore a notare le cose voi sapete che sono già due mesi che ho cominciato a ricevere quel modesto simpatico e dignitoso giovanotto Piotr Illich Perciotkin che lavora nella nostra città l'avete incontrato anche voi un sacco di volte non è forse vero che egli è così dignitoso serio viene a trovarmi ogni tre giorni e non ogni giorno anche se andrebbe bene pure ogni giorno ed è sempre così ben vestito e poi a me piacciono i giovani in generale Agiosha quando sono pieni di qualità modesti ecco come voi e lui e lui ha un cervello quasi da statista sa parlare così bene e io sicuramente sicuramente chiederò che vengano riconosciuti i suoi meriti è un futuro diplomatico quel terribile giorno mi ha quasi salvato la vita venendo da me in piena notte mentre il vostro amico Rakitin viene sempre con quegli stivaloni e li trascina sul tappeto insomma cominciò pure a farmi capire qualcosa quando un bel giorno congedandosi vi strinse la mano tanto forte da far male fu subito dopo quella stretta di mano che cominciò a farmi male il piede anche in precedenza aveva incontrato Piotr Illich in casa mia e ci credereste non faceva che stuzzicarlo stuzzicarlo munghiava contro di lui per qualche ragione io restavo a guardare come si comportavano quei due quando erano insieme e dentro di me ridevo ed ecco che un giorno me ne stavo seduta da sola cioè no mi toccava già stare sdraiata allora me ne stavo sdraiata da sola quando arriva Mikhail Ivanovich e pensate un po' mi porta dei versi di sua composizione una poesiola sul mio piede malato cioè aveva descritto in poesia il mio piede malato aspettate faceva così quel piedino quel piedino si è ammalato un pochettino o qualcosa del genere non riesco mai a mandare a memoria dei versi li ho conservati e ve li mostrerò una delizia semplicemente una delizia e sapete non parla soltanto del piedino ha una sua morale una magnifica idea solo che l'ho dimenticata insomma da mettere subito nell'album io l'ho ringraziato si intende e lui era palesemente lusingato non avevo finito i miei ringraziamenti quando entrò anche Piotr Illich e Mikhail Ivanovich si fece subito scuro come la notte mi rendevo conto che Piotr Illich gli era per qualche ragione d'ostacolo mentre Mikhail Ivanovich avrebbe voluto dire qualcosa subito dopo i versi ne avevo già avuto presentimento ma poi era entrato Piotr Illich feci subito vedere i versi a Piotr Illich ma non gli dissi chi li aveva composti ma io sono convinta convintissima che lo capì subito anche se a tutt'oggi non lo ammette e continua a sostenere che non l'aveva capito ma lo fa apposta Piotr Illich scoppiò a ridere e cominciò a criticare sono versi da strapazzo scribacchiati da qualche seminarista ma con una tale veemenza una tale veemenza a quel punto il vostro amico invece di ridere montò su tutte le furie Dio mio pensavo che si sarebbero picchiati li ho scritti io disse li ho scritti per scherzo perché trovo degradante scrivere versi solo che i miei sono dei buoni versi vogliono fargli un monumento al vostro Puskin per avere decantato i piedini delle donne mentre io quei versi li ho scritti con un proposito morale e voi siete un fautore della servitù feudale voi non avete neanche un briciolo di umanità voi non nutrite alcun sentimento moderno illuminato il progresso non vi ha toccato voi siete solo un impiegato che intasca le bustarelle allora mi misi a gridare e a supplicarli ma Piotr Illich voi lo sapete è tutt'altro che codardo assunse un tono da gentiluomo lo guardò con uno sguardo ironico ascoltò e chiese scusa io non lo sapevo se lo avessi saputo non avrei detto quello che ho detto anzi li avrei lodati quei versi i poeti sono tutti così suscettibili insomma ironia bella e buona mascherata dal più nobile dei toni poi me l'ha spiegato lui stesso che era tutta ironia mentre io pensavo che stesse parlando sul serio io me ne stavo coricata come sto adesso davanti a voi e mi domandavo sarebbe o no decoroso se cacciassi immediatamente Mikhail Ivanovich per il fatto che sbraita in maniera indecente in casa mia contro il mio ospite e ci credereste me ne stavo sdraiata ad occhi chiusi a pensare se fosse decoroso o meno e non riuscivo a decidermi e mi tormentavo mi tormentavo e il cuore mi martellava grido o non grido una voce mi diceva grida e l'altra mi diceva non gridare la seconda voce aveva appena avuto il tempo di parlare che io mi misi a urlare e di colpo caddi svenuta segui un gran trambusto si intende mi alzo e dico a Mikhail Ivanovich mi rincresce dirvi che non desidero più ricevervi in casa mia e così lo cacciai ah Alexei Fiodalovich mi rendo conto da sola che mi sono comportata male ho solo mentito non ero affatto arrabbiata con lui ma all'improvviso mi era sembrato che sarebbe stata proprio una bella scena e tuttavia credetemi quella scena fu del tutto naturale perché scoppiai persino a piangere e piansi pure per i giorni successivi quando finalmente un giorno dopo pranzo dall'improvviso me ne sono completamente dimenticata ecco sono due settimane che ha smesso di venire a trovarmi e mi domando se mai tornerà poi ieri verso sera mi sono arrivate dicerie leggo l'articolo e rimango a bocca aperta chi poteva avere mai scritto se non lui quel giorno tornato a casa si è seduto a tavolino e ha scritto poi l'ha spedito e quelli lo hanno pubblicato è stato due settimane fa capite solo che Agiosha è terribile che io continui a parlare senza dire quello che veramente voglio dire le parole mi escono fuori da sole è assolutamente necessario che arrivi per tempo da mio fratello oggi fece per dire Agiosha balbettando certamente certamente mi avete ricordato ogni cosa ascoltate che cosa è l'alterazione quale alterazione domandò stupito Agiosha alterazione in senso giuridico quell'alterazione per la quale ti perdonano tutto qualunque cosa abbiate fatto vi viene perdonata subito ma di che cosa state parlando quella Katia è una creatura così cara così cara solo che non riesco assolutamente a capire di chi si è innamorata poco fa è venuta a trovarmi e non sono riuscita a cavarle niente tanto più che non mi parla d'altro che di cose superficiali insomma sempre della mia salute è niente di più e assume anche quel certo tono e io mi son detta dentro di me lascia fare che Dio l'accompagni ah sì ma stavo parlando dell'alterazione è venuto pure quel dottore lo sapevate che è venuto il dottore? certo che lo sapevate quello che riconosce i pazzi l'avete mandato a chiamare voi stesso cioè non voi ma Katia tutto Katia allora vedete può capitare che a un uomo niente affatto pazzo tutto a un tratto gli venga un'alterazione egli può essere cosciente e sapere quello che sta facendo eppure trovarsi in uno stato di alterazione ecco forse Dmitri Piotrovic si trovava in uno stato di alterazione hanno scoperto l'alterazione quando hanno istituito i nuovi tribunali è tutto un effetto positivo dei nuovi tribunali il dottore è venuto da me e mi ha domandato di quella sera insomma delle miniere d'oro mi ha chiesto che aspetto avesse doveva certo trovarsi in uno stato di alterazione entra e grida il denaro il denaro 3000 rubli datemi 3000 rubli poi se n'è andato ed ha commesso il delito lui dice che non voleva non voleva uccidere ma all'improvviso ha ucciso ecco perché lo assolveranno perché ha lottato contro quell'istinto ma poi ha ucciso ma egli non ha ucciso la interruppe Agliosha piuttosto bruscamente l'inquietudine e la rabbia ribollivano sempre di più dentro di lui lo so che è stato il vecchio Grigori ad ammazzare come Grigori gridò Agliosha lui lui proprio Grigori Dmitri Fiodorovic lo ha colpito e lui è rimasto steso per terra poi si è alzato ha visto la porta aperta e ha ucciso Fiodor Paolovic ma perché perché era affetto da alterazione quando si è ripreso dal colpo inferto da Dmitri Fiodorovic è stato colto da alterazione ha preso ed ha ammazzato quanto al fatto che sostiene di non essere stato lui è molto probabile che lui non si ricordi di quanto è accaduto solo vedete sarebbe meglio molto meglio se fosse stato Dmitri Fiodorovic ad ammazzare e deve essere stato così anche se ho detto che è stato Grigori ma è stato sicuramente Dmitri Fiodorovic e questo è meglio molto meglio ma non è meglio che un figlio abbia ammazzato il padre io non giustifico una cosa del genere al contrario i figli devono portare rispetto ai genitori solo che sarebbe meglio se fosse stato lui perché così non avreste nulla per cui piangere perché lui è ucciso senza rendersene conto anzi per meglio dire rendendosi conto di tutto ma senza sapere che cosa stesse facendo che lo assolvano sarebbe un atto così umano e dimostrerebbe che bella istituzione sono i nuovi tribunali io non ne sapevo niente ma dicono che ci siano da molto tempo e quando l'ho saputo ieri sono rimasta molto colpita tanto che volevo mandarvi a chiamare immediatamente e poi se lo solveranno verrà dritto dritto dal tribunale a casa mia a pranzo io inviterò i conoscenti e brinderemo ai nuovi tribunali non penso che sarebbe pericoloso ma in ogni caso inviterò molti ospiti in modo che lo si possa condurre fuori se combina qualcosa e poi potrebbe fare il giudice di pace o qualcosa del genere in qualche altra città perché coloro che hanno subito una disgrazia sanno giudicare meglio e poi chi è che non soffre di alterazione in questi giorni voi io siamo tutti in balia dell'alterazione e quanti esempi si possono fare un uomo canticchia una canzone ad un tratto qualcosa non gli piace prende una pistola e uccide chi capita e viene assolto l'hanno confermato alcuni dottori i dottori adesso confermano confermano tutto beh anche la mia lise si trova in uno stato di alterazione giusto ieri ho pianto per causa sua e anche avanti ieri e oggi ho capito che è in preda all'alterazione oh quanti dispiaceri mi dà quella lise penso che sia impazzita del tutto perché vi ha mandato a chiamare vi ha mandato a chiamare lei o siete venuto a trovarla di vostra iniziativa è stata lei a mandarmi a chiamare e adesso ci vado subito agli ossa si mosse per alzarsi risoluto oh caro caro alexei fiodorovic forse proprio questa la cosa essenziale gridò la signora cioclacova scoppiando in lacrime dio sa che io vi affido lisa in tutta sincerità e non fa nulla che ella vi abbia mandato a chiamare di nascosto da sua madre ma ad ivan fiodorovic vostro fratello scusatemi a lui non posso affidare mia figlia con tanta leggerezza anche se continuo a considerarlo il giovanotto dalle maniere più cavalleresche che conosca tutto ad un colpo improvvisamente è venuto a trovare Elise e io che non sapevo niente come che dite quando domandava gli ossa sopraffatto dallo stupore non si era riseduto ascoltava in piedi adesso ve lo racconto forse vi ho fatto chiamare proprio per questo perché ormai non lo so più perché vi ho mandato a chiamare allora ivan fiodorovic è venuto a trovarmi soltanto due volte dopo il suo ritorno da mosca la prima volta è venuto per una visita di cortesia la seconda è stata non molto tempo fa katia era da me e lui sapendolo è passato di qui io certo non pretendevo che venisse a trovarmi troppo spesso sapevo di quante cose dovesse occuparsi in quel periodo vous comprendez cette affaire et l'amour terrible de votre papa quand'ecco che vengo a sapere che era venuto un'altra volta in casa mia non a trovare me ma a trovare lise questo risale a sei giorni fa è venuto si è trattenuto cinque minuti ed è andato via ne ho avuto notizie a tre giorni più tardi da glafira e la cosa mi ha improvvisamente frappirato faccio chiamare subito lise quella si mette a ridere e mi dice che ivan fiodorovic pensava che io stessi dormendo e così era passato da lei per chiederle notizie sulla mia salute certo deve essere stato così soltanto che lise lise quanto mi fa soffrire figuratevi che una notte quando siete stato qui l'ultima volta dopo che ve ne eravate andato nottetempo dunque le venne una crisi grida strilli isterismi perché a me non vengono mai gli attacchi isterici poi il giorno dopo un altro attacco e anche due giorni dopo e ieri ieri le è venuto quell'attacco di alterazione si è messa a gridare all'improvviso io odio ivan fiodorovic esigo che non lo riceviate più che non lo facciate più entrare in casa rimagi di stucco per la sorpresa le replicai per quale motivo dovrei rifiutare di ricevere un giovanotto così per bene e per di più con tale cura e così aggraziato pure dal momento che tutti questi avvenimenti sono disgrazie non certo fortuna è vero lei si è messa inaspettatamente a ridere lei si è messa inaspettatamente a ridere a queste mie parole e sapete in maniera così offensiva beh ero contenta pensavo che avendola fatta ridere i suoi attacchi sarebbero passati tanto più che io stessa volevo proibire a ivan fiodorovic di fare strane visita senza il mio consenso e chiedergli spiegazioni solo che all'improvviso stamattina l'izza si è svegliata e si è arrabbiata con Giulia e figuratevi le ha dato un ceffone ma tutto questo è monstruoso io alle mie cameriere do del voi e poi un'ora dopo si mette ad abbracciare Giulia le baciava i piedi mi ha mandato un messaggio per dirmi che non sarebbe venuta per niente a trovarmi e che non voleva venire neanche in futuro e che quando mi sono trascinata io stesso da lei lei si è messa a baciarmi piangeva e mentre mi baciava mi spingeva fuori dalla stanza senza dire una parola così non ho potuto scoprire di che cosa si trattava adesso caro le xiai fiodorovic ripongo in voi tutte le mie speranze e naturalmente il destino di tutta la mia vita nelle vostre mani vi chiedo semplicemente di andare da lise e scoprire da lei tutto come soltanto voi sapete fare e poi venire da me da me che sono sua madre perché capite io morirò semplicemente morirò se tutto questo dovesse continuare oppure scapperò di casa non ce la faccio più io ho pazienza ma potrei anche perderla e allora saranno dolori dio mio finalmente è arrivato piotr ilic esclamò tutta raggiante la signora cioclacova vedendo entrare piotr ilic perciò tin siete in ritardo siete in ritardo beh allora sedetevi parlate non teneteci con il fiato sospeso allora che dice l'avvocato dove andate alexei fiodorovic talise ah si non vi dimenticate non dimenticate di quello che vi ho chiesto è questione di vita o di morte certo che non lo dimenticherò se solo sarà possibile ma sono in ritardo mormorò agli oscia battendo una rapida ritirata no assolutamente passate da me assolutamente non dico se è possibile altrimenti potrei morire gli gridò dietro la signora cioclacova ma agli oscia era già uscito dalla stanza un demonietto un demonietto entrando in camera di lisa la trovò mezza sdraiata nella sua sedia di un tempo quella nella quale la trasportavano quando ancora non era in grado di camminare ella non si mosse per andargli incontro ma fissò uno sguardo vicile e penetrante su di lui lo sguardo era leggermente febbrile la faccia pallida giallizza agli oscia era allibito del cambiamento avvenuto in lei in quei tre giorni era persino dimagrita e la non gli ha dette la mano fu lui che sfirò le ditina lunghe e sottili che giacevano immobili sul vestito e senza dire una parola si sedette di fronte a lei lo so che voi avete fretta di andare al carcere disse bruscamente e la mamma vi ha trattenuto due ore e adesso vi ha raccontato di me e di Giulia come fate a saperlo domandò agli oscia ho origliato perché mi guardate così origlio quanto mi pare e piace non c'è niente di male non chiedo scusa siete sconvolta per qualche motivo vero al contrario sono molto contenta proprio adesso stavo riflettendo per la trentesima volta che è stato proprio un bene che io abbia rifiutato di diventare vostra moglie voi non siete fatto per diventare un marito se io vi sposassi e un giorno vi desse un bigliettino da consegnare a colui del quale mi sono innamorata dopo di voi voi lo prendereste e glielo portereste sicuramente e portereste indietro pure la risposta eppure all'età di 40 anni stareste ancora a portare in giro i miei bigliettini e scoppiò a ridere c'è qualcosa di risentito e allo stesso tempo di ingenuo in voi le sorrisse agli oscia l'ingenuo è dovuto al fatto che non mi vergogno di voi e non solo non mi vergogno ma non voglio nemmeno vergognarmi proprio davanti a voi proprio davanti a voi agli oscia perché io non vi stimo vi amo moltissimo ma non vi stimo se vi stimassi non parlerai così senza vergognarmi vero? è così e ci credete che io non provo vergogna dinnanzi a voi? no non ci credo lisa scoppiò di nuovo a ridere nervosamente parlava in fretta rapidamente ho mandato dei cioccolatini alla prigione per vostro fratello Dmitri Fiodorovic agli oscia sapete siete proprio buono io vi amerò da morire per il fatto che mi avete dato con tanta prontezza il permesso di non amarvi per quale motivo mi avete mandato a chiamare oggi lisa vorrei mettervi a parte di un mio desiderio vorrei avere qualcuno che mi tormentasse che mi sposasse e poi mi tormentasse mi ingannasse se ne andasse di casa io non voglio essere felice avete preso ad amare la sregolatezza io voglio la sregolatezza continuo a desiderare di appiccare fuoco alla casa continuo a immaginare come mi avvicinerò pian pianino e appiccherò il fuoco alla chetichella deve essere assolutamente alla chetichella quelli cercheranno di spegnerlo ma il fuoco continuerà ad ardere e io saprò ma non parlerò che sciocchezza che noia oggi tol la mano in un gesto di disgusto è la vostra vita agiata disse Agiosha con voce sommessa sarebbe meglio allora essere poveri sì meglio è quello che vi ha insegnato il vostro monaco defunto ma non è vero lasciamo pure che io sia ricca e che tutti gli altri siano poveri io mangerò cioccolatini e berrò crema senza darli a nessuno non parlate non dite nulla ho citato la manina senza che Agiosha avesse aperto bocca mi avete già detto tutto so tutto a memoria che noia se fossi povera potrei ammazzare qualcuno e anche da ricca potrei ammazzare qualcuno piuttosto che stare senza far niente ma sapete io voglio mietere mietere la segale sposerò voi e voi diventerete contadino un vero contadino avremo un puledrino volete conoscete Kalganov lo conosco non fa che vagabondare e sognare lui dice a che scopo vivere la vita reale quando è meglio sognare si possono sognare le cose più allegre mentre la vita reale è una tale noia comunque si sposerà presto lo stesso ha chiesto la mano persino a me sapete far girare una trottola sì ecco lui è come una trottola bisogna avvolgere il filo farlo rotolare e poi frustarlo 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 con una verga se lo sposassi continuerai a farlo girare per tutta la vita non vi vergognate di stare qui con me no voi siete molto irritato perché non parlo di argomenti santi ma io non voglio essere santa che cosa ti fanno all'altro mondo se hai commesso il più grave dei peccati voi dovreste saperlo con esattezza Dio vi condannerà rispose Agiosha guardandola fisso proprio quello che voglio io io mi presenterei quelli mi condannerebbero e io scoppierei a ridere in faccia ha una voglia pazza di appiccare fuoco alla casa Agiosha alla nostra casa voi continuate a non credermi perché no ci sono persino bambini sui dodici anni che sono presi da una gran voglia di dar fuoco a qualcosa e lo fanno è una specie di malattia non è vero non è vero questo discorso vada per i bambini ma non per me voi confondete il male con il bene questa crisi passeggera potrebbe essere un effetto della vostra malattia di un tempo forse così voi mi disprezzate c'è solo che io non voglio fare del bene voglio fare male e qui la malattia non c'entra un bel niente perché fare male in modo da distruggere ogni cosa come sarebbe bello se non rimanesse più nulla sapete Agiosha alle volte penso di fare molto molto male reazioni più crudele di farle per molto tempo di nascosto e poi di essere scoperta all'improvviso e allora tutti mi si fanno intorno e mi additano e io li guardo tutti è molto piacevole perché è così piacevole Agiosha così c'è il bisogno di soffocare qualcosa di buono oppure come dite voi di appiccare fuoco a qualcosa sono cose che succedono io non solo lo dico ma lo farò ci credo quanto vi amo perché dite ci credo e non mentite affatto o forse pensate che stia facendo tutto questo per stuzzicarvi no non lo penso anche se forse c'è anche un po' di questo desiderio un po' c'è non mentirò mai davanti a voi disse lei con un certo fuocherello che le infiammava gli occhi la serietà di lei colpiva Agiosha più di ogni altra cosa non c'era ombra di ironia o scherzo nei suoi occhi sebbene in passato l'allegria e la voglia di scherzare non l'avessero mai abbandonata neanche nei suoi momenti più seri ci sono momenti in cui gli uomini amano il crimine disse Agiosha pensieroso sì sì avete espresso il mio pensiero lo amano tutti lo amano lo amano sempre e non in alcuni momenti sapete in questo è come se tutti si fossero messi d'accordo di mentire una volta per tutte e tutti da quel momento in poi abbiamo mentito tutti dicono che odiano il male ma poi dentro di sé lo amano e voi continuate a leggere cattivi libri certo li legge la mamma e poi li nasconde sotto il cuscino io vado e li rubo come non vi vergognate a distruggere voi stessa io voglio distruggere me stessa c'è un ragazzo in città che si è straiato fra i binari e ha aspettato che gli passasse sopra il treno che ragazzo fortunato ascoltate adesso vostro fratello verrà condannato perché ha ammazzato il padre e tutti amano che lui abbia ammazzato il padre amano che abbia ammazzato il padre amano tutti lo amano tutti dicono che è una cosa terribile ma dentro di sé lo amano da impazzire io sono la prima ad amarlo nelle vostre parole riguardo a quello che provano tutti c'è un po' di verità disse Iosha sommessamente che idea è che avete strillò Lisa in estasi e siete un monaco voi non ci credereste se vi dicessi quanto vi stimo per il fatto che non mentite mai vi racconterò un sogno ridicolo che ho fatto alle volte sogno i diavoli è notte mi trovo nella mia stanza con la candela e all'improvviso vedo che è tutto pieno di diavoli ce ne sono in tutti gli angoli anche sotto il tavolo aprono le porte dietro le porte ce n'è una folla e vogliono entrare a prendermi sono già vicini stanno già per afferrarmi quando ad un tratto mi faccio il segno della croce e quelli indietrezzano hanno paura ma non se ne vanno via rimangono presso le porte negli angoli in attesa e allora mi prende una voglia di bestemmiare Dio e comincio a bestemmiare e allora quelli si ammassano contro di me tutti contenti e stanno di nuovo per afferrarmi ma io mi rifaccio il segno della croce e tutti si muovono indietro è divertente da morire bastare con il fiato sospeso anche io ho fatto lo stesso sogno disse Agliosha all'improvviso davvero? gridò Liza stupita ascoltate Agliosha non ridete è una cosa della massima importanza è forse possibile che due persone facciano lo stesso sogno? certo che è possibile Agliosha ve lo ripeto è della massima importanza continuava Liza con uno stupore quasi esagerato non conta il sogno in se stesso ma il fatto che voi abbiate fatto lo stesso sogno che ho fatto io voi non mi mentite mai non mi state mentendo neanche adesso vero? voi non state scherzando è la verità Liza era terribilmente impressionata e rimase in silenzio per un mezzo minuto Agliosha venite a trovarmi venite a trovarmi più spesso disse poi con voce implorante verrò sempre tutta la vita verrò a trovarvi rispose Agliosha con fermezza io parlo soltanto a voi prese a dire parlo soltanto a me stessa e a voi a voi solo in tutto il mondo lo dico a voi più volentieri che a me stessa io non ho affatto vergogna davanti a voi Agliosha perché io non ho affatto vergogna di voi perché Agliosha è vero che gli ebrai a Pasqua rapiscono i bambini per scannarli non lo so io ho un libro dove si racconta di un processo tenutosi da qualche parte contro un ebreo che ha un bambino di quattro anni prima gli aveva tagliato le ditina di tutte e due le mani e poi lo aveva crocifisso sulla parete lo avevano inchiodato e poi al processo aveva detto che il bambino era morto subito dopo quattro ore e questo sarebbe subito diceva che il bambino gemeva gemeva e lui se ne stava lì ad ammirare lo spettacolo è una cosa bella una cosa bella bella a volte penso di essere stata io stessa a crocifiggerlo lui se ne sta lì appeso e piange mentre io me ne sto seduta di fronte rimango la mia compò di ananas mi piace moltissimo la compò di ananas a voi piace Agliosha taceva e la guardava il viso pallido giallognolo di lei si alterò all'improvviso gli occhi le si fecero di brace sapete quando ho letto di quell'ebreo ho passato tutta la notte a piangere mi immaginavo quel bimbetto che gridava e piangeva i bambini di quattro anni capiscono già sapete eppure quel pensiero della compò di ananas non mi abbandona la mattina dopo mandai una lettera a una persona perché venisse assolutamente da me e gli venne e io gli raccontai subito del bambino e della compote gli raccontai tutto tutto e gli dissi che era una bella cosa lui scoppiò a ridere e disse che era veramente una bella cosa dopodiché si alzò e se ne andò si era trattenuto cinque minuti in tutto mi disprezzava mi disprezzava ditemi ditemi Agliosha mi disprezzava o no si drizzò sul canapè con gli occhi scintillanti dite disse Agliosha agitato siete stata voi a chiamarla quella persona si io gli avete mandato una lettera si una lettera per chiedergli proprio quello il fatto del bambino no niente affatto per quello ma non appena è entrato gli ho chiesto subito di quello lui gli ha risposto si è messo a ridere si è alzato e se ne è andato quella persona si è comportata onestamente con voi disse Agliosha in tono sommesso ma mi disprezzava rideva no è perché egli stesso forse crede nella compota di Ananas anche lui sta molto male adesso Lise si ci crede disse Lise con gli occhi che le scintillavano egli non disprezza nessuno proseguiva Agliosha solo che non crede in nulla se non crede alla gente è logico che disprezzi la gente allora anche me anche me anche voi è una bella cosa disse Lise digrignando i denti quando si è messo a ridere io ho sentito che il disprezzo era una bella cosa sia il bambino con le dita tagliate sia essere disprezzati sono una bella cosa e scoppiò in una risata perfida e febbrile in faccia ad Agliosha sapete Agliosha sapete io vorrei Agliosha salvatemi balzò in piedi di colpo dal canapè si slanciò verso di lui e lo abbracciò forte salvatemi si mise quasi a gemere esiste forse qualcun altro al mondo al quale potrei dire quello che ho detto a voi perché ho detto la verità la verità la verità io mi ucciderò perché tutto mi disgusta io non voglio vivere perché tutto mi disgusta tutto Agliosha perché non mi amate neanche un pochino neanche un pochino conclusa in preda alla frenesia no ma io vi amo rispose con calore Agliosha e piangerete per me piangerete piangerò non per il fatto che non ho voluto diventare vostra moglie ma semplicemente per me solo per me lo farò grazie ho bisogno soltanto delle vostre lacrime tutti gli altri possono punirmi e schiacciarmi sotto i piedi tutti tutti nessuno escluso perché io non amo nessuno avete capito nessuno al contrario odio tutti andate Agliosha è ora che andiate da vostro fratello si svincolò all'improvviso da lui come posso lasciarvi in questo stato disse Agliosha quasi spaventato andate da vostro fratello chiuderanno la prigione andate ecco il vostro cappello lasciate Mitia da parte mia andate andate e spinge Agliosha verso la porta quasi con forza quello aveva uno sguardo di dolorosa perplessità quando all'improvviso ci sentì una lettera nella mano destra una minuta letterina piegata stretta stretta e sigillata e gli dette una rapida occhiata e lesse l'indirizzo in un attimo a Ivan Fiodorovich Karamazov gettò un'occhiata a Aliza il viso di lei si era fatto quasi minaccioso consegnatela consegnatela ad ogni costo ordino lei frenetica e tremante oggi adesso altrimenti mi avvelenerò è per questo che vi ho fatto chiamare e sbatté la porta con vigore si è di una mandata di chiave nella serratura Agiosha si infilò la lettera in tasca e andò dritto alle scale senza passare dalla signora Cioclacova persino dimentico di lei mentre Liza non appena Agiosha si fu allontanato sbloccò la serratura dischiuse appena appena la porta infilò il dito nella fessura e sbattendo la porta lo schiacciò con tutta la forza che aveva una decina di secondi dopo liberata la mano tornò alla sua poltrona in silenzio pian pianino si sedette e tutta dritta si mise a fissare il suo ditino ennerito e il sangue che sprizzava da sotto l'unghia le labbra le tremavano e sussurrava rapida rapida tra sé e sé sono una vigliacca 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 un inno e un segreto era già decisamente tardi del resto a novembre le giornate sono corte quando Aglioshas suonò alle porte del carcere cominciava addirittura ad imbrunire ma Aglioshas sapeva che lo avrebbero lasciato entrare da mitia senza difficoltà da noi le cose vanno esattamente come da tutte le altre parti all'inizio ovviamente a conclusione dell'istruttoria preliminare i parenti e una ristretta cerchia di altre persone potevano ottenere colloqui con mitia solo sottostando a certe inevitabili di formalità ma in seguito non che questi avessero perduto forza ma per alcune persone che andavano a trovare mitia si erano instaurate spontaneamente delle eccezioni si era arrivati al punto che gli incontri con il recluso nella camera apposta avvenivano praticamente a quattro occhi del resto il numero di queste persone era molto ristretto si trattava soltanto di Grushenka Agliosh c'era Kittin era il capo della polizia in persona Mikhail Makrovich a favorire molto Grushenka al vecchio pesava sulla coscienza la sfuriata che le aveva fatto a Mokroe ma poi saputa tutta la storia aveva cambiato completamente parere sul conto di quella donna è strano a dirsi sebbene fosse fermamente convinto della colpevolezza di mitia durante il periodo della sua reclusione pervenne a più mite giudizio nei suoi confronti era un uomo buono di cuore ma poi a causa del bere e della dissipatezza si è rovinato come uno svedese l'orrore che aveva provato inizialmente nei suoi confronti si era trasformato in pietà quanto ad Agliosh poi il capo della polizia gli voleva un gran bene si conoscevano ormai da molto tempo mentre Rakitin che ultimamente aveva preso l'abitudine di venire a trovare molto spesso il detenuto era uno dei più assidui frequentatori delle signorine del capo della polizia come le chiamava lui e ogni giorno bighellonava in casa loro inoltre egli dava lezioni in casa del direttore della prigione un bravo vecchietto anche se un po' rigido nell'esecuzione del proprio dovere Agliosha era legato da una particolare amicizia di lunga data anche al direttore della prigione che si dilettava a conversare con lui soprattutto di argomenti elevati egli rispettava a Ivan Fiodolovic e aveva persino soggezione dei suoi giudizi sebbene egli stesso fosse un gran filosofo autodidatta si intende ma un'inarrestabile simpatia lo legava ad Agliosha nel corso di quell'anno il vecchio si era messo a studiare i Vangeli apocrifi e discuteva di continuo le sue impressioni con il giovane amico in passato era solito andare a trovarlo in monastero per discutere con lui e con gli eromonaci per ore intere insomma seppure Agliosha fosse arrivato in ritardo alla prigione gli sarebbe bastato andare dal direttore e tutto si sarebbe sistemato tanto più che tutti dal direttore all'ultima sentinella erano abituati a vedere Agliosha nel carcere e la guardia non si faceva certo tanti scrupoli fin tanto che c'era il permesso dei superiori quando Mitia veniva chiamato dalla sua cella scendeva ogni volta di sotto nel locale destinato ai colloqui entrando Agliosha si imbette proprio in Rakitin che si stava congedando da Mitia entrambi parlavano ad alta voce Mitia lo stava accompagnando alla porta e rideva allegramente mentre sembrava che Rakitin brontolasse Rakitin soprattutto negli ultimi tempi non gradiva incontrare Agliosha a momenti non gli rivolgeva la parola ed era persino restivo a salutarlo vedendo Agliosha entrare egli si accigliò in modo particolare e distolse lo sguardo come se fosse tutto preso ad abbottonare il suo ampio cappotto pesante con il bavolo di pelliccia poi si mise subito a cercare il suo ombrello devo badare a non dimenticare le mie cose borbottò tanto per dire qualcosa cerca di non dimenticare le cose degli altri ironizzò Mitia scoppiando subito a ridere alla propria battuta Rakitin perse le staffe in un attimo tu faresti meglio a dare consigli ai Karamazov razza di conservatori che non siete altro e non a un Rakitin gridò ad un tratto tremante di stizza ma perché te la prendi tanto stavo scherzando gridò Mitia ma va al diavolo sono tutti uguali disse rivolta ad Agliosha indicando a Rakitin che se n'era andato in tutta fretta prima se ne stava seduto rideva era tutto allegro e poi all'improvviso ha perso le staffe non ti ha nemmeno fatto un cenno di saluto ma che avete litigato come mai sei venuto così tardi ti ho aspettato anzi ho desiderato ardentemente il tuo arrivo per tutta la mattinata ma non fa nulla ci rifaremo come mai viene a trovarti così spesso che avete forse fatto amicizia domandò Agliosha indicando anche lui con il capo la porta dalla quale era uscito Rakitin fare amicizia con Mikael no non è questo e poi quello è un maiale mi considera un mascalzone e poi non capisce nemmeno gli scherzi e questa è la cosa peggiore in lui e non li capirà mai ha un cuore arido piatto è arido come quando stavo per arrivare qui al carcere e guardavo le mura della prigione ma è un uomo intelligente sì intelligente beh Alexei il mio cervello è in fumo egli si sedette sulla panca e fece sedere Agliosha accanto a sé sì domani ci sarà il processo è proprio vero che non utile alcuna speranza fratello dice Agliosha timidamente di che cosa stai parlando Mitielo guardò con un'aria incerta stai parlando del processo beh al diavolo fino ad ora abbiamo parlato di sciocchezze sempre di quel processo mentre ho taciuto su tutto quello che conta di più sì domani ci sarà il processo ma non stavo parlando del processo quando dicevo che ho il cervello in fumo ma è quello che avevo dentro il cervello perché mi guardi con un'aria così severa che cosa vuoi dire Mitia idee idee ecco cosa l'etica che cos'è l'etica l'etica si stupì Agliosha sì è una scienza sì c'è una scienza che si chiama così solo che devo ammettere non ti so spiegare di che scienza si tratti Rakitin lo sa Rakitin sa molte cose che il diavolo se lo piglie non ha intenzione di farsi monaco sta per andare a Pietroburgo là dice che si occuperà di critica ma per scopi elevati chissà potrebbe essere utile a far carriera i tipi come lui sono dei maestri a far carriera ma al diavolo l'etica sono spacciato Alexei lo sono davvero uomo di dio io ti amo più di qualunque altro al mondo mi sobbalza il cuore quando ti guardo ecco cosa chi era Carl Bernard Carl Bernard si stupì agli oscia ancora una volta no non Carl aspetta mi sono confuso Claude Bernard chi era chimica o che altro deve essere uno scienziato rispose agli oscia solo che devo ammettere non ti so dire molto di lui ho sentito solo che è uno scienziato ma che tipo di scienziato non lo so beh che vada al diavolo allora non lo so neanche io imprecò Mitia un mascalzone come un altro molto probabilmente del resto sono tutti mascalzoni ma Rakitin farà strada Rakitin farà strada per il rotto della cuffia pure lui è un Bernard ah questi Bernard quanti ne sono spuntati ma che cosa c'entra con te domandò agli oscia con insistenza vuole scrivere un articolo su di me sul mio caso e così dare inizio alla sua carriera letteraria viene proprio per questo me lo ha detto lui stesso vuole provare una certa teoria vuole dimostrare che non poteva fare a meno di uccidere era stato corrotto dall'ambiente e così via mi ha spiegato dice che ci metterà dentro anche una sfumatura di socialismo ma che il diavolo si piglia anche lui con sfumatura o senza sfumatura per me fa lo stesso non gli piace affatto il fratello Ivan lo odia non gli piace nemmeno tu io non lo caccio via perché è un uomo intelligente si dà un sacco di alie però gli ho appena detto i Karamazov non sono mascalzoni sono filosofi perché tutti i veri russi sono filosofi invece tu pure ci hai studiato sei un servo della gleba e lui si è messo a ridere con aria risentita e io gli ho detto de pensieribus non est disputandum bella battuta se non altro mi sono addentrato anche io nel mondo dei classici ridacchiò Mitia perché dici di essere spacciato l'hai appena detto lo interruppe Agiosha perché sono spacciato in realtà se consideri la faccenda nel complesso mi dispiace per Dio ecco perché che cosa intendi con mi dispiace per Dio immagina i nervi nella testa cioè i nervi sono nel cervello che vadano al diavolo ci sono pure una specie di codine le codine dai nervi appunto e non appena quelle si agitano cioè quando guardo qualcosa con gli occhi ecco quelle codine cominciano ad agitarsi e appare l'immagine ma non subito passa un attimo un secondo e poi compare una specie di momento cioè non un momento che va dal diavolo il momento ma un'immagine cioè un oggetto oppure un avvenimento che va dal diavolo ecco perché io vedo e poi penso per via delle codine e non già perché ho un'anima e sono fatto ad immagine e somiglianza quelle sono tutte fandonie questo fratello me lo ha spiegato Michael ieri e mi ha semplicemente messo il fuoco addosso è magnifica l'oscia questa scienza sta nascendo un uomo nuovo questo lo capisco tuttavia mi dispiace per Dio beh comunque è una buona cosa disse l'oscia che mi dispiace di perdere Dio è la chimica fratello la chimica non c'è niente da fare reverendo fatevi un pochino più in là sta arrivando la chimica e l'achitin non ama affatto Dio non lo ama per niente questo è il punto dolente in tutti quelli come lui ma lo nascondono mentono fingono hanno intenzione di professare questo ha intenzione di professare questo quando ti occuperai di critica gli domando se lo facessi apertamente non me lo consentirebbero mi risponde ridendo ma che ne sarà degli uomini allora senza Dio senza vita futura dunque sarebbe tutto permesso allora adesso si potrebbe fare tutto che non lo sapevi mi dice ride all'uomo intelligente tutto è permesso l'uomo intelligente sa come cavarsela in ogni situazione mentre tu hai ammazzato hai messo il piede in fallo e stai marcendo in prigione e me lo dice in faccia un vero maiale prima le prendevo a calci le persone così mentre adesso le ascolto dice pure molte cose sensate scrive anche in maniera intelligente una settimana fa ha cominciato a leggermi un articolo ne ho trascritto tre righe ecco aspetta sono qui miti estrasse in fretta dalla tasca del panciotto un foglietto e lesse al fine di risolvere cotesta questione occorre prima di tutto porre la propria personalità in contraddizione con la propria attività lo capisci questo no non capisco disse Iosha questo osservava miti a incuriosito e lo ascoltava attento non lo capisco neanche io è nebuloso poco chiaro però è intelligente tutti scrivono così adesso dice è un effetto dell'ambiente hanno paura dell'ambiente scrive anche versi il mascalzone ha decantato il piedino della cioclacova l'ho sentito dire disse Iosha l'hai sentito dire e i versi li hai sentiti no io li ho ecco adesso te li leggo tu non lo sai non te l'ho raccontato ma qui c'è tutta una storia dietro mascalzone tre settimane fa gli è saltato in mente di stuzzicarmi mi fa tu hai messo il piede in fallo come un imbecille solo per tremila rubli mentre io ne spillerò centocinquantamila mi sposerò una vedovella e mi comprerò una casa in muratura a Pietroburgo e mi disse che stava corteggiando la cioclacova la quale se da giovane non era stata una grande mente adesso a quarant'anni aveva perso anche quel po' di cervello che aveva ma è una molto sentimentale e io la conquisterò proprio grazie a questo la sposerò la condurrò a Pietroburgo e lì fonderò un giornale e mentre lo diceva aveva una animalesca la scivabava alla bocca non già per la cioclacova ma per quei centocinquantamila rubli e mi aveva convinto mi aveva convinto veniva sempre a trovarmi ogni giorno sta cedendo mi diceva e raggiava dalla gioia ma tutto ad un tratto lo hanno cacciato perciò Tim Pietro Ilic ha avuto la meglio bravo mi verrebbe voglia di baciarla quell'oca per averlo cacciato via di casa veniva a farmi visita e intanto aveva composto quei versucoli mi fa è la prima volta che mi sporco le mani che scrivo dei versi di adulazione ma per uno scopo utile una volta messe le mani sul capitale dell'oca potrò dare il mio contributo alla società quelli come lui mettono sempre avanti la giustificazione sociale per ogni turpitudine che compiono comunque mi fa ho scritto meglio del tuo Puskin dal momento che anche in una poesiola scherzosa come questa ho saputo infilarci dell'afflizione sociale quello che vuol dire su Puskin lo capisco che farci se da un uomo di talento qual era ha descritto soltanto piedini femminili ma vedessi come andava fiero dei suoi versucoli hanno una presunzione quelli come lui una presunzione sulla convalescenza del piedino malato del mio bene amato ha pensato a questo titolo è un uomo brillante quel piedino quel piedino si è gonfiato un pochettino i dottori arrivano curano e bendano ma alla guarigione non pervengono non per i piedini io temo tema quello per Puskin più adatto ma per la testolina io temo che di un'idea non vuol prendere atto lei capiva un pochettino ma il piedino l'ha ostacolata che guarisca quel piedino e l'idea si è riacquistata un maiale un vero maiale ma gli è riuscita una cosa spiritosa quel farabutto e ci ha davvero inserito qualcosa di sociale e come si è arrabbiato quando l'hanno cacciato digrignava i denti si è subito venticato disse agli oscia ha scritto quella corrispondenza sulla cioclacova e agli oscia gli raccontò in breve il contenuto del trafiletto comparso sul giornale di cerie è stato lui lui conferma mitia ciliandosi è stato lui queste corrispondenze si sono al corrente delle meschinità che hanno scritto su grusca per esempio e su quell'altra pure su katia camminava per la stanza con aria pensierosa fratello non posso trattenermi a lungo disse agli oscia dopo una pausa domani sarà un giorno terribile importante per te si compirà il giudizio di dio su di te e io sono stupito dal tuo comportamento vai avanti e indietro e invece di parlare delle cose importanti discorrere di dio sa cosa no non ti meravigliare lo interrompe mitia calorato devo forse parlare di quel fetido cane dell'assassino ne abbiamo parlato abbastanza io e te non voglio più parlare di quel fetente del figlio della smerdasca di dio lo ucciderà vedrai adesso taci egli si accostò dagli oscia tutto agitato e lo baciò di sorpresa gli occhi gli brillavano rachiti questo non lo capirebbe presa dire in preda una sorta di esaltazione mentre tu tu capisci tutto ecco perché desideravo tanto che tu venissi vedi ci sono molte cose che avrei voluto dirti da un pezzo qui tra queste mura scalcinate ma ho taciuto sulle cose fondamentali mi sembrava che non venisse mai il momento giusto ho aspettato sino all'ultimo per dar sfogo alla mia anima fratello in questi due mesi nel mio intimo mi sono sentito un uomo nuovo in me è risorto un uomo nuovo era rinchiuso dentro di me ma non si sarebbe mai manifestato se non fosse stato per questo colpo terribile e che importa se dovrò trascorrere nelle miniere vent'anni a spaccare i minerali con il martello questo non mi fa affatto paura ho paura di ben altro ho paura che si allontani da me l'uomo risorto anche lì nelle miniere sottoterra ti si può trovare al proprio fianco il cuore umano di un ergastolano di un assassino e si può fare amicizia con lui giacché anche lì si può vivere amare e soffrire si può far rinascere e risuscitare in quell'ergastolano un cuore raggelato si può curare per anni e portare dal buio alla luce un'anima sublime una coscienza sofferente si può dare la vita a un angelo risuscitare un eroe ce ne sono molti a centinaia e noi siamo tutti colpevoli per loro altrimenti perché avrei sognato quella creatura proprio in quel momento perché è povera quella creatura è stata una profezia per me in quel momento è per quella creatura che sono pronto ad andare perché siamo tutti colpevoli per tutti gli altri per tutte le creature perché ci sono i bambini piccoli e quegli adulti sono tutte creature ci andrò per tutti poiché qualcuno ci dovrà pure andare non ho ucciso nostro padre ma devo andare lo accetto ho pensato a tutto questo mentre mi trovavo fra queste mura scalcinate quelli sono molti sono centinaia la sottoterra con i martelli in mano oh sì staremo in catene e non ci sarà libertà ma allora nel nostro grande dolore noi risusciteremo in quella gioia senza la quale l'uomo non può vivere né Dio esistere già che Dio da gioia è il suo grande privilegio signore che l'uomo ci sciolga nella preghiera come potrai vivere sottoterra senza Dio la chiti in mente se cacciassero Dio dalla terra noi gli daremmo rifugio sottoterra è impensabile che l'ergastorano viva senza Dio persino più impensabile che per un uomo libero e allora noi uomini del sottosuolo delle viscere della terra innalzeremo un tragico inno a Dio presso il quale è la gioia e viva il Dio e la sua gioia io lo amo amici mancava quasi il fiato mentre pronunciava questo discorso sconclusionato era impallidito le labbra gli tremavano e dagli occhi gli rotolavano lacrime sul viso no la vita è ricca c'è vita persino sottoterra ricominciò tu non ci crederai Alexei a quanta voglia io abbia di vivere quale brama di esistere e conoscere sia assorta in me proprio tra queste mura scalcinate l'achitin questo non lo può capire quello che gli preme è costruire un edificio e dare in affitto gli appartamenti ma io aspettavo te e che cos'è la sofferenza non la temo anche se fosse sconfinata adesso non ho paura prima sì sai forse al processo non risponderò nemmeno e mi sembra di avere tanta di quella forza in questo momento da poter sconfiggere tutto tutte le sofferenze pur di poter dichiarare e dire a me stesso ogni istante io sono fra mille tormenti io sono arrogo io sono me ne sto attaccato alla colonna ma esisto vedo il sole e se non vedo il sole so che c'è e sapere che c'è il sole è già tutta la vita agli oscia mio cherubino tutte queste filosofie mi ammazzano che vadano al diavolo il fratello Ivan il fratello Ivan che cosa lo interruppe agli oscia ma mitia non aveva sentito vedi prima non avevo tutti questi dubbi ma tutto questo si celava dentro di me forse proprio perché si agitavano in me idee che non capivo io mi ubriacavo prendevo a botte facevo il diavolo a quattro era tutto per soffocarle in me stesso per reprimerle il fratello Ivan non è come era Kitty lui cova un'idea il fratello Ivan è una sfinge e sta zitto sta sempre zitto invece io sono tormentato da Dio è solo questo che mi tormenta e se Dio non esistesse che succederebbe se avesse ragione la Kitty e l'idea di Dio fosse un'invenzione dell'umanità allora se Dio non esistesse l'uomo sarebbe il padrone della terra del creato magnifico solo che come farà ad essere virtuoso senza Dio ecco qual è la questione penso sempre a questo già che allora l'uomo chi potrà amare a chi sarà grato in onore di chi intonerà il suo inno la Kitty se la ride la Kitty sostiene che si può amare l'umanità anche senza Dio beh solo un omiciatolo moccioso poteva affermare una cosa del genere mentre io non riesco a capire per la Kitty la vita è facile tu mi hai detto oggi stesso faresti meglio a preoccuparti della diffusione dei diritti civili o almeno che non aumenti il prezzo della carne di manzo così facendo potresti dimostrare il tuo amore per l'umanità in modo più semplice e immediato che non con tutte le varie filosofie e io gli ho ribattuto ma senza Dio è più probabile che tu stesso alzi il prezzo della carne non appena ne avrai occasione per ricavare un rublo a copeca se l'è presa male perché che cos'è la virtù rispondimi agli oscia io perseguo un tipo di virtù e il cinese un altro quindi è un concetto relativo oppure no è assoluto domanda insidiosa non ridere se ti dico che non ho chiuso occhio per due notti per riflettere su questo mi stupisco solo del fatto che gli uomini vivano in questa maniera senza mai pensare a questo che fatuità per Ivan Dio non esiste lui ha un'idea che però oltrepassa le capacità della mia mente ma lui sta zitto penso che sia massone l'ho interrogato ma lui tace volevo abbeverarmi un poco alla sua fonte solo una volta mi ha detto una parolina che cosa ha detto agli oscia colse la palla al balzo io gli ho detto dunque tutto è permesso non è vero e lui ha grottato le sopracciglia e ha risposto Fiodor Paolovic nostro padre era un maiale ma le sue idee erano giuste ecco che cosa mi ha replicato ha detto soltanto questo è già un po' meglio dire Kittin sì agli oscia sentì con amarezza quando è venuto a trovarti di questo parleremo dopo adesso devo parlarti di qualcos'altro non ti ho detto quasi nulla di Ivan fino ad oggi ho rimandato l'argomento sino alla fine quando si sarà conclusa la mia faccenda qui e avranno pronunciato la sentenza allora ti racconterò qualcosa ti racconterò tutto ci troviamo dinnanzi a qualcosa di terribile e tu sarai il mio giudice in quella occasione ma adesso non una parola sull'argomento adesso muto come un pesce stavi parlando di domani del processo ma ci credi se ti dico che non so proprio niente hai parlato con quell'avvocato a che serve quell'avvocato poi io gli ho raccontato tutto è un furfante ramollito di città un Bernard solo che non crede neanche a una parola di quello che dico crede che abbia ammazzato io figurati l'ho capito subito e allora perché siete venuto fin qui per assumere la mia difesa ma io me ne infischio di loro hanno mandato a chiamare pure il medico vogliono farmi passare per matto ma non lo permetterò Caterina Ivanovna vuole assolvere al proprio dovere fino alla fine lo fa con uno sforzo mi ti ha sorriso amaramente che gatta quella un cuore crudele eppure sa che cosa ho detto di lei amo Croe che è una donna dall'ira formidabile gliel'hanno riferito sì le testimonianze contro di me si sono moltiplicate come granelli della sabbia del mare Grigori rimane sulle sue posizioni Grigori è onesto ma è un imbecille molta gente è onesta perché è sciocca è un pensiero di Rakitin questo Grigori mi è nemico e ci sono alcune persone che è meglio avere come nemici che come amici sto parlando di Caterina Ivanovna ho paura sì ho paura che lei al processo racconti del suo inchino fino a terra dopo che le avevo dato quei 4500 rubli si sdebiterà fino all'ultimo non voglio il suo sacrificio mi metteranno in ridicolo al processo in qualche modo sopporterò passa da lei a Giosha chiedile che non lo racconti al processo o non si può ma il diavolo fa lo stesso sopporterò in qualche modo non ho compassione per lei è lei stessa che vuole fare così semina vento e raccoglierai tempesta io Alexei racconterò la mia versione e sorriso un'altra volta con amarezza solo Grushka Grushka signore Dio perché deve scaricare su di sé tanta sofferenza esclamò scoppiando improvvisamente in lacrime Grushka mi uccide il pensiero di lei mi uccide mi uccide è stata da me oggi me lo ho raccontato le hai arrecato un grande dolore oggi lo so che il diavolo mi pigli per il carattere che ho mi sono lasciato prendere dalla gelosia mentre se ne andava mi sono pentito l'ho baciata ma non le ho chiesto scusa perché non l'hai fatto esclamò Giosha Mitia scoppiò di nuovo a ridere era quasi allegro che Dio mi scampi caro ragazzo dal chiedere scusa per una tua colpa alla donna che ami soprattutto alla donna che ami soprattutto a quella per quanto possa essere grande la tua colpa perché la donna non sa il diavolo che cos'è veramente ma io posso dire di saperne qualcosa ma prova ad ammettere una tua colpa dinanzi a loro a dire sono colpevole perdonami scusami e seguirà una grandinata non ti perdonerà mai in maniera semplice diretta ma ti ridurrà uno straccio ti attribuirà cose che non sono mai accadute ti rinfacerà tutto non si lascerà sfuggire nulla ci aggiungerà di suo e solo allora ti perdonerà e questo nel caso migliore nella migliore delle donne raschierà anche gli ultimi residui e te li getterà in testa tale la forza scorticatrice che c'è in loro in tutte dal primo all'ultimo di quegli angeli senza i quali c'è impossibile vivere vedi caro te lo dico apertamente con semplicità ogni uomo per bene deve stare sotto il tacco di una donna è questa la mia convinzione non una convinzione ma una sensazione l'uomo deve essere magnanimo e questo non lo degrada affatto non degrada nemmeno un eroe non degrada nemmeno Cesare comunque non devi chiedere perdono mai per nessun motivo ricordati questa regola te l'ha insegnata tuo fratello Mitia rovinato dalle donne no devo compensare Grushka in qualche altro modo piuttosto che chiederle scusa io la adoro Alexei la adoro solo che lei non se ne accorge no pensa che io non l'ami abbastanza e mi affligge mi affligge per il suo amore prima non era così prima c'erano soltanto le sue curve infernali che mi affliggevano mentre adesso ho accolto tutta la sua anima nella mia anima e attraverso di essa sono diventato un uomo ti sposeranno tu che dici altrimenti morirò di gelosia ogni giorno me ne viene in mente una che cosa ti ha detto di me Agliosha gli ripete tutto quello che gli aveva detto Grushka quel giorno mi ti ascoltò con attenzione chiese molti chiarimenti e ne rimase soddisfatto così non è arrabbiata per la mia gelosia esclamò quella sì che è una donna anche il mio cuore sa essere crudele quanto mi piacciono quelle costi quelle crudeli anche se non sopporto quando sono gelose quello non lo sopporto lotteremo ma per amarla la merò senza fine si sposeranno i forzati li sposano questo mi domando ma senza di lei io non posso vivere Mithia si mise a camminare per la stanza con aria accigliata nella stanza tutto ad un tratto si fece quasi buio una repentina preoccupazione lo sopraffece così sarebbe un segreto dice che ci sarebbe un segreto una congiura di noi tre contro di lei e Katka sarebbe coinvolta dice lei no cara Grushenka le cose non stanno così in questo caso hai preso un abbaglio uno stupido abbaglio tipico del vostro sesso Agiosha caro sia come sia ti rivelerò il nostro segreto egli si guardò intorno si accostò vicino ad Agiosha che gli stava di fronte e gli sussurrò con aria misteriosa anche se nessuno avrebbe potuto sentirli la vecchia guardia sonnecchiava su una panca in un angolo e non arrivava parola alle sentinelle ti svelerò interamente il nostro segreto gli sussurrò Mitia in fretta avevo intenzione di svelartelo in seguito perché potrei mai prendere qualche decisione senza che tu lo sappia tu sei tutto per me anche se dico che Ivan è superiore a noi tu sei il mio cherubino soltanto la tua decisione conta forse sei proprio tu l'essere superiore e non Ivan capisci questa è una questione di coscienza una delicatissima questione di coscienza questo segreto è così importante che io stesso non me ne faccio una ragione e l'ho sempre accantonato in attesa del momento di parlarne con te comunque adesso è presto per prendere una decisione dal momento che occorre aspettare la sentenza quando la sentenza sarà emessa allora si deciderà anche il mio destino adesso non decidere nulla adesso io ti racconto tutto tu ascolti ma senza decidere nulla stai di zitto non ti svellerò proprio tutto ti dirò soltanto l'idea senza tanti particolari ma tu stai zitto ne domande ne gesti d'accordo ma i tuoi occhi dove li metto temo che i tuoi occhi possano esprimere una decisione anche se tu non dici una parola ho paura Agiosce ascolta il fratello Ivan mi propone la fuga non starò a scendere in particolari è stato tutto previsto tutto si può organizzare taci non decidere in America con Grushenka infatti senza Grushenka io non posso vivere ma se non la lasciassero venire con me i forzati li sposano il fratello Ivan dice di no e che ci farò sottoterra con il martello se non ci sarà Grushenka mi fracasserò il cranio con quel martello d'altro canto c'è la coscienza dovrei fuggire dalla sofferenza ho ricevuto un segno allora dovrei respingere il segno mi era stata indicata la via della purificazione dovrei forse svoltare dall'altra parte Ivan dice che in America con delle buone inclinazioni si può essere più utili che sottoterra ma che ne sarebbe del nostro inno al sottosuolo l'America che cos'è l'America è ancora una volta fatuità e penso che in America ci sia anche tanta truffaldineria fuggirai dalla crocefissione lo dico a te Agioscia perché sei l'unico che potrebbe capire e a nessun altro per gli altri queste sono sciocchezze assurdità tutte quelle cose che ti ho raccontato sull'inno direbbero che sono impazzito o sono un imbecille mentre io non sono impazzito e non sono neanche un imbecille la faccenda dell'inno la capisce anche Ivan solo che non risponde non dice niente non crede nell'inno non parlare non parlare ma lo vedo lo stesso da come mi guardi tu hai già deciso non decidere abbi pietà di me senza Grushenka non posso vivere aspetta l'esito del processo Mitia terminò il suo discorso che era fuori di sé teneva Agioscia per le spalle con tutte e due le mani e fissava il suo sguardo avito e febbrile negli occhi di lui i forzati li sposano ripetì per la terza volta con voce implorante Agioscia lo ascoltava con sommo stupore era profondamente scosso dimmi soltanto una cosa disse lui Ivan insiste molto e chi l'ha avuta per primo questa idea lui ha avuto l'idea ed è lui ad insistere sulle prime non veniva a trovarmi poi all'improvviso è venuto una settimana fa e mi ha subito parlato di questa idea insiste da morire non chiede ordina non ha dubbi sulla mia obbedienza sebbene io gli abbia rivelato tutto quello che ho nel cuore e gli abbia parlato del mio inno mi racconta di come sta organizzando la cosa mi dice che ha raccolto tutte le informazioni necessarie ma di questo parleremo dopo la sua voglia di realizzare questo piano è quasi esasperata mi parla prima di tutto del denaro dice che 10.000 servono a me per la fuga e 20.000 per l'america con 10.000 rubli organizzeremo una splendida fuga dice lui e ti ha ordinato di non farne parola con me ancora una volta Agioscia chiedeva chiarimenti ha ordinato di non dirlo a nessuno soprattutto a te per nulla al mondo dirlo a te senza dubbio ha paura che tu possa agire come la mia coscienza non glielo riferire che te l'ho detto non glielo dire mi raccomando hai ragione conclusa Agioscia non si può decidere prima che venga emessa la sentenza dopo il verdetto deciderai da solo allora troverai in te stesso un uomo nuovo e lui deciderà un uomo nuovo oppure un Bernard e quello deciderà alla Bernard dal momento che anche io credo di essere un deprecabile Bernard sorrise con amarezza Mitia ma è proprio vero che non hai speranze di essere assolto Mitia scrollò le spalle convulsamente scosse il capo in segno negativo Agioscia caro è ora che tu vada via si affrettò a dire a Mitia all'improvviso c'è il direttore che urla nel cortile sarà qui in un attimo abbiamo fatto tardi è contro il regolamento abbracciami presto baciami e fammi il segno della croce per la croce che porterò domani si abbracciarono e si baciarono Ivan disse a bruciapelo Mitia mi ha proposto di fuggire quindi anche lui crede che abbia ucciso un sorriso triste gli era affiorato sulle labbra glielo hai chiesto se ci crede o no domandò Agioscia no non glielo ho chiesto glielo volevo domandare ma non ho potuto mi sono mancate le forze e poi fa lo stesso lo capisco dai suoi occhi beh addio si baciarono ancora in tutta fretta e Agioscia stava per uscire quando Mitia lo chiamò un'altra volta mettiti di fronte a me ecco così e afferrò un'altra volta Agioscia tenendolo stretto per le spalle il viso era impallidito tutto ad un tratto tanto che quel pallore era terribilmente evidente persino nell'oscurità le labbra erano contratte lo sguardo fisso su Agioscia Agioscia dimmi la secrosanta verità come se fossi davanti al Signore ti credi che io abbia ammazzato oppure no tu nel profondo del tuo cuore ci credi oppure no la sacrosanta verità non mentire gli gridò al colmo della disperazione Agioscia barcollò tutto e nel suo cuore questo lo sentì nettamente una cuta fitta lo trafiggeva basta che dici balbettò con aria smarrita tutta la verità tutta non mentire ribadì Mitia non ho creduto nemmeno per un attimo che tu fossi l'assassino proruppe d'un tratto la voce tremante dal petto di Agioscia ed egli sollevò la mano destra in alto come per invocare Dio a testimone delle sue parole la beatitudine illuminò in un attimo il viso di Mitia ti ringrazio disse articolando le parole lentamente come quando si emette un sospiro dopo uno svenimento mi hai restituito la vita ci credi fino a questo momento ho avuto paura di domandarlo persino a te persino a te adesso va va mi hai dato nuova energia per domani che Dio ti benedica adesso va e cerca di voler bene a Ivan e Mitia lo congedò con queste parole Agioscia uscì in lacrime una tale apprensione da parte di Mitia una tale diffidenza persino nei suoi confronti nei confronti di Agioscia aveva di colpo svelato agli occhi di Agioscia l'abisso di dolore senza via d'uscita e di disperazione che c'era nell'anima del suo infelice fratello e che egli non avrebbe mai sospettato una profonda sconfinata compassione si era impossessata di lui e lo faceva soffrire il cuore trafitto gli doleva terribilmente cerca di voler bene a Ivan gli tornarono alla mente le parole appena pronunciate da Mitia e si diresse proprio da Ivan era dalla mattina che aveva l'assoluta urgenza di vedere Ivan Ivan tormentava Agioscia non meno di Mitia e adesso dopo l'incontro con il fratello ancora più di prima non sei stato tu lungo il tragitto che lo conduceva da Ivan gli toccava passare anche per la casa nella quale alloggiava Caterina Ivanovna le finestre erano illuminate egli si fermò di colpo e decise di entrare era più di una settimana che non vedeva Caterina Ivanovna ma in quel momento gli era venuto in mente che Ivan si potesse trovare da lei soprattutto alla vigilia di un tale giorno dopo aver suonato e aver imboccato le scale illuminate fiocamente da una lampada cinese egli vide un uomo che scendeva dalle scale nel quale quando si affiancarono riconobbe suo fratello quello dunque stava andando via dalla casa di Caterina Ivanovna ah sei soltanto tu disse seccamente Ivan Fiodorovic beh addio stai andando da lei si non te lo consiglio è sconvolta e tu la sconvolgeresti ancora di più no no una porta si era spalancata all'improvviso e una voce aveva gridato dall'alto Alexei Fiodorovic siete di ritorno da lui sì sono stato da lui ha mandato a dirmi qualcosa entrate Agliosha e anche voi Ivan Fiodorovic tornate tornate assolutamente avete sentito nella voce di Katia vi suonava una nota di tale perentolietà che Ivan Fiodorovic dopo aver esitato un momento si decise a salire di nuovo insieme ad Agliosha stava origliando mormorò tra sé e sé irritato ma Agliosha sentì lo stesso permettetemi di rimanere con il cappotto indosso disse Ivan Fiodorovic entrando nel salone e non mi siederò neanche non mi tratterò più di un minuto sedetevi Alexei Fiodorovic disse Katerina Ivanovna rimanendo lei stessa in piedi non era molto cambiata negli ultimi tempi ma i suoi occhi scuri brillavano di un fuocherello sinistro Agliosha ricordò in seguito che ella gli era sembrata estremamente bella in quel momento che cosa vi ha chiesto di riferirmi soltanto una cosa disse Agliosha guardandola dritto negli occhi che abbiate pietà di voi stessa e nel corso della vostra testimonianza al processo non raccontiate egli si confuso un po' che cosa è avvenuto fra di voi nei primi tempi della vostra amicizia in quella città ah dell'inchino fino a terra e di quei soldi intervenne lei bruscamente con una risata amara che vuol dire questo teme per me o per se stesso ha chiesto che io abbia pietà di lui di chi di lui o di me stessa parlate Alexei Fiodorovic Agliosha la fissava intensamente cercando di capire quello che voleva dire sia di voi stessa sia di lui proprio così scandì con stizza e avvampò di colpo voi ancora non mi conoscete Alexei Fiodorovic disse lei minacciosa dal resto neanche io conosco me stessa forse vi verrà voglia di calpestarmi dopo l'interrogatorio di domani che la vostra testimonianza sia onesta disse Agliosha solo questo occorre le donne sono spesso disoneste stridette lei soltanto un'ora fa pensavo che avrei avuto paura ad entrare in contatto con quel mostro come se fosse stato un rettile e invece no è ancora un essere umano per me ma è stato lui ad uccidere e lui l'assassino esclamò lei ad un tratto in tono isterico rivolgendosi di scatto a Ivan Fiodorovic Agliosha capì all'istante che ella aveva già posto quella domanda a Ivan Fiodorovic forse soltanto un minuto prima del suo arrivo e non per la prima volta ma per la centesima tanto che avevano finito per litigare sono stata da Smerdiakov sei stato tu tu a convincermi che è lui il parricida io ho prestato fede soltanto a te continuava lei sempre rivolta a Ivan Fiodorovic quello le rispose con un sorriso forzato Agliosha trasse lì udendo quel tu non avrebbe nemmeno sospettato una tale intimità fra i due beh comunque basta così tagliò corto Ivan io me ne vado tornerò domani e giratosi di scatto su se stesso uscì dalla stanza e andò dritto verso le scale Caterina Ivanovna afferrò con un gesto quasi imperioso Agliosha per entrambe le braccia seguitelo raggiungetelo non lo lasciate solo neanche un minuto gli sussurrò rapidamente è impazzito ma non lo sapete che è impazzito ha la febbre una febbre nervosa me lo ha detto il dottore andate corretegli dietro Agliosha scattò e corse dietro Ivan Fiodorovic quello non aveva fatto che una cinquantina di passi che vuoi si voltò bruscamente verso Agliosha vedendo che questi lo aveva raggiunto ti ha ordinato di corrermi dietro perché sono pazzo la so a memoria questa solfa soggiunse irritato certo si sbaglia ma ha ragione quando dice che sei malato disse Agliosha quando eravamo da lei ho guardato il tuo viso è un aspetto malato molto malato Ivan Ivan camminava senza fermarsi Agliosha lo seguiva e tu lo sai com'è che impazzisce la gente Alexei Fiodorovic domandò con una voce improvvisamente calma improvvisamente non irritata dalla quale trapelava inaspettata una ingenua curiosità no non lo so suppongo che ci siano diverse forme di pazia su se stessi si può osservare quando si impazzisce penso che in quei casi è impossibile osservare con chiarezza in se stessi rispose Agliosha stupito Ivan tacque per mezzo minuto se vuoi discutere di qualcosa con me cambia argomento per favore disse all'improvviso ed ecco prima che mi dimentichi una lettera per te disse Agliosha timidamente porgendogli la lettera di Lizza erano giunti proprio all'altezza di un lampione Ivan riconobbe immediatamente la calligrafia ah è di quel demonietto scoppiò in una perfida risata poi senza dissuggellare la busta la strappò in mille pezzi e la gettò per aria i frammenti volarono da tutte le parti non ha ancora compiuto sedici anni e già si va offrendo commentò sprezzantemente rimettendosi in cammino come sarebbe a dire si va offrendo esclamò Agliosha si sa nel modo in cui le donne corrotte offrono se stesse ma che dici Ivan che dici gridò Agliosha con calore con la voce addolorata è una bambina tu stai offendendo una bambina lei è malata anche lei è molto malata anche lei forse sta impazzendo io non potevo fare a meno di darti la sua lettera anzi volevo proprio sentire da te come salvarla non c'è niente da sentire da me anche se lei è una bambina io non sono la sua balia taccia Agliosha non continuare io non ci penso nemmeno tacquera ancora per un minuto adesso pregherà la madre di dio tutta la notte perché le suggerisca come comportarsi domani al processo riprese a parlare poi in tono brusco e cattivo tu tu stai parlando di Katerina Ivanovna sì deve salvare o distruggere Mitienka pregherà per essere illuminata su questo non sa neanche lei che cosa fare non ha avuto il tempo di prepararsi anche lei mi prende per una balia vuole che le canti la ninna nanna Katerina Ivanovna ti ama fratello disse Agliosha con aria triste può darsi ma io non vado molto pazzo per lei lei soffre a che scopo le dici a volte delle parole che alimentano la sua speranza proseguiva Agliosha con un tono di timido rimprovero infatti io so che le hai dato delle speranze scusami se te lo dico soggiunse non posso comportarmi con lei come dovrei rompere e parlarle chiaro in faccia replicò seccato Ivan devo aspettare finché non leggeranno la sentenza dell'assassino sarò un po' con lei in questo momento ella per vendicarsi di me domani stesso rovinerebbe quel mascalzone al processo perché lo odia ed è consapevole di odiarlo qui è tutta una menzogna menzogna su menzogna mentre adesso finché non rompo con lei ella spererà sempre e non si metterà a rovinare quel mostro sapendo quanto sia forte il mio desiderio di tirarlo fuori da questa disgraziata situazione se solo si sbrigasse ad arrivare questo verdetto le parole assassino e mostro eccheggiarono dolorosamente nel cuore di Agliosha ma in che modo lei potrebbe rovinare nostro fratello domandò riconsiderando le parole di Ivan che prova potrebbe fornire per rovinare Mitia questo tu ancora non lo sai ha in mano un documento di suo pugno di Mitia appunto che dimostra con certezza matematica che egli ha ucciso Fiodor Paolovic questo non può essere esclamò Agliosha come non può esistere l'ho letto con i miei occhi un simile documento non può esistere rispose con calore Agliosha non può esistere perché l'assassino non è lui non è stato lui ad uccidere nostro padre non è stato lui Ivan Fiodorovic si fermò di colpo chi sarebbe allora l'assassino secondo voi domandò con una freddezza apparente e c'era anche una nota di alterigia nel tono con cui aveva posto la domanda lo sai anche tu chi è stato disse Agliosha con voce calma e penetrante chi ci risiamo con quella fantasia quella dell'idiota demente dell'epilettico vuoi dire smerdiakoff Agliosha si sentì tremare in tutto il corpo tu stesso sai chi è stato proruppe fiacamente egli respirava fatica allora chi chi gridò Ivan quasi con ferocia tutto il suo autocontrollo era svanito di colpo so soltanto una cosa pronunciò Agliosha quasi in un sussurro non sei stato tu a uccidere nostro padre non sei stato tu che cosa intendi con quel tu rimase di stucco Ivan non sei stato tu a uccidere nostro padre non tu ripete fermamente Agliosha seguì un mezzo minuto di silenzio sì lo so anche da solo che non sono stato io che cosa vai farneticando disse Ivan con un sorriso debole contratto era come se volesse penetrare con gli occhi dentro Agliosha stavano tutti e due in piedi presso il lampione no Ivan ti sarai detto più di una volta che sei tu l'assassino e quando l'avrai detto io ero a Mosca quando l'avrai detto bebetò Ivan completamente smarrito te lo sarai ripetuto molte volte quando rimanevi in solitudine in questi due terribili mesi proseguiva Agliosha con il tono pacato e scandito di prima ma ormai parlava come inconsapevole come fuori di sé come a dispetto della propria volontà ma in obbedienza a qualche irresistibile comando tu hai accusato te stesso e hai confessato che l'assassino sei tu e nessun altro ma non l'hai ucciso tu non commettere questo errore non sei tu l'assassino dammi ascolto non sei stato tu Dio mi ha mandato a dirti questo tacquero entrambi il silenzio si protrasse per un lungo minuto erano tutti e due in piedi e scrutavano l'un l'altro negli occhi erano entrambi pallidi ad un tratto Ivan tremando in tutto il corpo afferrò Agliosha per le spalle tu eri nella mia stanza bisbigliò in un sussurro stridulo tu sei stato da me di notte quando lui è venuto ammettilo tu l'hai visto l'hai visto vero ma di chi stai parlando di Mitia domandò Agliosha senza capire non di lui che vada al diavolo quel mostro strillò freneticamente tu lo sai che lui viene a farmi visita come hai fatto a saperlo dimmelo ma chi è questo lui non so di chi parli balbettò Agliosha ormai allarmato no tu lo sai altrimenti come faresti a non può essere che tu non lo sappia ma ad un tratto sembrò che si trattenesse se ne state immobile come assorto in qualche pensiero uno strano ghigno gli deformava le labbra fratello prese a dire Agliosha con voce tremante io te l'ho detto perché tu avresti creduto alle mie parole io questo lo so io ti ho detto quella parola per tutta la vita non sei stato tu mi senti per tutta la vita è stato Dio a mettermi nel cuore l'idea di dirti questo anche se da questo momento in poi tu mi dovessi odiare per sempre ma Ivan Fiodorovic aveva evidentemente ripreso il controllo di se stesso Alexei Fiodorovic disse con una risatina gelida io i profeti e gli epilettici non li sopporto soprattutto quelli inviati da Dio e voi lo sapete molto bene da questo momento io interrompo qualsiasi rapporto con voi e credo per sempre vi chiedo in questo istante all'altezza di questo crocicchio di lasciarmi tanto più che la strada che conduce a casa vostra passa per l'appunto per questo veicolo fareste bene a guardarvi dal venire da me in particolare oggi mi sentite? egli si voltò e a passi decisi si incamminò senza più voltarsi fratello gli gridò destro Agiosha se dovesse accaderti qualcosa oggi pensa prima di tutto a me ma Ivan non rispose Agiosha rimase al crocicchio presso il lampione finché Ivan non fu scomparso del tutto nell'oscurità solo allora si girò e si avviò lentamente verso casa per il vicolo sia Agiosha sia Ivan Fiodorovic avevano preso un appartamento in affitto e vivevano ognuno per conto proprio nessuno dei due aveva voluto restare nella casa abbandonata di Fiodor Paolovic Agiosha aveva preso in affitto una camera immobiliata presso la famiglia di alcuni borghesi mentre Ivan Fiodorovic viveva piuttosto distante dal fratello in un alloggio spazioso e abbastanza confortevole nella dipendenza di una bella casa appartenente alla giata vedua di un funzionario statale l'unica persona di servizio che teneva per tutta quella dipendenza era una decrepita vecchietta completamente sorda acciaccata dai reumatismi che si andava a colicare alle 6 di sera e si alzava alle 6 di mattina Ivan Fiodorovic in quei due mesi era diventato stranamente poco esigente e amava molto starsene in completa solitudine riassettava di persona la stanza che occupava mentre nelle rimanenti istanze della sua abitazione metteva raramente piede giunto al portone di casa era sul punto di suonare quando si bloccò era tutto tremante di rabbia ad un tratto egli lasciò andare il campanello spuntò si voltò indietro e si diresse verso il capo opposto della città a un paio di verste dal suo appartamento in una minuscola casetta di assi sbilenca nella quale abitava Maria Contratevna l'ex vicina di Fiodor Paolovic quella che andava a chiedere la minestra nella cucina di Fiodor Paolovic la ragazza per la quale Smerdiakov quella volta cantava le sue canzoni con l'accompagnamento della chitarra questa aveva venduto la sua casa di un tempo e adesso viveva con la madre in una casa che era praticamente un'isba e l'infermo quasi morente Smerdiakov dopo la morte di Fiodor Paolovic si era stabilito presso di loro Ivan Fiodorovic stava proprio andando da lui in quel momento mosso da un'improvvisa invincibile idea la prima visita a Smerdiakov era la terza volta che Ivan Fiodorovic si recava a parlare con Smerdiakov dopo il suo ritorno da Mosca la prima volta dopo la catastrofe l'aveva visto e gli aveva parlato il giorno stesso del suo arrivo poi gli aveva fatto nuovamente visita due settimane più tardi ma dopo questo secondo incontro con Smerdiakov Ivan Fiodorovic aveva interrotto le visite e adesso era più di un mese che non lo vedeva né aveva notizie di lui Ivan Fiodorovic era tornato soltanto cinque giorni dopo la morte del genitore tanto che non aveva trovato nemmeno il feretro la sepoltura aveva avuto luogo proprio alla vigilia del suo arrivo questo ritardo di Ivan Fiodorovic era di peso dal fatto che Agliosha ignorando l'indirizzo moscovita del fratello aveva fatto ricorso a Caterina Ivanovna affinché questa gli mandasse un telegramma ma dal momento che neanche lei conosceva il recapito esatto aveva telegrafato a sua sorella e a sua zia credendo che Ivan Fiodorovic appena giunto a Mosca le andasse a trovare ma questi era andato a trovarle soltanto quattro giorni dopo il suo arrivo e letto il telegramma naturalmente si era precipitato nella nostra città giunto in città la prima persona che aveva incontrato era stata Agliosha ma parlando con lui era rimasto allibito dal fatto che il fratello minore non volesse nemmeno sospettare Mitia ma indicasse direttamente Smerdiakov come l'assassino il che era in contrasto con tutte le opinioni correnti nella nostra città dopo essersi incontrato con il capo della polizia e il procuratore e aver appreso i particolari dell'imputazione dell'arresto egli si era ancora più meravigliato di Agliosha e aveva attribuito l'opinione di questi a un sentimento fraterno esasperato all'ultimo grado e alla sua compassione nei confronti di Mitia che Agliosha amava molto come Ivan sapeva bene già che ci siamo diciamo due parole una volta per tutte i suoi sentimenti che Ivan nutriva per il fratello Dmitri Fiatorovic non provava il minimo affetto per lui tutt'al più sentiva a volte della compassione ma anche quella mescolata a un gran disprezzo che sfiorava la ripugnanza e in tutto il suo essere persino nel suo aspetto fisico il fratello Maggiore gli era molto antipatico egli provava indignazione per l'amore che Caterina Ivanovna nutriva nei confronti di lui tuttavia era andato a trovare anche Mitia il primo giorno del suo arrivo e questo incontro aveva consolidato più che attenuato in lui la convinzione della colpevolezza del fratello aveva trovato il fratello in uno stato di inquietudine di morboso turbamento Mitia era loquace ma distratto e incoerente parlava in modo brusco accusava Smerdyakov e si confondeva moltissimo parlava soprattutto dei tremila rubli che il defunto aveva rubato a lui erano soldi miei soldi miei affermava Mitia anche se io li avessi rubati sarei stato nel giusto quasi non contestava le prove a suo carico e se cercava di rivoltare i fatti a proprio vantaggio lo faceva in maniera confusa e assurda come se in realtà non intendesse affatto giustificarsi davanti a Ivan o a chiunque altro anzi se la prendeva come se fosse fieramente sprezzante di quelle accuse bisticciava e si accaldava riguardo alla testimonianza di Grigori sulla porta aperta egli si limitava a ridere sprezzantemente e a dire è stato il diavolo ad aprirla ma non era in grado di fornire spiegazioni logiche a questo fatto era arrivato al punto di offendere Ivan Fiodorovic nel corso del loro primo incontro dicendogli seccamente che quelli che affermano che tutto è permesso non dovrebbero poi fare tanto i sospettosi e mettersi a interrogare in generale nel corso di quella prima visita Mitia era stato molto ostile verso Ivan Fiodorovic subito dopo quel primo incontro con Mitia Ivan Fiodorovic era andato a trovare anche Smerdiakov sin dal viaggio in treno di ritorno da Mosca non aveva fatto altro che pensare a Smerdiakov e alla conversazione avuta con lui la sera prima della partenza erano molti i particolari che lo turbavano molti i sospetti eppure mentre rendeva la propria testimonianza al giudice istruttore per il momento non fece parola di quella conversazione aveva rimandato tutto all'incontro con Smerdiakov questi si trovava allora nell'ospedale cittadino il dottor Gersenstube e il dottor Varvinsky che Ivan Fiodorovic aveva incontrato all'ospedale alle domande insistenti di quest'ultimo avevano risposto con fermezza che l'attacco epilettico di Smerdiakov era stato autentico e si erano persino stupiti della domanda ma non potrebbe aver finito il giorno della disgrazia gli dettero a intendere che quell'attacco era stato persino di eccezionale gravità era durato a più riprese per alcuni giorni tanto che il paziente si era trovato in serio pericolo di vita e soltanto adesso dopo aver preso una serie di provvedimenti si poteva affermare con sicurezza che il malato sarebbe rimasto tra i vivi anche se con ogni probabilità aveva aggiunto il dottor Gersenstube le sue facoltà mentali sarebbero rimaste in parte sconvolte se non addirittura per tutta la vita certo per un periodo di tempo piuttosto lungo all'impaziente domanda di Ivan Fyodorovic dunque adesso è pazzo? gli avevano risposto ancora no nel vero senso della parola ma si notano alcune anomalie Ivan Fyodorovic si propose di scoprire da solo quali fossero queste anomalie all'ospedale gli concessero immediatamente di vedere il paziente Smerdyakov si trovava in un locale separato dagli altri e giaceva su una branda accanto a lui c'era un'altra branda occupata da un borghese della nostra città molto deperito tutto gonfio a causa dell'idropisia che sicuramente sarebbe morto l'indomani o due giorni dopo non poteva dunque in alcun modo intralciare la loro conversazione Smerdyakov ebbe un sorriso diffidente nel vedere Ivan Fyodorovic e sulle prime sembra molto nervoso almeno Ivan Fyodorovic credete di aver visto questo ma fu questione di un attimo per tutto il resto del tempo fu persino colpito dalla calma che dimostrava Smerdyakov sin dalla prima occhiata Ivan Fyodorovic si convinse che egli era molto malato era molto debole parlava lentamente e articolava la lingua con difficoltà era molto dimagrito e ingiallito per tutti i venti minuti della visita non fece che lamentarsi del mal di testa e dell'indolenzimento a tutte le ossa il suo viso avvizzito dai virato si era come rimpicciolito i riccioli sulle tempie erano scompigliati e al posto della cresta in cima alla testa gli era rimasto solo un misero ciuffetto di capelluzzi ma l'occhietto sinistro strizzato a metà e quasi ammiccante rivelava lo Smerdyakov di un tempo anche due chiacchiere con un uomo intelligente sono interessanti questa frase venne subito in mente a Ivan Fyodorovic questi si sedette ai piedi del letto su uno scabello Smerdyakov con uno sforzo penoso cambiò la sua posizione nel letto ma non fu il primo a parlare rimaneva zitto e non dimostrava nemmeno tanto interesse puoi parlare con me? domandò Ivan Fyodorovic non ti farò stancare molto certo che posso signore viacicò Smerdyakov con voce fiacca siete tornato da molto come per incoraggiare il visitatore confuso soltanto oggi a sbrogliare il pasticcio che avete combinato qui Smerdyakov tirò un sospiro che sospiri a fare tu lo sapevi buttò lì Ivan Fyodorovic senza mezzi termini Smerdyakov taceva ostinatamente come si faceva a non sapere signore era tutto chiaro sin dall'inizio ma come facevo a dire che le cose sarebbero arrivate a questo punto che cosa è arrivato a questo punto non tergiversare tu l'avevi predetto che presto avresti avuto un attacco di mal caduco scendendo in cantina hai menzionato addirittura la cantina l'avete già riferito nella vostra testimonianza si informò pacatamente Smerdyakov Ivan Fyodorovic si indispettì no non l'ho ancora detto ma lo dirò certamente tu caro mio mi devi chiarire un mucchio di cose adesso e sappi tesoruccio che io non permetto che si facciano tanti giochetti con me e per quale motivo dovrei mettermi a giocare con voi quando ripongo in voi tutte le mie speranze come se foste dio onnipotente disse Smerdyakov sempre con la stessa compostezza dopo aver chiuso gli occhi solo per un attimo in primo luogo esordiva Ivan Fyodorovic io so che non è possibile predire in anticipo un attacco di mal caduco mi sono informato quindi niente storie è impossibile prevederne il giorno e l'ora come hai fatto tu allora a predirmi giorno e ora e per di più il luogo la cantina come avresti potuto sapere in anticipo che saresti caduto proprio in quella cantina in seguito a un attacco di male se non l'avessi simulato a bella posta sarei comunque dovuto andare in quella cantina e anche diverse volte al giorno signore mi esicò Smerdyakov senza affrettarsi a rispondere esattamente allo stesso modo sono caduto dalla soffitta un anno fa è inconfutabile che non si possa prevedere in anticipo il giorno e l'ora di un attacco ma se ne può sempre avere un presentimento mentre tu hai predetto giorno e ora riguardo la mia malattia fareste meglio a informarvi presso i dottori di qui signore sulla sua autenticità quanto a me non ho più niente da dirvi su questo argomento e la cantina come hai fatto a sapere della cantina e dagli con questa cantina mentre scendevo in cantina ero in preda al terrore al dubbio ciò che mi terrorizzava di più era l'idea di essere abbandonato da voi e rimanere completamente indifeso al mondo scendevo in cantina e pensavo ecco che adesso arriva adesso mi colpirà cadrò o no è stato per questo dubbio che mi ha preso lo spasmo che mi viene sempre signore e così sono caduto tutto questo e tutta la conversazione che abbiamo avuto alla sera della vigilia presso il portone quando vi ho messo a parte della mia paura e della cantina tutto questo l'ho raccontato nei minimi dettagli al signor Garcens Tube e al giudice Nicolai Parfenovic che hanno scritto tutto nel verbale mentre il dottore qui nell'ospedale il signor Varvinsky ha insistito particolarmente davanti a tutti che l'attacco ha avuto luogo proprio a causa di quel pensiero proprio per quell'incertezza del cadrò o non cadrò fu proprio allora che mi prese la fita e hanno scritto proprio così sul verbale signore che deve essere andata proprio così che deve essere stato per paura signore detto questo Smerdiakov come spossato dalla stanchezza tirò un profondo sospiro così hai già detto tutto questo nella tua deposizione domandò Ivan Fiodorovich un po' spiazzato era venuto proprio con l'intenzione di spaventarlo con la minaccia di riferire la loro conversazione di quella volta invece era risultato che egli stesso aveva raccontato tutto di che cosa devo avere paura che scrivano pure tutta la verità proferì con fermezza Smerdiakov e hai riferito parola per parola quello che ci siamo detti quella volta con te al portone no non proprio parola per parola signore e che riesci a simulare attacchi di epilessia come ti sei vantato di fare quella volta quello lo hai detto no signore non ho detto neanche quello signore e dimmi adesso perché mi hai voluto mandare a Ermajnia allora temavo che sareste andato a Mosca Ermajnia è sempre più vicina signore stai mentendo mi hai invitato tu stesso a partire andate via via dal peccato mi dicevi l'ho fatto soltanto per amicizia nei vostri confronti e per la mia sincera devozione verso di voi avevo sentore della disgrazia che si sarebbe abbattuta sulla casa e mi dispiaceva per voi solo per me stesso provavo più dispiacere che per voi per questo vi dicevo allontanatevi dal peccato perché capiste che qualcosa di brutto sarebbe accaduto in casa e così rimaneste a proteggere vostro padre avresti potuto dirlo chiaramente imbecille si infuriò di colpo Ivan Fiodorovic come potevo dirvelo chiaramente signore era soltanto la paura che mi faceva parlare e poi avreste potuto adirarvi io naturalmente avrei potuto temere che Dmitri Fiodorovic combinasse uno scandalo enorme e sottraesse i soldi dal momento che li considerava come suoi ma chi avrebbe potuto immaginare che sarebbe finita con un delitto pensavo che avrebbe semplicemente soffiato quei 3000 rubli che stavano sotto il materasso del padrone nel plico e invece quello lo ha ammazzato chi poteva immaginarlo signore allora se tu stesso dici che era impossibile indovinarlo come avrei potuto prevederlo io e rimanere che cosa va imbrogliando disse Ivan Fiodorovic assorto avreste potuto prevederlo dal fatto che vi spingevo a Hermasnia piuttosto che a Mosca signore ma come facevo a capirlo così Smerdiaco sembrava esausto e ancora una volta fece una pausa avreste potuto capirlo proprio per il fatto che se vi deviavo da Mosca a Hermasnia voleva dire che desideravo che vi trovaste più vicino perché Mosca è lontana e Dmitri Fiodorovic sapendovi non troppo lontano non sarebbe stato così temerario e poi nel caso in cui fosse accaduto qualcosa avreste potuto venire a difendermi già che vi avevo fatto notare pure la malattia di Grigori Vasilievic per non parlare del timore del mio attacco e parlandovi di quei segnali con i quali si poteva entrare nelle stanze del defunto e dicendovi che Dmitri Fiodorovic ne era stato informato in dettaglio da me pensavo che avreste capito da solo che quello avrebbe sicuramente combinato qualcosa così voi non sareste andato nemmeno a Dermasnia ma sareste rimasto proprio qui parla con molta lucidità anche se biascica le parole pensò Ivan Fiodorovic di quale stravolgimento delle facoltà mentali stava parlando Gersenstube stai facendo il furbo con me che il diavolo ti porti esclamò incollerito devo dire che allora avevo pensato che voi avreste già intuito tutto ribatte Smerdiakov con la più ingenua delle espressioni se avessi intuito sarei rimasto gridò Ivan Fiodorovic inalberandosi di nuovo beh invece io pensavo che voi dopo aver intuito ogni cosa steste soltanto fuggendo dal peccato il più presto possibile per scappare via da qualche parte e salvarvi per la paura signore tu pensavi che fossero tutti codardi come te scusate signore ma io ho pensato che anche voi foste come me certo avrei dovuto indovinarlo disse Ivan agitato e io lo avevo intuito che c'era qualcosa di abbietto da parte tua solo che stai mentendo stai mentendo di nuovo gridò ricordando qualcosa all'improvviso ti ricordi di quando ti sei avvicinato la mia carrozza e hai detto anche fare due chiacchiere con un uomo intelligente interessante vuol dire che eri contento che io partissi se mi hai lodato Smerdyakov sospirò ancora e ancora una sfumatura di rossore comparve sul suo viso se ero contento disse lui con il respiro corto era soltanto perché avevate accettato di andare a Hermashnia e non a Mosca in quanto comunque eravate più vicino solo che quando vi dissi quelle parole non era per lodarvi ma piuttosto per rimproverarvi voi questo non lo avete capito signore rimproverare per cosa per il fatto che prevedendo una tale disgrazia abbandonavate vostro padre e vi rifiutavate di difenderci perché io avrei potuto essere arrestato in ogni momento con l'accusa di aver rubato quei 3000 rubli signore che il diavolo ti pigli Ivan imprecò di nuovo aspetta hai raccontato di quei segnali di quei colpi al giudice istruttore e al procuratore ho raccontato le cose come stanno signore Ivan Fiodorovic dentro di sé si meravigliò un'altra volta se ho pensato a qualcosa in quel momento ripresa d'ira era unicamente a qualche turpitudine da parte tua Dimitri avrebbe potuto uccidere ma allora non credevo che avrebbe potuto rubare mentre da parte tua mi aspettavo qualunque turpitudine tu stesso mi hai detto che sai simulare gli attacchi di epilessia a che scopo me lo hai detto unicamente per la mia ingenuità in vita mia non ho mai simulato un attacco di epilessia di proposito l'ho detto solo per vantarmi con voi era una sciocchezza signore mi piacevate molto allora e parlavo con grande semplicità con voi mio fratello ti accusa apertamente di aver ucciso e rubato che cos'altro gli resta da fare sorrisi amaramente Smerdiakov e chi gli crederà dopo tutte quelle prove contro di lui Grigoli Vasilievic ha visto la porta aperta che cosa si può dire dopo questo signore ma ormai fa lo stesso che Dio sia con lui tenta di salvarsi trema egli cessò pacatamente di parlare ma poi all'improvviso come riflettendo su qualcosa aggiunse guardate un po' sempre la stessa storia vuole gettare la colpa su di me dicendo che è opera mia questo l'ho già sentito signore ma ammesso che fossi pure un maestro nel simulare attacchi di epilessia ve lo avrei detto in anticipo che sapevo fingere se in quel momento avessi avuto qualche trama riguardo a vostro padre se avessi già progettato quell'omicidio avrei potuto essere tanto stupido da fornirvi in anticipo una tale prova contro me stesso per di più proprio a voi che eravate suo figlio rispondete di grazia sarebbe verosimile tutto questo e ammesso che lo fosse una cosa simile non è mai accaduta nessuno sta ascoltando la nostra conversazione in questo momento eccetto la santa provvidenza e seppure voi la doveste riferire al procuratore a nicolai parfenovic col fare ciò mi scagionereste del tutto signore giacché che criminale può essere uno che prima del delitto si comporta così ingenuamente tutti potranno facilmente giungere a questa conclusione ascolta Ivan Fiodrovic si alzò dal suo posto sconvolto da quest'ultima argomentazione di smerdi a cove desideroso di porre fine alla conversazione io non sospetto affatto di te anzi ritengo persino ridicolo accusarti al contrario ti sono grato per avermi tranquillizzato adesso vado ma tornerò di nuovo per adesso addio guarisci hai bisogno di qualcosa grazie di tutto signore marfagnatevna non si dimentica mai di me e provvede nel caso mi serva qualcosa con la sua consueta gentilezza ogni giorno mi vengono a trovare delle brave persone arrivederci io dal resto non ho intenzione di riferire che tu sei capace di simulare e consiglio anche a te di non dirlo disse ad un tratto Ivan per qualche ragione capisco benissimo signore e se voi non direte questo allora io non riferirò parola per parola la conversazione che avemmo presso il portone a questo punto successe che Ivan Fiodorovic uscì in fretta ma non aveva fatto che una decina di passi lungo il corridoio quando si rese conto che in quell'ultima frase di Smerdiakov si racchiudeva un'intenzione in qualche modo oltraggiosa avrebbe voluto tornare ma fu il pensiero di un momento poi si disse tutte sciocchezze e uscì in fretta dall'ospedale soprattutto si sentiva davvero più tranquillo e proprio per via della circostanza che il colpevole non fosse Smerdiakov ma suo fratello Mitia anche se a dire il vero avrebbe dovuto essere il contrario in quel momento non aveva voglia di scoprire la causa di questa sensazione avvertiva persino repulsione a scavare nelle proprie sensazioni aveva voglia di dimenticare al più presto qualcosa in seguito nel giro di alcuni giorni si era convinto del tutto della colpevolezza di Mitia quando era venuto a conoscenza più da vicino del peso delle prove a suo carico c'erano le testimonianze di persone di nessuna importanza come Fenia e sua nonna che risultavano però quasi formidabili riguardo a Perciotin alla trattoria alla bottega dei Plotnikov ai testimoni a Macroe non c'era nulla da obiettare soprattutto i particolari risultavano schiaccianti la notizia dei colpi segreti aveva impressionato il giudice istruttore e il procuratore quasi con la stessa intensità della testimonianza di Grigori sulla porta aperta la moglie di Grigori Marfa Ignatevna alle domande di Ivan Fiodorovich aveva dichiarato senza esitazioni che Smerdiakov era stato colicato tutta la notte dietro il tramezzo della loro camera a meno di tre passi dal nostro letto e sebbene anche lei dormisse sodo si era svegliata molte volte udendo i gemiti di lui non faceva che gemere senza posa quando parlando con Garchenstube gli aveva espresso il dubbio che Smerdiakov non fosse affatto impazzito ma soltanto indebolito aveva provocato nel vecchietto un sorriso sottile lo sapete in che modo egli impiega il suo tempo adesso aveva domandato a Ivan Fiodorovich impara a memoria vocaboli francesi sotto il cuscino tiene un quadernetto e qualcuno gli ha scritto delle parole francesi in caratteri russi Ivan Fiodorovich infine aveva abbandonato definitivamente i suoi dubbi al fratello Dimitri egli non riusciva nemmeno a pensare senza provare il ribrezzo una cosa però era strana che Agliosha continuasse a insistere testardamente che non era stato Dimitri a uccidere ma con ogni probabilità Smerdiakov Ivan aveva sempre saputo che l'opinione di Agliosha contava molto per lui ecco perché adesso era così perplesso nel sentirla era pure strano che Agliosha non cercasse in alcun modo l'occasione di parlare di Mitia e non fosse mai il primo a parlarne si limitava soltanto a rispondere alle domande di Ivan questi lo aveva notato benissimo ma in quel periodo era molto preso anche da un'altra circostanza che non c'entrava proprio con tutto questo al suo ritorno da Mosca si era abbandonato disperatamente alla sua ardente e folle passione per Caterina Ivanovna non è qui il caso di parlare di questa nuova passione di Ivan Fiodorovich che avrebbe lasciato il segno su tutto il resto della sua vita questo potrebbe fornire il canovaccio di un altro racconto un altro romanzo che non so se mi cimenterò mai a scrivere tuttavia non posso passare sotto silenzio che la sera in cui Ivan Fiodorovich aveva lasciato la casa di Caterina Ivanovna in compagnia di Agliosha e gli aveva detto ma io per lei non vado molto pazzo in quel momento stava spudoratamente mentendo l'amava alla follia anche se era vero che di tanto in tanto la odiava a tal punto che sarebbe stato capace di ammazzarla molte ragioni contribuivano ad alimentare questo odio sconvolta da quanto era avvenuto a Mitia ella si era precipitata da Ivan Fiodorovich tornato da lei come incontro a un vero salvatore ella era stata offesa oltreggiata umiliata nei suoi sentimenti ed ecco che era ricomparso l'uomo che l'aveva tanto amata lei lo sapeva bene questo e il cui cuore intelletto ella aveva sempre posto così in alto ma quella austere ragazza non si era abbandonata totalmente al suo amore nonostante la sfrenatezza carmazzoviana della passione di lui e il grande fascino che egli esercitava su di lei nel contempo si torturava per il rimorso di aver tradito Mitia e nei momenti di conflitto e ira violenta e ce n'erano molti glielo diceva in faccia era questo che intendeva Ivan Fyodorovic quando aveva detto ad Agliosha menzogna su menzogna c'era ovviamente una gran dose di menzogna in tutto ciò ed era proprio questo che esasperava Ivan Fyodorovic sopra ogni altra cosa ma di questo parleremo in seguito insomma per un po' di tempo aveva persino dimenticato l'esistenza di Smerdiakov eppure a due settimane dalla sua prima visita tornarono a tormentarlo come prima strani pensieri è sufficiente dire che continuava a domandarsi perché l'ultima notte che aveva trascorso in casa di Fyodor Paolovic prima della partenza fosse sceso quattroquattro per le scale come un ladro per origliare che cosa stesse facendo il padre di sotto perché ricordava quell'episodio con disgusto perché la mattina dopo si era sentito così angosciato durante il viaggio e arrivato a Mosca si era detto sono un bigliaco e adesso gli venne addirittura di pensare che questi torturanti pensieri gli avrebbero fatto dimenticare persino Caterina Ivanovna a tal punto erano tornati a dominarlo aveva appena concepito questo pensiero quando si imbatte in agli oscia per strada lo fermò di colpo e gli pose a bruciapelo la domanda ti ricordi quella volta dopo pranzo quando Dimitri fece irruzione in casa e picchiò nostro padre e poi io ti dissi in cortile che mi riservavo il diritto di desiderare dimmi allora pensasti o no che io volessi la morte di nostro padre lo pensai rispose pacato agli oscia e difatti era proprio così non c'era nulla da indovinare ma non ti venne pure in mente che io desiderassi proprio che un rettile divorasse l'altro e cioè che fosse Dimitri a uccidere anche al più presto e che io stesso era persino disposto a facilitare la cosa agli oscia impallidì leggermente e in silenzio guardò il fratello negli occhi parla su esclamò Ivan voglio sapere a qualunque costo che cosa pensasti in quel momento ne ho bisogno la verità la verità tirò il respiro a fatica guardando agli oscia con una sorta di rabbia ancora prima che quello rispondesse perdonami ma in quel momento pensai anche questo mormorò agli oscia e tacque senza aggiungere alcuna circostanza attenuante grazie rispose bruscamente Ivan e lasciando agli oscia proseguì svelto per la sua strada da quel momento agli oscia notò che il fratello Ivan aveva palesemente cominciato a evitarlo quasi quasi ad odiarlo tanto che egli stesso smise di andare a trovarlo ma subito dopo quell'incontro con lui Ivan Fyodorovich era tornato un'altra volta da Smerdiakov senza passare da casa la seconda visita di Smerdiakov a quel tempo Smerdiakov era già stato dimesso dall'ospedale Ivan Fyodorovich sapeva dove alloggiava adesso proprio in quella sbuccia sbilenca di travi divisa in due ambienti da un andito in uno si era sistemata Maria Contratevna con la madre e nell'altro Smerdiakov per proprio conto Dio solo sa in quali termini fosse la sua permanenza presso di loro viveva in casa loro gratis o a pagamento in seguito ipotizzarono che vivesse da loro in qualità di fidanzato di Maria Contratevna e che per il momento non pagasse un soldo sia la madre sia la figlia avevano gran stima di lui e lo consideravano di gran lunga superiore a loro dopo aver bussato Ivan Fyodorovich entrò nell'andito e dietro indicazione di Maria Contratevna andò direttamente a sinistra nell'isba bianca occupata da Smerdiakov quella stanza con una stufa ricoperta da piastrelle maiolicate era molto riscaldata alle pareti faceva bella mostra di sé una tapezzeria turchina molto lacera a dire il vero e sotto le spaccature brulicava un numero impressionante di scarafaggi tanto che nella stanza c'era un continuo fruscio di sottofondo il mobilio era ridotto all'essenziale due panche lungo le pareti e due sedie intorno al tavolo il tavolo invece seppure di legno modesto era ricoperto da una tovaglia a disegni rosa c'era un vasetto di gerani a entrambe le due finestrelle nell'angolo si vedeva una bacheca con le icone sul tavolo campeggiava un piccolo samovar di rame molto ammaccato e un vassoio con due tazze ma Smerdiakov aveva già preso il suo tè e il samovar era spento egli stava seduto al tavolo su una panca e chino su un quaderno tratteggiava qualcosa con la penna accanto al quaderno aveva un calamaio con l'inchiostro e un piccolo candeliere in ghisa con una candela stearica e bastò un'occhiata sul viso di Smerdiakov perché Ivan potesse concludere che si era ripreso completamente dalla malattia il suo viso era più fresco pieno il ciuffo era ben diritto i capelli sulle tempie ben impomatati indossava una vario pinta vestaglia imbottita piuttosto sudice consumata a dire il vero sul naso portava gli occhiali cose che Ivan Fyodorovich non gli aveva mai visto prima questo particolare insignificante raddoppiò di colpo la rabbia di Ivan Fyodorovich una canaglia di tal fatta eppure con gli occhiali Smerdiakov sollevò lentamente il capo e fissò lo sguardo attraverso gli occhiali sul visitatore poi se li levò pian pianino e si alzò dalla panca non certo con un'aria rispettosa ma con una certa indolenza giusto per osservare le norme elementari della creanza quelle inevitabili tutto questo colpì immediatamente Ivan che osservò e notò tutto all'istante soprattutto lo sguardo di Smerdiakov decisamente perfido ostile e perfino arrogante sembrava che volesse dire che viene ancora a ficcare il naso ci siamo già detti tutto che sei venuto a fare un'altra volta Ivan Fyodorovich riusciva a malapena a mantenere il controllo fa caldo qui disse restando in piedi e sbotolandosi il cappotto toglietevelo signore lo autorizzò Smerdiakov Ivan Fyodorovich si tolse il cappotto e lo gettò su una panca poi con le mani tremanti prese una sedia si accostò rapidamente al tavolo e si sedette Smerdiakov aveva fatto in tempo a lasciarsi cadere sulla sua panca prima di lui prima di tutto siamo soli domandò d'impeto Ivan Fyodorovich con aria severa non ci sentiranno dall'altra parte nessuno sentirà nulla signore avete visto voi stesso c'è l'andito ascolta caro che sciocchezza ti sei lasciato sfuggire mentre stavo andando via dall'ospedale che se io avessi tenuto la bocca chiusa sul fatto che sei un maestro nel simulare attacchi di epilessia tu non avresti riferito al giudice istruttore parola per parola la conversazione che avemmo avuto presso il portone che cosa significa parola per parola che cosa volevi sottintendere mi volevi minacciare forse che ho forse stipulato un'alleanza con te pensi che io abbia paura di te Ivan Fyodorovich disse tutto questo in un accesso di collera come per fargli intendere a chiare lettere che disprezzava ogni sottinteso e sotterfugio ma voleva giocare a carte scoperte gli occhi di Smerdiakov ebbero un lampo di risentimento l'occhio sinistro ammiccò e immediatamente seppure con i suoi soliti modi placidi e composti egli dette la sua risposta come a dire vuoi le carte in tavola e allora le avrai quello che allora avevo capito ed era per questo che vi parlai così era che voi sapendo in anticipo dell'assassinio di vostro padre lo avete abbandonato al suo destino e affinché la gente dopo l'accaduto non si facesse una cattiva idea dei vostri sentimenti e forse di qualcos'altro allora vi ho promesso di non dire nulla alle autorità gli occhi di Smerdiakov ebbero un lampo di risentimento l'occhio sinistro ammiccò e immediatamente seppure con i suoi soliti modi placidi e composti egli dette la sua risposta come a dire vuoi le carte in tavola e allora le avrai quello che allora avevo capito ed era per questo che vi parlai così era che voi sapendo in anticipo dell'assassinio di vostro padre lo avete abbandonato al suo destino e affinché la gente dopo l'accaduto non si facesse una cattiva idea dei vostri sentimenti e forse di qualcos'altro allora vi ho promesso di non dire nulla alle autorità anche se Smerdiakov parlava senza fretta e con autocontrollo tuttavia nella sua voce si avvertiva un che di determinato insistente risentito e insolentemente provocatorio e gli fissava sfacciatamente Ivan Fiodorovic al quale per un momento sembrò di non vederci più dalla rabbia come? ma che dici? ma ti ha dato di volta il cervello sono perfettamente in me signore perché credi che io sapessi del delitto? gridò infine Ivan Fiodorovic e sferrò un pugno sul tavolo che cosa vuol dire? e forse di qualcos'altro parla vigliacco Smerdiakov taceva e continuava a squadrare Ivan Fiodorovic con lo stesso sguardo strafottente parla scellerato fetente di quale qualcos'altro parlavi? strillò lui con qualcos'altro in quel momento intendevo dire che voi stesso forse desideravate molto la morte del vostro genitore allora Ivan Fiodorovic balzò in piedi e gli dette un pugno sulla spalla con tutta la forza che aveva tanto che quello andò a sbattere sulla parete e in un istante tutto il suo viso si era bagnato di lacrime e dopo aver detto che vergogna signore colpire un uomo malato si coprì gli occhi con il suo fazzoletto di cotone a quadretti blu sudicio di mocio e si lasciò andare a un pianto sommesso passò un minuto circa basta smettila gli disse imperiosamente alla fine Ivan Fiodorovic risedendosi al tavolo non mi far perdere anche l'ultimo briciolo di pazienza smerdiakov allontanò dal viso la sua pezzetta ogni piccolo tratto del suo viso rugoso rifletteva l'insulto appena subito così che tu bigliacco pensasti che io fossi in combutta con Dimitri per uccidere mio padre ignoravo i vostri pensieri di allora signore rispose smerdiakov con aria offesa ecco perché vi fermai quella volta mentre entravate dal portone per mettervi alla prova su questo punto signore per mettermi alla prova ma cosa dici per l'appunto su questa circostanza vuolevate o no che il vostro genitore fosse ucciso al più presto quello che turbava più di ogni cosa Ivan Fiodorovic era quel persistente tono di insolenza che smerdiakov si ostinava a non abbandonare sei stato tu a ucciderlo esclamò all'improvviso smerdiakov sorrise con aria di disprezzo che non sono stato io ad uccidere questo voi lo sapete con certezza e io pensavo che con un uomo intelligente non ci fosse bisogno di aggiungere altro argomento ma perché perché ti era venuto in mente un simile sospetto sul mio conto come ben sapete soltanto per paura signore già che mi trovavo in una situazione tale che tremando di paura sospettavo di tutti mi ero proposto di mettervi alla prova anche perché pensavo che se voi aveste voluto la stessa cosa di vostro fratello allora la cosa era bella e definita e io sarei stato schiacciato come una mosca guarda che due settimane fa non hai detto queste cose intendevo le stesse cose quando ero in ospedale solo che pensavo che voi avreste capito senza tanti giri di parole e che da uomo intelligente non avreste voluto parlarne apertamente signore ma vedi questo rispondi rispondi io insisto che cosa ho fatto in che modo ho potuto inculcare nella tua vile anima un sospetto così meschino quanto al delitto voi non avreste mai potuto commetterlo signore e non volevate nemmeno commetterlo ma quanto a desiderare che lo commettesse qualcun altro quello sì che lo volevate e con quanta calma con quanta calma parla ma perché avrei dovuto desiderarlo per quale motivo avrei dovuto desiderarlo per quale motivo signore che mi dite dell'eredità ribatte subito Smerdiakov velenosamente e come per vendicarsi infatti dopo la morte di vostro padre a ciascun fratello sarebbe andata la somma di 40.000 rubli e forse anche qualcosina di più mentre se Fiodor Paolovic si fosse sposato con quella signorina a Grafene Alessandrovna quella si sarebbe fatta intestare tutto il capitale a suo nome dopo le nozze già che la signorina è tutt'altro che stupida e a voi tre fratelli non sarebbero rimasti neanche un paio di rubli dopo la morte del genitore ed erano forse lontani dalle nozze soltanto un pelino signore se la signorina gli avesse soltanto agitato il mignolino sotto il naso quello sarebbe corso in chiesa dietro di lei con la lingua penzoloni Ivan Fiodorovic faceva un penoso sforzo per trattenersi va bene disse infine vedi non ti ho aggredito non ti ho picchiato non ti ho ucciso va avanti dunque secondo te io avevo destinato mio fratello Dimitri contavo su di lui e come non contare su di lui signore se lui avesse ucciso avrebbe perso tutti i diritti nobiliari i gradi e la proprietà e sarebbe stato deportato così la sua parte di eredità in seguito alla morte di vostro padre sarebbe andata in parti uguali a voi e a vostro fratello Alexei Fiodorovic cioè sarebbero stati non più 40.000 rubli ma 60.000 a testa signore non c'è dubbio che contavate su Dimitri Fiodorovic che cosa mi tocca sopportare da te ascolta mascalzone ammesso che allora avessi contato su qualcuno avrei certo contato su di te e non su Dimitri e ti giuro che avevo il presentimento di una turpe azione da parte tua allora ricordo l'impressione che ebbi anch'io pensai allora per un momento che voi contaste su di me sorrise beffertamente Smerdiakov ed è stato proprio con questo più che con qualunque altra cosa che vi siete smascherato ai miei occhi già che se avevate il presentimento che avrei fatto qualcosa e allo stesso tempo siete partito così facendo era come se mi voleste dire puoi uccidere il genitore e io non ti ostacolerò avvigliacco e fu così che capisti è stato proprio con quel viaggio a Ermaggnia signore ma su vi accingevate ad andare a Mosca e avevate detto no a tutte le richieste del genitore di andare a Ermaggnia e vi è bastata una mia stupida parola per farvi acconsentire immediatamente che ragione avevate di acconsentire per andare a Ermaggnia a quel punto se non siete andato a Mosca ma a Ermaggnia soltanto per una parola da me pronunciata vuol dire che vi aspettavate qualcosa da me no giuro di no strillò Ivan digrignando i denti come no signore allora per quelle mie parole voi in qualità di figlio del vostro genitore avreste dovuto portarmi alla polizia e suonarmi le sode o almeno riempirmi di pugni sul muso seduta stante mentre voi di grazia non vi siete affatto risentito ed avete in maniera amichevole eseguito di tutto punto quelle mie stupide parole e siete partito in che è stato veramente assurdo da parte vostra perché avreste dovuto salvaguardare la vita di vostro padre come potevo fare a meno di tirare le mie conclusioni Ivan sedeva imbronciato con i pugni stretti convulsamente sulla ginocchia sì peccato che non ti abbia preso a pugni sul muso sorrisa manamente alla polizia non avrei potuto trascinarti allora chi mi avrebbe creduto e come avrei potuto provarlo invece con i pugni sul grugno peccato che non intuì anche se i pugni sono vietati dalla legge avrei ridotto in poltiglie il tuo brutto ceffo smerdiagov lo guardava persino con volutà nei normali casi della vita incominciò a dire con quello stesso tono compiacente sentenzioso con il quale era solito disquisire di fede con Grigori vasilievic per stuzzicarlo quando servivano a tavola Fiodor Paolovic nei normali casi della vita i pugni sono davvero vietati dalla legge oggigiorno e la gente ha smesso di picchiare mentre nelle occasioni speciali della vita non soltanto da noi ma in tutto il mondo persino nella più avanzata repubblica francese tutti continuano a picchiare ugualmente come ai tempi di Adamo ed Eva e non smetteranno mai mentre voi nemmeno in un caso eccezionale osaste farlo signore a che ti serve imparare i vocaboli francesi Ivan accennò con la testa al quadernetto che giaceva sul tavolo e perché non dovrai imparare per migliorare la mia cultura visto che anch'io un giorno potrei capitare in quei luoghi felici dell'Europa ascolta mostro gli occhi di Ivan lampeggiavano e lui tremava tutto io non temo le tue accuse testimoni a quello che vuoi contro di me e se adesso non ti ho picchiato a morte è soltanto perché ti sospetto di questo omicidio e ti trascinerò davanti alla giustizia riuscirò a smascherarti secondo me signore fareste meglio a tacere già che di che cosa mi potreste accusare considerando la mia innocenza assoluta e chi vi crederebbe solo se comincerete voi per primo io racconterò tutto perché come altro potrei difendermi tu pensi che io abbia paura di te ammesso che i giudici non dovessero credere a tutto quello che vi ho appena detto in compenso ci crederà l'opinione pubblica e voi sareste svergognato signore questo vale a dire ancora una volta che anche due chiacchiere sono interessanti con un uomo intelligente vero? disse Ivan digrignando vostra signoria ha colto perfettamente nel segno e voi di certo sarete intelligente Ivan Fiodorovici si alzò tremando per la rabbia dalla testa ai piedi indossò il cappotto e senza più replicare a Smerdyakov persino senza degnarlo di uno sguardo uscì velocemente dalla stanza la fresca aria della sera lo rincuorò nel cielo splendeva la luna un terribile incubo di pensieri e sensazioni ribolliva nella sua anima andare a denunciare immediatamente Smerdyakov ma denunciarlo di cosa? egli dopo tutto è innocente sarà lui invece ad accusare me infatti per quale motivo sono andato a Hermaschini a quella volta? perché? perché? si domandava Ivan Fiodorovici sì certo io mi aspettavo qualcosa ragione lui egli sovvenne per la centesima volta quell'ultima notte che aveva trascorso a casa del padre quando era sceso per le scale per origliare quello che faceva ma quel ricordo gli procurò un dolore tale che rimase persino bloccato sul posto come trafitto sì io me lo aspettavo è vero io volevo io proprio lo volevo quell'assassinio ma l'ho voluto quell'assassinio l'ho voluto davvero? bisogna uccidere Smerdiakov se non avrò il coraggio di ammazzare adesso Smerdiakov allora non vale la pena di vivere Ivan Fiodorovic senza passare da casa si recò direttamente da Caterina Ivanovna e la spaventò con la sua apparizione si comportava come un pazzo la riferì tutta la conversazione avuta con Smerdiakov tutta per filo e per segno non riusciva a calmarsi per quanto quella cercasse di persuaderlo e continuava a camminare per la stanza e a parlare in maniera sconnessa strana finalmente si sedette poggiò i gomiti sul tavolo inclinò il capo su tutte e due le mani e pronunciò uno strano aforisma se non ha ucciso Dmitri ma Smerdiakov allora io condivido la sua colpa già che io l'ho aizzato se l'ho aizzato davvero questo non lo so ma se l'assassino è lui e non Dmitri allora anche io sono l'assassino udito questo Caterina Ivanovna si alzò in silenzio andò sulla sua scrivania aprì una scatolina estrasse un foglio e lo mise sotto gli occhi di Ivan quel foglio di carta era il documento del quale Ivan Fiodorovic aveva parlato ad Alyosha definendolo una prova matematica che il fratello Dmitri aveva ucciso suo padre si trattava di una lettera indirizzata a Caterina Ivanovna scritta da Mitia in stato di ubriachiezza quella sera in cui in aperta campagna aveva incontrato Alyosha che si recava al monastero dopo la scenata a casa di Caterina Ivanovna quando questa era stata oltraggiata da Grushenka quella sera dopo aver lasciato Alyosha Mitia aveva tutte le intenzioni di precipitarsi da Grushenka non si sa se l'avesse vista o no ma la sera inoltrata si era trovato nella trattoria La Capitale dove si era preso una sbronza con i fiocchi ubriaco aveva chiesto carta e penna e aveva buttato giù un documento che avrebbe avuto un gran peso nella sua vita era una lettera farneticante logorroica e incoerente insomma da ubriaco era come blaterare di un ubriaco che tornato a casa comincia a raccontare con gran fervore a sua moglie o a qualcuno di casa di come lo abbiano appena insultato di quanto fosse farabutto il suo aggressore e di come al contrario fosse stato magnifico lui e di come gliela avrebbe fatta pagare a quel farabutto e tutto questo con un lunghissimo sproloquio con grande eccitazione ed incoerenza frappugni sul tavolo e lacrime da ubriaco la carta che gli avevano procurato in trattoria era un fogliaccio lurido di carta da lettera di pessima qualità e sul retro era assegnato persino qualche conto evidentemente non c'era spazio a sufficienza per la sua favella da ubriaco e mitia non solo aveva riempito i margini ma aveva scritto anche le ultime righe di traverso alle altre la lettera aveva il seguente contenuto fatale katia domani mi procurerò il denaro e ti restituirò i 3000 rubli addio donna dall'ira formidabile ma addio anche al mio amore finiamola qui domani cercherò di procurarmi il denaro presso tutte le persone che conosco e se non ci riuscirò ti do la mia parola d'onore che andrò da mio padre gli fracasserò il cranio e gli prenderò i soldi da sotto il cuscino purché Ivan se ne sia andato a costa di finire in prigione ti restituirò i 3000 quanto a te addio mi inginocchio fino a terra già che sono un mascalzone dinnanzi a te perdonami anzi è meglio che non mi perdoni sarà più facile per me e per te meglio la deportazione che il tuo amore dal momento che amo un'altra e tu l'hai conosciuta sin troppo bene oggi allora come potresti perdonarmi ucciderò colui che mi ha derubato me ne andrò in oriente e vi abbandonerò tutti per non vedere più nessuno anche lei Giacchito non sei la mia unica tormentatrice c'è pure lei addio l'ho scritto scrivo queste maledizioni ma ti adoro lo sento nel mio cuore è rimasta solo una corda ed essa vibra meglio un cuore infranto mi ucciderò ma prima devo uccidere quella carogna gli ruberò i 3000 pezzi e li getterò a te sebbene sia stato un mascalzone con te non sono un ladro aspetta quei 3000 quella carogna sotto il materasso ha un nastrino rosa io non sono un ladro ma ucciderò colui che mi ha derubato Katia non guardarmi con disprezzo Dimitri non è un ladro ma un assassino ha ucciso suo padre e ha rovinato se stesso per prestar fede a una promessa e non dover sopportare la tua fierezza e non doverti amare pos pos scritto ti bacio i piedi addio pos 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 scritto Katia prega a Dio che la gente mi dia i soldi perché in questo caso non mi macchierò di sangue altrimenti mi macchierò di sangue uccidimi tuo schiavo e nemico Dimitri Karamazov dopo aver letto il documento egli si convinse quindi era stato il fratello e non Smerdiakov a uccidere e se non era stato Smerdiakov allora non era stato neanche lui quella lettera ai suoi occhi aveva assunto a un tratto il valore di una prova matematica adesso non poteva avere più dubbi sulla colpevolezza di Mitia nel resto mi sospetto che Mitia potesse aver ucciso in combutta con Smerdiakov non spiorò nemmeno Ivan perché non trovava corrispondenza nei fatti Ivan si tranquillizzò del tutto il mattino seguente provava soltanto disprezzo quando gli risorveniva il ricordo di Smerdiakov e delle sue allusioni qualche giorno dopo si meravigliava persino di come avesse potuto offendersi per i suoi sospetti egli decise di disprezzarlo e dimenticarlo così passò un mese di Smerdiakov non chiedeva nemmeno più notizie a nessuno ma un paio di volte di sfuggita aveva sentito dire che era molto malato fuori di senno finirà con l'impazzire aveva detto di lui una volta il giovane medico Varvinsky e Ivan se ne ricordò nell'ultima settimana anche Ivan aveva cominciato a sentirsi molto male era andato persino a consultare il dottore che Caterina Ivanovna aveva mandato a chiamare da Mosca e proprio in quel periodo i suoi rapporti con Caterina Ivanovna si erano molto inaspriti erano come due nemici innamorati l'uno dell'altra i ritorni di Caterina Ivanovna a Mitia brevi ma impetuosi stavano conducendo Ivan alla follia più completa era strano che fino all'ultima scena a casa di Caterina Ivanovna da noi descritta quando Agliosha si era recato da lei dopo la visita a Mitia egli Ivan non le aveva mai sentito pronunciare dubbi sulla colpevolezza di Mitia malgrado tutti i ritorni di lei che lui aveva tanto in odio è pure da notare che mentre sentiva di odiare Mitia ogni giorno di più egli si rendeva conto che non erano i ricordi di Katia la causa di quell'odio no lui odiava il fratello proprio perché aveva ucciso il padre si rendeva conto di questo e lo ammetteva senza riserve non di meno una decina di giorni prima del processo era andato da Mitia e gli aveva proposto un piano di fuga un piano evidentemente meditato a lungo a far questo lo aveva in parte indotto una ferita non rimarginata che una parolina di Smerdiakov aveva aperto nel suo cuore secondo la quale per lui per Ivan sarebbe stato vantaggioso che incriminassero il fratello dal momento che l'eredità del padre per lui e per la Gioscia sarebbe salita da 40 a 60 mila rubli egli aveva deciso di sacrificare 30 mila rubli di tasca sua per organizzare la fuga di Mitia di ritorno dal carcere quella volta egli si era sentito terribilmente triste e confuso aveva cominciato a rendersi conto all'improvviso di volere quella fuga non soltanto per sacrificare ad essa 30 mila rubli e far rimarginare così la ferita ma anche per un altro motivo forse perché nel mio intimo io sarai assassino quanto lui fece per domandarsi qualcosa di remoto ma accocente gli bruciava l'anima soprattutto il suo orgoglio per tutto quel mese aveva sofferto terribilmente ma di questo parleremo dopo quando dopo la conversazione con la Gioscia Ivan Fyodorovich aveva deciso all'improvviso con la mano sul campanello di casa sua di recarsi da Smerdiakov e gli aveva obbedito a un improvviso ed eccezionale impeto di indignazione che gli aveva infiammato il petto si era ricordato all'improvviso che Caterina Ivanovna in presenza di Agioscia gli aveva appena gridato sei stato tu soltanto tu a convincermi che lui cioè Mitia sia l'assassino da ricordare questo Ivan rimase di stucco non le aveva mai assicurato che l'assassino fosse Mitia al contrario aveva sospettato di se stesso in presenza di lei quella volta che era tornato dalla visita a Smerdiakov anzi era stata lei che aveva prodotto quel documento per dimostrare la responsabilità del fratello e a bruciapelo aveva pure gridato io stessa ho fatto visita a Smerdiakov quando c'era andata Ivan non ne sapeva nulla allora non era completamente convinta della colpevolezza di Mitia e che cosa aveva potuto dirle Smerdiakov che cosa che cosa esattamente le aveva detto un'ira terribile avvampò nel suo cuore non capiva come avesse potuto tollerare quelle parole mezz'ora prima e non gridare subito lasciò il campanello e corse da Smerdiakov lo ucciderò forse questa volta pensò durante il tragitto la terza e ultima visita a Smerdiakov quando fu arrivato a metà del tragitto si alzò quello stesso vento secco e pungente che aveva soffiato la mattina presto e una sottile fitta neve aciutta cominciò a cadere la neve non si depositava sul suolo il vento la faceva mulinare e ben presto si sollevò una tormenta in piena regola in quella parte della nostra città dove viveva Smerdiakov i lampioni mancavano quasi del tutto Ivan Fyodorovich avanzava nell'oscurità l'incurante della tempesta individuando la strada istintivamente gli doleva la testa e le tempie gli martellavano penosamente aveva i crampi alle mani questo lo sentiva nelle vicinanze della casa di Maria Contratevna Ivan Fyodorovich si imbattì all'improvviso in un ubriaco un contadinotto di bassa statura con una palandrana rattoppata che camminava a zigzag bofonchiava e imprecava ma di punto in bianco si mise a imprecare e intonò con la sua arrauca voce da ubriaco la canzone ah vanca Peter è andato io non lo aspetterò ma si incepava sempre su questa seconda strofa imprecava contro qualcuno e poi giù all'attrarre la stessa canzone da un pezzo Ivan aveva percepito un intensissimo odio verso quell'uomo ancora prima di formulare un pensiero preciso riguardo a lui quando finalmente si rese conto della sua presenza e gli prese l'irresistibile voglia di assestargli un bel pugno in quel momento si trovarono fianco a fianco e il contadino che barcollava sensibilmente andò a sbattere con tutta la forza contro Ivan questi lo respinse con furia il contadino fece un volo stramazzò al suolo gelato a corpo morto e lanciò un gemito di sofferenza ma solo uno oh oh dopo di che tacque Ivan gli si avvicinò quello giaceva su pino completamente immobile privo di conoscenza si congelerà pensò Ivan e proseguì verso l'abitazione di Smerdiakov sin dall'andito Maria Contratevna che era corsa ad aprirgli con la candela in mano gli aveva sussurrato che Pavel Fiodorovic cioè Smerdiakov era malato signore ma non che stesse a letto ma era come fuori di sé signore aveva persino ordinato di portare via il tè non ne aveva voglia che fa dai sbani eh domandò brutalmente Ivan Fiodorovic ma che al contrario è calmissimo signore solo cercate di non trattenerlo a lungo chiese Maria Contratevna Ivan Fiodorovic aprì la porta ed entrò la camera era surriscaldata come la volta precedente ma vi si potevano notare alcune modifiche era stata eliminata una delle panche laterali e sostituita da un vecchio divano di pelle e mogano sul quale era preparato un letto con dei cuscini bianchi abbastanza puliti sul letto sedeva Smerdiakov che indossava la stessa vestaglia dell'altra volta il tavolo era stato spostato avanti al divano e così nella stanza rimaneva pochissimo spazio sul tavolo giaceva un grosso libro dalla copertina gialla ma Smerdiakov non stava leggendo sembrava che stesse seduto a far niente accolse Ivan Fiodorovic con un lungo e silenzioso sguardo e a quanto pareva non era affatto meravigliato del suo arrivo ma era molto dimagrito e ingiallito aveva gli occhi incavati e le occhiaie livide beh sei davvero malato Ivan Fiodorovic si arrestò non ti tratterrò a lungo non mi leverò nemmeno il cappotto dove mi posso sedere egli andò dall'altro capo del tavolo vi accostò una sedia e si sedette perché mi guardi e stai zitto sono venuto solo per farti una domanda e giuro che non me ne andrò finché non mi avrai risposto la signorina Caterina Ivanovna è venuta a trovarti smerdiacov tacque per un pezzo e continuava a guardare Ivan placidamente ma ad un certo punto agitò la mano e voltò la faccia dall'altra parte chi ti prende esclamò Ivan niente come niente si è venuta ma non vi riguarda lasciatemi in pace no non ti lascio in pace dimmi quando è venuta parla beh mi ero proprio dimenticato di lei sorrise sprezzantemente smerdiacov e di scatto voltato il capo verso Ivan lo fissò con uno sguardo carico di odio furioso lo stesso sguardo del loro incontro di un mese prima anche voi siete malato mi sembra avete il viso infossato non sembrate più voi disse ad Ivan lascia perdere la mia salute rispondi alle domande e come mai vi si sono ingialliti gli occhi avete il bianco degli occhi completamente giallo soffrite molto vero sorrise con disprezzo e ad un tratto scoppiò addirittura ridegli in faccia ascolta ti ho detto che non me ne sarei andato senza ricevere una risposta vedò Ivan il colmo della sasperazione ma perché mi infastidite signore perché mi tormentate disse smerdiacov con sofferenza ah al diavolo io non ho niente a che spartire con te rispondi alla domanda e io me ne andrò subito non ho niente da rispondervi replicò smerdiacov abbassando nuovamente il capo ti garantisco che ti costringerò a rispondere ma perché vi agitate tanto smerdiacov lo fissò non tanto con disprezzo quanto con disgusto è perché il processo comincia domani ma a voi non accadrà nulla convincetevi di questo andate a casa coricatevi tranquillo non temete nulla non ti capisco di che cosa dovrei aver paura articolò Ivan stupito e una sorta di terrore gli alitò per davvero una folata di freddo nell'anima smerdiacov lo squadrò da capo a piedi non capite pronunciò lentamente in tono di rimprovero che gusto ci prova un uomo intelligente come voi a mettersi a recitare una simile farsa Ivan lo guardava in silenzio il tono stesso inatteso e straordinariamente presuntuoso con il quale il suo ex lacchè osava rivolgergli si era qualcosa di incredibile un tono che non aveva avuto neanche durante il loro incontro precedente vi dico che non avete nulla da temere non dirò nulla contro di voi non esistono prove guardate come vi tremano le mani come mai le dita si muovono in quel modo andate a casa non siete stato voi ad uccidere Ivan trasalì e gli sovvenne il ricordo di agli oscia lo so che non sono stato io fece per balbettare lo sapete rinduzzò nuovamente Smerdyakov Ivan scattò in piedi e lo afferrò per le spalle di tutto serpente di tutto parla Smerdyakov non si spaventò per nulla si limitò a puntare gli occhi su di lui con un odio insano allora siete stato voi ad uccidere se stanno così le cose gli sussurro con rabbia Ivan si lasciò cadere sulla sedia come se stesse riflettendo su qualcosa sorrise perfidamente stai parlando di quello che accadde allora di quello che hai detto la scorsa volta sì anche la volta scorsa stavate dinanzi a me e capivate ogni cosa come capite adesso capisco soltanto che sei pazzo ma non vi siete stancato stiamo qui faccia a faccia perché continuare a prendersi in giro a recitare la commedia state ancora tentando di gettare tutta la colpa solo su di me sotto il mio naso voi avete ucciso voi siete l'assassino principale io sono stato soltanto il vostro strumento il fedele servo l'iciarda e ho eseguito il mio compito secondo le vostre parole eseguito perché sei stato tu a uccidere si ragionò Ivan qualcosa sobbalzò nel suo cervello e un tremore fitto e gelido cominciò a correre per tutto il corpo allora Smerdyakov stesso lo guardò stupito forse la genuinità dell'orrore di Ivan lo aveva colpito sul serio non vorreste dire che davvero non ne sapevate nulla belbetò incredulo guardandolo con un sorriso forzato Ivan continuava a guardarlo era come se gli avessero mozzato la lingua ah van capiter è andato e io non lo aspetterò gli risuonò tutto ad un tratto questo ritornello nella testa sai che cosa ho paura che tu sia un sogno un fantasma seduto davanti a me belbetò qui non c'è nessun fantasma signore a parte noi due e un altro senza dubbio lui si trova qui in questo momento questo terzo qui fra noi due chi è dove si trova chi è questo terzo domandò Ivan spaventato guardandosi attorno e cercando qualcuno con gli occhi da tutte le parti questo terzo è Dio signore la provvidenza in persona è qui adesso accanto a noi ma non vi mettete a cercarlo non lo troverete tu mentivi dicendo che hai ammazzato strilò infuriato Ivan o sei impazzito o mi stai prendendo in giro di nuovo come la volta scorsa Sverdyakov niente affatto spaventato lo osservava incuriosito non riusciva a superare la propria incredulità la convinzione cioè che Ivan sapesse tutto e stesse facendo soltanto la commedia per scaricare tutta la colpa su di lui sotto il suo naso aspettate signore disse lui infine con la voce fiocca e ad un tratto sollevando la gamba sinistra da sotto il tavolo si mise ad arrotolare in su i pantaloni portava pantofole e lunghi calzettoni bianchi senza fretta Sverdyakov si levò l'elastico e infilò le dita dentro la calza Ivan Fyodorovic lo guardava e ad un tratto trasalì in un parossismo di terrore pazzo gridò e saltato in piedi arretrò fino ad andare a sbattere con la schiena al muro aderendo contro di esso tanto era rigido e dritto guardava Sverdyakov con terrore insano questi per nulla turbato dal terrore dell'altro continuava ad affondare la mano nel calzino come nel tentativo di afferrare e tirar fuori qualcosa con le dita finalmente ci riuscì Ivan Fyodorovic vide che si trattava di pezzi di carta o di un mazzetto di fogli Sverdyakov li estrasse e li mise sul tavolo ecco qui signore disse calmo che cos'è domandò per tutta risposta Ivan tremando fatemi la cortesia di darci un'occhiata rispose Sverdyakov con imperturbabile calma Ivan avanzò verso il tavolo fece per prendere il mazzetto e cominciò a svolgerlo ma ad un tratto ritrasse le dita come se avesse toccato qualcosa di ripugnante un rettile rivoltante avete le dita che vi tremano le convulsioni osservò Sverdyakov e senza fretta svolse il pacchetto sotto l'involucro c'erano tre pacchetti di banconote iridati da cento rubli ci sono tutti signore tutti e tremila non occorre che li contiate prendeteli signore suggerì a Ivan indicandogli i soldi Ivan si lasciò cadere sulla sedia era bianco come un lenzuolo mi hai spaventato con quella calza disse con uno strano sorriso può essere può essere che lo avete scoperto soltanto adesso gli domandò ancora una volta Sverdyakov no non lo sapevo ho sempre pensato a Dmitri fratello fratello ah si afferrò la testa con tutte e due le mani ascolta lo hai ucciso da solo con o senza la complicità di mio fratello soltanto con la vostra complicità signore l'ho ucciso insieme a voi ma Dmitri Fiodorovic è davvero innocente signore va bene va bene di me parleremo dopo ma perché tremo in questo modo non riesco nemmeno a parlare eravate molto ardito allora signore dicevate tutto è permesso mentre adesso che paura avete formolò smerdyakov stupito non gradireste una limonata ve la ordino subito signore vi rinfrescherà solo che sarebbe meglio nascondere questo indicò un'altra volta ai mazzetti delle banconote aveva fatto per muoversi verso la porta per dire a Maria contra tecna di preparare e portare una limonata ma nel tentativo di nascondere con qualcosa quei soldi in modo che lei non li vedesse tirò fuori per prima cosa il fazzoletto ma dal momento che quello ancora una volta era risultato impiastricciato di moccio allora prese l'unico oggetto che stava sul tavolo quel voluminoso libro giallo che Ivan aveva notato entrando e gli ficò dentro i soldi il titolo del libro era i detti del nostro santo padre Isacco di Siro Ivan Fiodorovic fece in tempo a leggere macchinalmente il titolo non voglio la limonata disse di me parleremo dopo si editi e dimmi come hai fatto dimmi tutto vostra signoria farebbe meglio a levarsi il cappotto altrimenti suderete troppo Ivan Fiodorovic come se lo avesse pensato soltanto adesso si levò il cappotto di dosso e senza togliersi dalla sedia lo gettò sulla panca parla per favore parla sembrava più calmo aspettava sicuro che Smerdiakov adesso avrebbe raccontato tutto su come è stato fatto tutto signore sospirò Smerdiakov è stato fatto tutto nella maniera più naturale in conformità alle vostre stesse parole delle mie parole parleremo dopo lo interruppe ancora una volta Ivan questa volta senza gridare ma articolando con sicurezza le parole e si sarebbe detto con il più perfetto autocontrollo devi soltanto scendere nei dettagli di come hai fatto tutto procedi per ordine non dimenticare nulla i dettagli soprattutto i dettagli ti prego voi siete partito io sono caduto in cantina signore a causa di un vero attacco di epilessia o stavi simulando stavo simulando è ovvio signore ho simulato tutto sono sceso pian pianino dalle scale sino in fondo poi pian pianino mi sono sdraiato e una volta sdraiato mi sono messo a strillare signore e mi sono dibattuto finché non mi hanno trasportato fuori ferma per tutto il tempo anche in seguito anche in ospedale simulavi niente affatto signore il giorno successivo di mattina ancora prima del ricovero in ospedale mi ha colpito un vero attacco erano anni che non ne avevo uno così forte per due giorni di seguito sono rimasto completamente privo di conoscenza va bene va bene va avanti mi stesero sulla branda e io sapevo di stare dietro il tramezzo perché Marfa Ignatevna tutte le volte che io mi ammalo mi fa sempre passare la notte dietro quel tramezzo nella loro camera signore è sempre stata amorevole da quando sono nato signore di notte gemevo ma piano piano intanto aspettavo Dimitri Fiodorovic come lo aspettavi aspettavi che venisse da te a che scopo doveva venire da me aspettavo che entrasse in casa dal momento che non avevo più il minimo dubbio che sarebbe venuto quella notte stessa da che a corto di notizie in seguito della mia assenza si sarebbe sicuramente infilato in casa attraverso il recinto come era solito fare signore per combinare qualcosa e se non fosse venuto e se non fosse venuto allora non sarebbe accaduto nulla senza di lui non mi sarei mai deciso signore va bene va bene parla in modo più chiaro soprattutto non andare di fretta e non tralasciare nulla aspettavo che lui uccidesse Fiodor paulovic signore lo davo per scontato perché lo avevo preparato per questo negli ultimi giorni e soprattutto perché adesso conosceva i segnali con tutta la diffidenza e la rabbia che aveva accumulato in quei giorni era inevitabile che sarebbe penetrato in casa a quei segnali signore ferma lo interruppeva ma se lui l'avesse ucciso avrebbe preso i soldi e sarebbe fuggito questo dovevi considerarlo che cosa ci avresti ricavato tu allora non capisco ma il fatto è che lui i soldi non li avrebbe mai trovati signore ero stato io a insegnargli che i soldi erano sotto il materasso solo che non era vero signore prima stavano in una scatola ecco e poi suggerì a Fiodor paulovic e io ero l'unica persona al mondo della quale si fidava di trasferire il plico con i soldi nell'angolino dietro le icone perché lì nessuno avrebbe pensato di guardare soprattutto se fosse passato in fretta e furia così quel plico si trovava proprio nell'angolino delle icone della sua stanza sarebbe stato così ridicolo tenerlo sotto il materasso anche se si poteva chiudere la scatola a chiave e invece tutti hanno creduto che i soldi stessero sotto il materasso una stupida conclusione signore così se Dmitri Fiodorovic avesse commesso il delitto non trovando nulla sarebbe scappato spaventato dal minimo rumore come sempre accade agli assassini oppure sarebbe stato arrestato signore in modo tale che il giorno dopo oppure quella notte stessa mi sarei arrampicato sino alle icone e avrei sottratto i soldi e tutta la colpa sarebbe comunque ricaduta su Dmitri Fiodorovic potevo sempre contare su questo e se lui non lo avesse ammazzato ma lo avesse soltanto picchiato se non lo avesse ammazzato io certo non avrei avuto il coraggio di prendere i soldi e sarebbe stato tutto inutile ma avevo anche calcolato che lo avrebbe picchiato fino a fargli perdere i sensi allora io nel frattempo mi sarei precipitato a prendere i soldi poi avrei convinto Fiodor Paolovic che non era stato altro che Dmitri Fiodorovic a picchiarlo e a sottrargli i soldi ferma sto perdendo il filo dunque è stato Dmitri a uccidere mentre tu hai preso soltanto i soldi no non è stato lui ad uccidere beh avrei potuto dirvi anche adesso che è lui l'assassino ma non voglio mentire davanti a voi ora perché perché se voi davvero come capisco adesso non avete compreso nulla fino ad ora e non avete recitato la commedia davanti a me per scaricare la vostra innegabile colpa su di me sotto il mio stesso naso voi siete pur sempre colpevole di tutto cioè che sapevate dell'omicidio mi avete incaricato di uccidere eppure al corrente di tutto siete partito e così questa sera voglio dimostrarvi che siete voi l'unico vero assassino in tutta questa storia mentre io non sono il vero assassino anche se ho ucciso siete proprio voi il vero assassino legittimo ma perché perché sarei io l'assassino oh Dio mio non riuscì infine a trattenersi Ivan dimentico che si era proposto di rimandare alla fine la conversazione che lo riguardava in prima persona è tutto per il fatto di Ermashnia aspetta ma che ti serviva il mio consenso se avevi già preso la mia partenza per Ermashnia come un consenso come me lo spieghi questo assicurato dal vostro consenso avrei saputo che una volta tornato non avreste sollevato Baccano per la scomparsa di quei 3000 rubli se per qualche ragione le autorità avessero sospettato di me invece che di Dimitri Fiodorovic oppure della mia complicità con lui anzi mi avreste difeso dagli altri dopo aver ricevuto l'eredità poi mi avreste potuto ricompensare per tutto il resto della vita perché solo grazie a me sareste entrato in possesso di una tale eredità mentre se quello si fosse sposato con Grafena Alessandrovna voi sareste rimasto con un palmo di naso ah così avevi intenzione di tormentarmi anche per il resto della vita disse digrignando i denti e che sarebbe successo se non me ne fossi andato allora e ti avessi denunciato e su che base potevate denunciarmi dicendo che avevo tentato di convincervi ad andare a Armashnia questa è solo una sciocchezza inoltre dopo la nostra conversazione voi potevate andare se fosse rimasto non sarebbe accaduto nulla io avrei capito che la cosa non vi andava a genio e non avrei intrapreso nulla ma dal momento che siete andato via era come se mi aveste dato la garanzia che non avreste mai osato deporre contro di me al processo e che mi avreste abbonato quei 3000 rubli e poi non avreste mai potuto deporre contro di me perché allora al processo io avrei raccontato ogni cosa cioè non che avevo rubato e ucciso questo non lo avrei detto ma che voi stesso mi avevate istigato a rubare e uccidere mentre io non avevo accettato ecco perché avevo bisogno del vostro consenso perché voi in seguito non aveste modo di mettermi con le spalle al muro perché che prova avreste avuto mentre io avrei sempre potuto mettervi alle strette rivelando con quanta impazienza volevate che vostro padre morisse e vi dico che l'opinione pubblica ci avrebbe creduto e voi sareste stato svergognato per tutta la vita così io avevo avevo questa impazienza l'avevo davvero? domandò Ivan digrignando ancora una volta i denti senza dubbio l'avevate e mi avete dato il permesso di concludere la faccenda signore Smerdakov lanciò uno sguardo risoluto a Ivan era molto debole e parlava lentamente esausto ma qualche celata forza interiore lo infiammava evidentemente aveva qualche piano in mente vi vannebbe il presentimento va avanti gli disse dimmi che cosa successe poi quella notte che altro c'è da dire? ecco me ne stavo sdraiato e mi sembrò di sentire il padrone gridare Grigoli Vasilievici si era già alzato da prima era uscito aveva lanciato un urlo e poi era seguito il silenzio il buio rimanevo sdraiato aspettavo il cuore mi batteva non riuscivo a resistere alla fine mi alzai e mi avviai signore sulla sinistra vidi la finestra del padrone che dava sul giardino aperta e allora andai verso sinistra per accertarmi se quello fosse vivo o no ad un tratto senti il padrone che andava avanti e indietro fra i gemiti dunque era vivo signore eh pensai mi avvicinai alla finestra e gridai al padrone sono io e quello mi fece è stato qui è stato qui è scappato adesso quindi dimitri fiodorovic si era stato davvero signore ha ucciso grigori dove gli sussurrai là nell'angolo e mi indicò il posto sussurrando anche lui aspettate disse io andai verso l'angolo del giardino per dare un'occhiata e inciampai in grigori vasilievic che giaceva per terra presso il muro in mezzo al sangue privo di conoscenza allora era vero che dimitri fiodorovic era venuto fu questo il pensiero che mi balenò alla mente e di punto in bianco decisi di farlo subito finita signore dal momento che grigori vasilievic ammesso che fosse stato ancora vivo privo di conoscenza com'era per il momento non avrebbe visto nulla c'era soltanto un rischio che si svegliasse inaspettatamente marfa inatevna me ne rendevo conto in quel momento ma il desiderio di farla finita mi sopraffece tanto che riuscivo astento a respirare tornai alla finestra del padrone e dissi lei è qui agrafena alexandrovna è arrivata vuole entrare e quello trasse lì come un bimbetto dove qui dove si agitava con il fiatone ancora incredulo è lì aprite gli dissi io mi guardava attraverso la finestra e non sapeva se crederci o non crederci ma aveva paura di aprire aveva paura anche di me credo e sembrerà ridicolo pensai di bussare sul telaio della finestra proprio i segnali che indicavano l'arrivo di Grushenka lì sotto il suo naso alle parole non aveva creduto ma quando battei quei segnali corse subito ad aprire la porta aprì io feci per entrare ma lui restava impalato si parava con tutto il corpo davanti all'ingresso e non mi lasciava entrare dov'è lei dov'è lei mi guardava e fremeva beh pensai io se ha davvero tutta questa paura di me brutto affare e in quel momento mi sentii indebolire le gambe per la paura io stesso temevo che non mi lasciasse entrare nella stanza o che si mettesse a gridare o che accorresse Marfagnatevna o che accadesse qualche altro imprevisto non ricordo neanche io in che stato fossi ma in quel momento dovevo essere pallido come un cencio là davanti a lui gli sussurrai ma è lì sotto la finestra come fate a non vederla e tu portamela qui portamela qui ma ha paura le grida ma ha paura le grida l'hanno spaventata si è nascosta fra i cespugli andate a chiamarla voi stesso dallo studio gli feci io lui corse si avvicinò alla finestra mise una candela sul davanzale e gridò Grushenka Grushenka sei qui gridava ma non voleva sporgersi dalla finestra non voleva allontanarsi da me perché era terrorizzato era così impaurito che non osava darmi le spalle eccola lì disse io mi avvicinai alla finestra e mi sporsi con tutto il corpo eccola lì fra i cespugli sta ridendo verso di voi vedete ci credette subito un fremito lo percorse da capo a piedi era follemente innamorato di lei e così si sporse anche lui con tutto il corpo dalla finestra allora io afferrai quello stesso fermacarte di gisa che teneva sulla scrivania ricordate peserà un chilo e mezzo e standogli alle spalle lo colpì dritto in testa con lo spigolo lui non gridò neppure si accasciò di colpo e io lo colpì una seconda e una terza volta al terzo colpo capì di avergli fracassato il cranio stramazzò bruscamente con il viso verso l'alto tutto insanguinato mi guardai attorno non avevo tracce di sangue addosso neanche uno schizzo pulì il fermacarte e lo misi al suo posto andai nell'angolo delle icone estrassi il denaro dal plico dettai il plico sul pavimento e il nastro rosa lì accanto uscì in giardino tutto tremante puntai dritto verso il melo quello con la cavità voi la conoscete quella cavità l'avevo adocchiata da un pezzo vi avevo già preparato uno straccetto e della carta avvolsi la somma prima nella carta poi nello straccetto e infilai l'involto nella cavità in fondo è rimasto lì per più di due settimane quel denaro signore poi dopo l'ospedale lo andai a prendere tornai a letto mi coricai e pensavo terrorizzato se Grigori è rimasto ucciso per me potrebbero essere guai ma se non è morto e si riprende per me sarà perfetto perché allora lui testimonierà che è venuto Dmitri Fiodorovic e che è stato lui ad ammazzare e rubare i soldi allora cominciai a lamentarmi per l'attesa e l'impazienza affinché Marfa Pagnatevna si svegliasse al più presto finalmente si alzò si precipitò da me poi si accorse che Grigori Vasilievich non c'era corse fuori e udì le sue grida dal giardino e questo dette il via a tutti gli eventi successivi di quella notte e io mi potei tranquillizzare il narratore si fermò Ivan lo aveva ascoltato per tutto il tempo in un silenzio di tomba senza muoversi e senza abbandonarlo con lo sguardo Smerdiakov invece nel corso del racconto lo aveva guardato solo di tanto in tanto ma per lo più guardava da un'altra parte quando ebbe finito era evidentemente agitato e respirava a fatica aveva il viso sudato ma sarebbe stato impossibile indovinare se fosse pentimento o qualcos'altro quello che provava aspetta intervenne al volo Ivan assorto e la porta se aveva aperto la porta soltanto a te come aveva fatto Grigori a vederla aperta prima che tu arrivassi perché Grigori l'ha vista prima che arrivassi tu è da notare che Ivan parlava con il più pacato dei toni con un tono persino radicalmente diverso non ha dirato come prima tanto che se qualcuno avesse aperto in quel momento e li avesse sbirciati avrebbe sicuramente concluso che stessero tranquillamente parlando di qualche argomento normale seppure interessante quanto a quella porta e al fatto che a Grigori sembra di averla vista aperta quello è solo frutto della sua immaginazione Smerdiakov abbozzò un biego sorriso quello non è un uomo ve lo assicuro è un mulo ostinato anche se non ha visto ma ha solo immaginato di vedere comunque non sa più verso di smuoverlo per noi è una vera fortuna che si sia fatto questa convinzione perché non possono fare a meno di incriminare Dmitri Fiodorovic dopo una testimonianza del genere ascolta disse Ivan Fiodorovic con l'aria di chi si sta smarrendo un'altra volta e si sforza di concentrarsi su qualche pensiero ascolta volevo domandarti molte cose ma le ho dimenticate continua a dimenticare e a perdere il filo sì dimmi ancora questo perché hai aperto il plico e lo hai lasciato per terra perché non ti sei portato via tutto il plico mentre raccontavi mi sembrava che ne parlassi come se fosse la cosa giusta da fare ma perché non riesco a capire l'ho fatto per un'ottima ragione signore infatti se un uomo al corrente di tutto è familiare alla casa uno come me per esempio uno che avesse visto quei soldi in precedenza li avesse lui stessi inseriti nel plico e avesse visto con i propri occhi sigillare e intestare la busta se un tale uomo appunto avesse commesso l'assassinio avrebbe mai lacerato il plico dopo l'omicidio specialmente con quella maledetta fretta considerato che sapeva per certo che i soldi si trovavano nella busta no se il ladro fosse stato uno come me si sarebbe semplicemente messo la busta in tasca senza aprirla e se la sarebbe filata a gambe elevate signore mentre uno come Dimitri Fiodorovic si sarebbe comportato in modo del tutto diverso egli sapeva di quel plico solo per sentito dire non lo aveva mai visto e se per esempio lo avesse trovato sotto il materasso lo avrebbe immediatamente dissigillato per controllare che ci fossero effettivamente i soldi e avrebbe gettato il plico per terra senza pensare che sarebbe stata una prova contro di lui egli infatti non è un ladro abituale e in precedenza non ha mai rubato direttamente qualcosa egli è un nobile di nascita e se in quel momento si era deciso a rubare era solo perché per lui quello non significava rubare ma riprendersi denaro proprio come era andato a sbandierare i quattroventi per tutta la città in precedenza e si era persino pubblicamente vantato di fare dicendo che sarebbe andato da Fiodor Paolovic e gli avrebbe sottratto il proprio denaro durante l'interrogatorio ho esposto questo mio pensiero al procuratore non apertamente ma per allusioni ho finto di non capire bene neanch'io e gli ho lasciato credere che fosse stato lui a pensarci per primo e che non fossi stato io a suggerire tanto che il signor procuratore aveva persino l'acquolina in bocca per questa mia allusione o signoria ma come hai potuto pensare a tutti quei dettagli in quel momento sui due piedi esclamò Ivan Fiodorovic sopraffatto dallo stupore e ancora una volta guardò Smerdyakov spaventato ma di grazia credete possibile che si possa pensare a tutto questo in un momento di tale furia era stato tutto premeditato beh vuol dire che il diavolo ti ha dato una mano esclamò un'altra volta Ivan Fiodorovic no tu non sei uno stupido tu sei molto più intelligente di quanto pensassi si alzò con la palesia intenzione di attraversare la stanza era terribilmente angosciato ma dal momento che il tavolo gli ostacolava il passaggio e tra il tavolo e la parete si passava a malapena non fece che girarsi su se stesso e risedersi il fatto che non ci fosse spazio per passare forse lo aveva irritato a tal punto che si mise a strillare quasi con la stessa frenesia di prima ascolta disgraziata sprecevole creatura tu non hai ancora capito che se non ti ho ammazzato fino ad ora è solo per serbarti affinché tu te ponga domani al processo dio mi ha testimone disse alzando la mano verso il cielo forse anch'io sono colpevole forse avevo davvero un tale desiderio che mio padre morisse ma ti giuro che non sono tanto colpevole quanto credi tu e forse non ti ho istigato per nulla no no non ti ho istigato ma non fa niente domani deporrò contro me stesso al processo ho deciso dirò tutto tutto ma noi faremo la nostra apparizione insieme e qualunque cosa tu dirai contro di me al processo qualunque cosa tu testimonierai io l'accetterò e non avrà paura di te confermerò tutto ma anche tu devi confessare davanti ai giudici lo devi fare lo devi fare ci andremo insieme sarà così Ivan proferì queste parole con aria solenne ed energica e bastava il suo sguardo scintillante per capire che sarebbe stato così siete malato lo vedo siete molto malato signore avete gli occhi tutti gialli disse Smerdiagov ma senza il tono beffardo di prima quasi con simpatia invece andremo insieme ripete Ivan e se tu non verrai io confesserò lo stesso Smerdiagov rimase un po' in silenzio come pensieroso non accadrà niente di tutto questo e voi non ci andrete signore decise lui infine con tono inappellabile tu non mi capisci esclamò Ivan con biasimo sarebbe una vergogna troppo grande per voi se confessaste ogni cosa signore e quel che è peggio sarebbe completamente inutile perché io dichiarerò chiaro e tondo di non avervi mai detto cose del genere e che voi siete malato e sembrerebbe proprio così oppure avete una tale compassione per vostro fratello da essere disposto a sacrificare voi stesso e così avete inventato tutta la storia contro di me perché per tutta la vita mi avete considerato né più né meno che un moscerino e non un uomo e allora chi vi crederà e che prove avete ascolta quei soldi ve li hai mostrati proprio per convincermi smerdiakov sollevò il libro di sacco di siro dal mazzetto delle banconote e lo mise da un lato prendete quei soldi e portateli via signore sospirò smerdiakov certo che me li porto via ma perché me li dai se hai ucciso proprio per quelli Ivan lo guardò con grande stupore non mi servono affatto disse smerdiakov con voce tremante e agitando la mano in un gesto di rifiuto prima avevo il progetto di cominciare una nuova vita con quei soldi a Mosca o ancora meglio all'estero avevo questo sogno signore soprattutto perché tutto è permesso era giusto quello che mi avevate insegnato mi avevate parlato molto di questo poiché se il dio eterno non esiste allora non esiste nemmeno la virtù e non c'è alcun bisogno di essa avevate ragione così la pensavo anch'io sei arrivato da solo a queste conclusioni Ivan sorrisse biacamente con la guida di vostra signoria allora adesso hai riacquistato la fede in dio se mi restituisci i soldi no signore non ho riacquistato la fede murmurò smerdiakov allora perché me li restituisci basta no niente signore smerdiakov agitò nuovamente la mano eravate voi che continuavate a sostenere che tutto è permesso e allora perché adesso siete così allarmato proprio voi volete persino andare a deporre contro voi stesso solo che non avverrà nulla del genere voi non andrete a deporre conclusi ancora una volta smerdiakov con aria decisa e convinta lo vedrai disse Ivan questo non può essere vostra signoria è troppo intelligente voi amate il denaro questo lo so amate anche il rispetto degli altri perché siete molto orgoglioso amate enormemente le grazie femminili e quel che è peggio vi piace vivere nella giatezza indisturbata senza essere costretto a piegarvi dinanzi a nessuno e questo più di ogni altra cosa non vorrete distruggere per sempre la vostra vita caricandovi di una simile infamia voi siete siete come Fiodor Paolovic siete quello che gli somiglia di più fra tutti i suoi figli avete la sua stessa anima signore tu non sei stupido disse Ivan come impressionato il sangue gli era affluito alla testa prima pensavo che fossi uno stupido adesso invece parli sul serio osservò come guardando a smerdiakov con occhi nuovi era il vostro orgoglio a farvi pensare che io fossi stupido prendete i soldi su Ivan prese i tre mazzetti di banconote e li infilò in tasca senza avvolgerli in niente domani li mostrerò al processo disse lui nessuno vi crederà perché adesso possedete un bel mucchio di soldi anche voi potreste averli presi dal vostro scrignetto e portarli al processo signore Ivan si alzò te lo ripeto se non ti ho ucciso è solo perché mi serve la tua presenza domani ricordatelo questo non te lo dimenticare allora uccidetemi uccidetemi adesso disse smerdiakov con un'aria strana guardando Ivan in maniera strana non avrete il coraggio di fare neanche questo soggiunse sorridendo fieramente non oserete fare nulla voi che eravate così ardito a domani gridò Ivan e si mosse per andare via aspettate mostratemeli un'altra volta Ivan estrasse le banconote e gliele mostrò smerdiakov restò a guardarle per una decina di secondi beh andate adesso disse agitando la mano Ivan Fjodorovic gli gridò dietro all'improvviso che vuoi si girò quello senza fermarsi addio signore a domani gli gridò ancora una volta Ivan e uscì dall'isba la tempesta di neve continuava a infuriare sulle prime camminò di buon passo poi cominciò a vacillare è qualcosa di fisico pensò sorridendo una specie di gioia aveva invaso la sua anima egli sentiva in se stesso una fermezza senza limiti la fine dei suoi tentenamenti che tanto lo avevano tormentato in quell'ultimo periodo la decisione era stata presa e ormai non sarebbe stata revocata pensò Felice in quel momento andò a inciampare contro qualcosa e per poco non cadde si fermò e riconobbe lì ai suoi piedi quello stesso contadinotto che aveva fatto cadere questi giacevano nello stesso punto privo di conoscenza immobile la tormenta gli aveva quasi completamente coperto il viso di neve Ivan lo prese subito e se lo caricò addosso vedendo la luce in una casupola sulla destra andò a bussare alle imposte e all'uomo che gli rispose il proprietario della casupola chiese di aiutarlo a trasportare quel contadinotto al posto di polizia con la promessa di una ricompensa di tre rubli l'uomo si preparò e uscì non starò qui a descrivere nei dettagli come Ivan Fyodorovic riuscì a raggiungere il suo scopo e a sistemare il contadinotto alla stazione di polizia provvedendo anche che un dottore lo visitasse immediatamente senza lesinare per le spese di là soltanto che ci miso un'ora buona a concludere la faccenda ma Ivan Fyodorovic ne rimase molto soddisfatto la sua mente errava e lavorava incessantemente se la mia decisione riguardo a domani non fosse irrevocabile pensò ad un tratto con soddisfazione non avrei perduto un'ora intera per accudire un contadinotto ma sarei passato oltre infischiando bene che quello si congelasse comunque sono bene e in grado di osservare me stesso pensò nel contempo con soddisfazione ancora maggiore e quelli dicono che sono impazzito giunto all'altezza di casa sua si fermò all'improvviso colto da una domanda improvvisa non è che dovrei andare immediatamente a dire ogni cosa al procuratore risolse la questione girandosi nuovamente in direzione della casa domani faremo tutto insieme sussurrò tra sé e sé e stranamente quasi tutta la gioia tutta la soddisfazione di se stesso svanirono di colpo quando entrò nella sua stanza una sensazione di gelo gli trafisse il cuore un ricordo o più probabilmente un ammonimento di qualcosa di tormentoso e rivoltante che si trovava proprio in quella stanza in quel momento ora ma che c'era stato altre volte egli si lasciò cadere stancamente sul divano la vecchia serva gli portò il samovar egli si preparò il tè ma non lo toccò congedò la vecchia donna fino all'indomani si sedette sul divano e si sentì girare la testa sentiva di essere malato ed esausto stava per addormentarsi ma si alzò agitato e si mise a camminare per la stanza per ricacciare il sonno di tanto in tanto gli sembrava di delirare ma non era la malattia ad occupare principalmente la sua mente risedutosi prese a guardarsi attorno di tanto in tanto a volte come alla ricerca di qualcosa ripete alcune volte questo gesto alla fine il suo sguardo si concentrò in una direzione Ivan sorrise ma una vampata d'ira gli accese il volto rimase a lungo seduto al suo posto con la testa appoggiata stretta stretta alle braccia ma con lo sguardo puntato di traverso sullo stesso punto verso il divano che stava lungo la parete opposta evidentemente là c'era qualcosa che lo irritava un oggetto che lo turbava lo tormentava il diavolo non sono un dottore tuttavia mi rendo conto che è arrivato il momento in cui è assolutamente necessario che io dia al lettore perlomeno qualche delucidazione sulla natura della malattia di Ivan Fyodorovic facendo un salto in avanti dirò soltanto una cosa in quel momento quella sera egli si trovava giusto alla vigilia di un attacco di febbre cerebrale che alla fine ebbe la meglio sul suo organismo da tempo sconvolto ma che tuttavia aveva opposto una strenua resistenza alla malattia sebbene non sia un esperto di medicina mi azzarterò ad avanzare l'ipotesi che egli fosse riuscito per davvero con un terribile sforzo di volontà a rimandare l'attacco per un certo periodo sperando si intende di superarlo del tutto egli si rendeva conto di non stare bene ma gli ripugnava essere malato in quel momento in quei minuti fatali della sua vita quando occorreva essere presenti a se stessi esprimere coraggiosamente la propria opinione e giustificarsi innanzi a se stessi in maniera risoluta comunque era andato a consultare quel nuovo dottore giunto da Mosca che Katerina Ivanovna aveva mandato a chiamare per via di quella sua strana idea che abbiamo menzionato in precedenza dopo averlo ascoltato e visitato il dottore ha raggiunto la conclusione che egli fosse affetto da qualche disturbo mentale e non fu affatto sorpreso da un'ammissione che Ivan gli aveva fatto con riduttanza le allucinazioni nelle vostre condizioni sono più che probabili aveva diagnosticato il dottore sebbene occorrerebbe verificarle dovete immediatamente intraprendere una cura seria senza perdere un minuto altrimenti ve la passerete male ma Ivan Fyodorovich una volta uscito non aveva seguito l'assenato consiglio del dottore e aveva trascurato di mettersi a letto per curarsi sono in grado di camminare quindi le forze le ho ancora se dovessi crollare sarebbe un altro paio di maniche in quel caso mi curi chi vuole aveva deciso agitando la mano in un gesto sprezzante e così adesso se ne stava seduto quasi consapevole egli stesso di delirare e come ho già detto intento a guardare insistentemente da un lato verso un qualche oggetto che si trovava sul divano lungo la parete opposta sembrava che qualcuno fosse seduto lì penetrato Dio solo sa come perché prima non c'era quando Ivan Fyodorovich di ritorno da Smerdyakov era entrato nella stanza si trattava di un certo signore o per meglio dire di un gentiluomo russo di un genere particolare non più giovane forse sulla cinquantina chi far sai la Saint-Cantin come dicono i francesi con una leggera brizzolatura sui capelli scuri piuttosto lunghi e folti e la corta barbetta a punta indossava una giacca color marroncino chiaramente di ottima fattura ma piuttosto lisa cucita secondo lo stile di tre anni addietro e ormai del tutto fuori moda di quelle che la gente abbiente ed elegante non indossava più da almeno due anni la biancheria la cravatta lunga a mo' di sciarpa erano di quelle che portano tutti i gentiluomini eleganti ma la biancheria un'osservazione più attenta era piuttosto sporchina e la larga sciarpa molto logora i pantaloni a quadri dell'ospite gli cadevano magnificamente ma ancora una volta erano troppo chiari e un pochino troppo attillati di quelli che adesso non si portano più come del resto anche il morbido cappello di pelo bianco che l'ospite si portava dietro del tutto fuori stagione insomma era il ritratto del decoro associato a mezzi economici estremamente scarsi si sarebbe detto che il gentiluomo appartenesse al novelo di quei possidenti oziosi che prosperavano ai tempi della servitù della gleba sicuramente uno che aveva fatto parte del bel mondo e della crema della società aveva avuto buone conoscenze che tuttora forse conservava ma che si era gradualmente impoverito dopo una giovinezza spensierata e l'abolizione della servitù per finire col diventare una specie di parassita del bon ton che girovagava da un vecchio conoscente all'altro accolto per il suo carattere socievole e accomodante e anche in considerazione del fatto che si trattava pur sempre di un uomo da bene che faceva anche comodo a mettere la propria tavola seppure ovviamente in un posto modesto questi parassiti gentiluomini dal carattere accomodante in grado di raccontare storielle giocare una partita a carte e con una netta avversione per qualunque tipo di incarico si voglia ad essi imporre di solito sono creature solitarie scapoli o vedovi e se hanno figli questi sono puntualmente allevati da qualche parte lontano e qualche zia che non menzionano mai nella buona società quasi si vergognassero di una tale parentela e si perdono gradualmente di vista i figli sebbene di tanto in tanto ricevano da loro una lettera d'augurio per l'onomastico o per Natale alla quale qualche volta si preoccupano pure di rispondere la fisionomia dell'ospite inatteso non era tanto bonaria quanto ancora una volta accomodante e disponibile ad assumere un'espressione amabile qualsiasi a seconda dell'occorrenza non portava orologio ma aveva un occhialino di tartaruga appeso a un nastro nero al dito medio della mano destra faceva bella mostra di sé un massiccio anello d'oro di uno palle di scarso valore Ivan Fiodorovich taceva incollerito e non voleva dare inizio alla conversazione l'ospite aspettava e stava seduto esattamente come un parassita appena sceso dalla camera assegnatagli per fare compagnia al padrone di casa per il tè e che mantiene un discreto silenzio nel vedere che questi è impegnato e arcignamente pensieroso pronto tuttavia a intraprendere una fabile conversazione non appena il padrone di casa ne abbia voglia all'improvviso il suo volto espresse una specie di repentina premura ascolta cominciò a dire a Ivan Fiodorovich mi devi scusare ma volevo solo ricordarti una cosa tu sei andato da Smerdiakov per sapere credere che sei stato tu a suggerirmelo e non io a ricordarmene allora non crederlo sorrisse cordialmente il gentiluomo si può forse credere contro il proprio volere inoltre per credere a qualcosa non servono le prove soprattutto quelle materiali Tommaso credette non per aver visto il Cristo risorto ma perché voleva credere prima ancora di vederlo guarda gli spiritisti per esempio mi piacciono molto quelli pensa che essi immaginano di essere utili alla fede perché i diavoli mostrano loro le corna dall'altro mondo vanno dicendo questa è una prova materiale che l'altro mondo esiste l'altro mondo è le prove materiali cosa ci tocca sentire e poi l'aver provato l'esistenza del diavolo dimostrerebbe forse anche l'esistenza di Dio io voglio iscrivermi ad una società idealistica farò parte dell'opposizione dirò sono un realista sì ma non un materialista ascolta Ivan Fiodorovici si alzò di scatto dal tavolo in questo momento sto delirando certo sto delirando fernetica quanto vuoi mi è indifferente non riuscirai a farmi inalberare come l'altra volta solo che mi vergogno voglio camminare per la stanza a volte non ti vedo e non riesco nemmeno a sentire la tua voce come l'altra volta ma indovino sempre quello che vai blaterando perché sono io proprio io che parlo e non tu solo che non so se l'altra volta ti ho visto in sogno o dal vero adesso bagnerò un asciugamano e me lo metterò sulla fronte e forse tu svanirai Ivan Fiodorovici andò in un angolo prese un asciugamano fece quello che aveva detto e con l'asciugamano bagnato sulla testa cominciò ad andare avanti e indietro per la stanza mi fa piacere che abbiamo cominciato subito col darsi del tu fece per dire l'ospite imbecille risa Ivan si mancava che mi mettessi a darti del voi adesso sono allegro solo che mi fanno male le tempie e la testa per favore non ti mettere a filosofeggiare come l'altra volta se proprio non vuoi andartene parla almeno di cose allegre spettegola dal momento che sei un parassita spettegola ma sono questi incubi da farsi ma io non ho paura di te avrò la meglio su di te non riusciranno a portarmi al manicomio c'è charmant parassita la definizione mi calza a pennello che altro sono sulla terra se non un parassita a proposito io ti ascolto e mi stupisco un po' tu stai cominciando piano piano a considerarmi qualcosa di reale e non soltanto una tua fantasia come insistevi a fare la volta scorsa nemmeno per un minuto io ti ho preso per una realtà gridò Ivan con una specie di furia tu sei una menzogna tu sei la mia malattia sei un fantasma è solo che non so come distruggerti e mi rendo conto che ti devo sopportare per un po' tu sei una mia allucinazione sei l'incarnazione di me stesso ma solo di una parte di me stesso però dai miei pensieri e sentimenti ma dei più ripugnanti e stupidi da questo punto di vista potresti persino essere interessante per me se solo avessi tempo da perdere con te un attimo un attimo non ti darò le prove oggi quando hai assalito agli oscia presso il lampione gridando l'hai saputo da lui come fai a sapere che lui viene da me stavi parlando di me dunque seppure per un momento brevissimo tu hai creduto hai creduto che io esistessi davvero sorrise melifuramente il gentiluomo sì è stato un momento di rebolezza ma non potevo credere in te non so se fossi sveglio addormentato l'altra volta forse la scorsa volta ti ho visto soltanto in sogno e non dal vero e perché poco fa sei stato così severo con agli oscia è tanto caro io sono colpevole dinanzi a lui per via dello stare zosima non parlare di agli oscia come osi la che e Ivan scoppiò a ridere un'altra volta imprechi ma ridi tu stesso buon segno del resto oggi sei molto più gentile con me della volta scorsa e io ne capisco anche la ragione è la grande decisione non parlare della decisione gli gridò furiosamente Ivan capisco capisco c'è noble c'è charmant domani andrei a difendere tuo fratello e sacrificherai te stesso c'è schevaleresque tieni a bada la lingua se no ti prendo a calci sotto un certo aspetto non mi dispiacerebbe affatto dal momento che avrei raggiunto il mio scopo se mi prendi a calci vuol dire che credi che io sia reale perché non si danno calci ai fantasmi scherzi a parte per me fa lo stesso impreca pure quanto vuoi anche se sarebbe sempre meglio essere un po' gentili persino con me e che cosa sono imbecille le che che parole sono queste imprecando contro di te impreco contro me stesso risi ancora una volta Ivan tu sei me me soltanto con un muso diverso tu dici esattamente quello che io sto pensando e non sei in grado di dire nulla di nuovo se i miei pensieri corrispondono ai tuoi questo mi fa soltanto onore disse il gentiluomo con delicatezza e dignità solo che scegli i miei pensieri peggiori e soprattutto i più stupidi tu sei stupido e volgare sei terribilmente stupido no io non riesco a sopportarti che cosa devo fare che cosa devo fare disse Ivan digrignando i denti amico mio in ogni caso io voglio essere un gentiluomo e voglio che mi consideri notale presi a dire l'ospite in un accesso di cedevole e buonaria vanagloria tipica dei parassiti sono povero ma non dirò di essere molto onesto ma di solito in società si accetta come una sioma che io sia un angelo caduto quanto è vero il dio non riesco a immaginare in che maniera ho potuto mai essere un angelo se lo sono stato è successo tanto di quel tempo fa che non è peccato nemmeno averlo dimenticato adesso mi sta a cuore soltanto la reputazione di persona per bene e vivo come si deve cercando di riuscire gradevole io amo sinceramente gli uomini oh girano molte calunnie sul mio conto qui nel corso delle mie visite occasionali la mia vita scorre come se fosse almeno un po' reale ed è questo che mi piace più di tutto anche io come te soffro per il fantastico ecco perché anche io amo il vostro realismo terrestre qui da voi è tutto circoscritto qui tutto è ricondotto a formula a geometria mentre noi non abbiamo altro che equazioni indefinite qui io vago e sogno adoro sognare per di più sulla terra divento superstizioso non ridere per favore è proprio questo che mi piace più di tutto diventare superstizioso qui da voi adotto tutte le abitudini sono diventato un patito dei bagni a vapore pubblici di figuri e vado a prendere i bagni di vapore con commercianti e pope e il mio sogno è incarnarmi in una maniera definitiva irrevocabile nelle sembianze di una grassa mercantessa sul quintale e credere a tutto quello in cui crede lei il mio ideale è entrare in una chiesa e accendere una candela con devozione sincera quanto è vero il dio così le mie sofferenze avrebbero fine ho preso gusto pure a essere curato in primavera c'era stata un'epidemia di vaiuolo e io sono andato a vaccinarmi in orfanatrofio se solo sapessi quanto mi sono divertito quel giorno ho offerto dieci rubri per la causa degli slavi ma tu non mi stai ascoltando sai che oggi hai una brutta cera il gentiluomo fece una breve pausa so che ieri sei andato da quel dottore beh come va la salute che cosa ti ha detto il dottore imbecille taglio corto iva e invece tu sei così intelligente stai imprecando un'altra volta dal resto non pretendevo la tua comprensione ho detto solo così per dire se lo preferisci non rispondere mi sono tornati i reumatismi imbecille ripete iva dici sempre la stessa cosa ma l'anno scorso mi prese un tale attacco di reumatismi che ancora oggi me lo ricordo il diavolo ai reumatismi perché no a volte capita se assumo sembianze umane assumo sembianze umane e ne pago tutte le conseguenze satana sum et nil humanum a me alienum puto come come satana sum et nil humanum niente male per un diavolo sono contento di averti fatto piacere per una volta questo non lo hai preso da me si fermò ivan come folgorato a me non è mai venuta in mente una cosa del genere è strano se de nouveau ne sepa per questa volta agirò onestamente e ti spiegherò ogni cosa ascolta nei sogni e soprattutto negli incubi a causa di una indigestione o di qualcos'altro gli uomini a volte hanno visioni artistiche vedono una realtà così complessa e vivida e assistono a eventi tali e persino a un intero mondo di eventi collegati tra loro da una trama così ricca di particolari inattesi a cominciare da manifestazioni superiori per finire con l'ultimo dei bottoni di un polsino che ti giuro neanche Lev Tolstoi sarebbe capace di immaginare eppure questi sogni vengono fatti da persone normalissime impiegate giornalisti pope e non già da scrittori di professione la questione è un enigma bello e buono un ministro mi ha persino confessato che le idee migliori gli vengono in sogno quando dorme beh proprio come adesso ammettiamo pure che io sia una tua allucinazione ma un'allucinazione che come in un incubo ti dice cose originali che a te non sono mai venute in mente fino a questo momento per questo non ripeto i tuoi pensieri ma sono soltanto il tuo incubo e niente di più stai mentendo il tuo scopo è proprio quello di convincermi che sei proprio tu e non il mio incubo e adesso ti metti a dichiarare tu stesso di essere un sogno amico mio oggi ho adottato un metodo particolare che poi ti spiegherò aspetta dov'ero arrivato ah sì volevo dire che mi raffreddai ma non da voi quando ero ancora là dove là e dimmi starei molto qui con me non potresti andare via esclamò Ivan disperato egli smise di camminare si sedete sul divano si poggiò un'altra volta sul tavolo e strinse la testa con tutte e due le mani si strappò l'asciugamano bagnato dalla fronte e lo scaraventò via con un gesto di stizza evidentemente non serviva a niente ai nervi scossi osservò il gentiluomo con un'aria di disinvolta non curanza sebbene perfettamente amichevole te la prendi con me persino per il fatto che mi sia potuto raffreddare anche se questo è avvenuto nel più naturale dei modi mi affrettavo a una serata diplomatica da una signora pietro-burghese dell'alta società che mirava a diventare ministro beh sai ero in frac cravatta bianca guanti e mi trovavo ancora di ossa dove e dovevo attraversare in volo lo spazio per arrivare sulla terra da voi certo si tratta solo di un attimo ma anche un raggio solare ci impiega otto minuti buoni figurati io con tanto di frac e panciotto aperto gli spiriti non congelano ma quando si assume forma umana allora insomma agì in modo sventato partì e sai in quegli spazi dell'etere cioè in quelle acque che erano sopra il firmamento c'è un gelo non si può neanche chiamarlo gelo puoi immaginare 150 gradi sotto lo zero conoscerai quel gioco delle ragazze di campagna invitano un pivello a leccare un'ascia alla temperatura di 30 gradi sotto zero la lingua ghiaccia immediatamente e il babbeo si strappa la pelle della lingua facendola sanguinare e questa alla temperatura di soli 30 gradi a 150 invece penso che sarebbe sufficiente poggiare un dito sull'ascia e sarebbe la fine ammesso che da quelle parti ci possa essere un'ascia e ci può essere un'ascia da quelle parti lo interruppe distrattamente Ivan Fiatolovic disgustato si stava sforzando con tutte le sue energie per non credere al proprio delirio e non cadere definitivamente nella pazzia un'ascia domandò a sua volta l'ospite stupito sì che cosa ne sarebbe di un'ascia da quelle parti gridò ad un tratto Ivan Fiatolovic con un'ostentazione tenasa e furiosa che cosa accadrebbe a un'ascia nello spazio quelle idee se dovesse cadere a una certa distanza credo che si metterebbe a girare intorno la terra senza saperne il motivo come un satellite gli astronomi calcolerebbero il sorgere e il calare dell'ascia il gazzuc lo inserirebbe nel suo calendario ecco tutto sei stupido sei terribilmente stupido disse caparbiamente Ivan cerca di blatterare in maniera più intelligente altrimenti smetterò di ascoltarti tu vuoi combattermi con il realismo convincermi che tu esisti ma io non voglio credere che tu esista non ci crederò ma non sto blatterando è tutto vero purtroppo la verità non è quasi mai arguta vedo che tu stai aspettando da me qualcosa di decisamente grande e forse di meraviglioso è un vero peccato perché io do quel che posso non filosofeggiare asino ma che filosofia è filosofia quando tutta la parte destra del corpo mi si è paralizzata e io non faccio che gemere e lamentarmi ho tentato tutti i rimedi della medicina sanno fare la diagnosi in maniera eccellente conoscono la tua malattia come il palmo delle loro mani ma non sono capaci di curare mi è capitato di incontrare un piccolo studente entusiasta se morirete diceva in compenso sarete perfettamente al corrente della malattia per la quale morirete e poi ancora quel loro modo di spedirti da uno specialista all'altro come a dire noi facciamo soltanto la diagnosi ma se andrete dallo specialista tal dei tali quello vi curerà ti dico che non si trovano più più i dottori di un tempo che ti curavano da tutte le malattie adesso ci sono soltanto gli specialisti che si fanno pubblicità a tutto spiano sui giornali se ti fa male il naso vatti a curare a Parigi lì dicono c'è uno specialista europeo che ti cura il naso vai a Parigi quello ti esamina il naso e ti dice posso curarvi soltanto la narice destra perché non curo le narici sinistre non è la mia specialità ma dopo la mia cura andate a Vienna lì c'è lo specialista adatto che riuscirà a guarirvi la narice sinistra che fai allora io sono ricorso ai rimedi popolari un dottore tedesco mi ha consigliato di cospargermi di miele e sale durante il bagno a vapore io ci sono andato solo per farmi un bagno a vapore in più mi sono impiastricciato tutto e senza alcun beneficio disperato ho scritto al conte Mattei a Milano che mi ha mandato un libro delle gocce che Dio lo benedica ma pensa un po' è stato l'estratto di malto di Hoff a farmi bene l'ho comprato per caso ne ho bevuto una bottiglietta e mezzo ed ero subito pronto a ballare mi aveva fatto sparire il dolore in un baleno mi ero proposto di far assolutamente pubblicare un ringraziamento sui giornali mosso da un sentimento di gratitudine e figurati un po' che a questo proposito è venuta fuori un'altra storia neanche una redazione me lo ha accettato con la motivazione sarebbe molto reazionario non ci crederà nessuno le diable n'existe point pubblicatelo anonimamente ma che razza di ringraziamento è se è anonimo ho fatto quattro risate con gli impiegati è retrogrado credere in Dio ai nostri giorni ma io sono il diavolo in me dunque si può credere dico io lo comprendiamo benissimo chi non crede al diavolo però non si può fare potrebbe nuocere alla nostra reputazione se volete lo presentiamo come uno scherzo mi rispondono loro ma io ritenne che come scherzo non sarebbe stato molto spiritoso e così non me lo pubblicarono e ci crederai mi rincresci ancora oggi i miei sentimenti migliori come la gratitudine per esempio mi sono formalmente proibiti unicamente a causa della mia posizione sociale ti sei messo da capo a filosofeggiare di grignò i denti con odio Ivan che Dio me ne guardi ma a volte è davvero impossibile non lamentarsi sono un uomo calunniato tu mi dici in continuazione che sono uno stupido si può capire sei giovane ma mio caro amico non è solo l'intelligenza che conta la natura mi ha dotato di un cuore buono e allegro scrivo anche vaudeville di vario genere mi sembra che tu mi prenda per un clestakoff incanutito eppure il mio destino è ben più grave in conseguenza di una mia nomina pretemporale che non sono mai riuscito a capire io sono destinato a negare mentre io sono sinceramente buono e assolutamente non in clima al diniego no devi andare e negare senza il diniego non ci sarà critica e che giornali ci sarebbero senza la sezione della critica senza critica ci sarebbe soltanto Losanna ma per la vita non basta Losanna Losanna deve essere messo alla prova attraverso il crogiuolo del dubbio e così via con altra roba del genere comunque in queste cose io non ci metto il naso non sono stato io a creare il mondo quindi non ne rispondo neppure così hanno scelto il loro capro espiatorio mi hanno costretto a scrivere sulle pagine della critica e così è stata resa possibile la vita noi la capiamo questa commedia io per esempio esigo semplicemente la mia distruzione no vivi mi dicono perché senza di te non esisterebbe nulla se sulla terra fosse tutto razionale non accadrebbe mai nulla senza di te non ci sarebbe alcun avvenimento e invece è necessario che ci siano avvenimenti e così con una stretta al cuore io lavoro perché si verifichino eventi e creo l'irrazionale su ordinazione gli uomini prendono tutta questa commedia per una cosa seria nonostante tutta la loro innegabile intelligenza proprio in questo consiste la loro tragedia e soffrono naturalmente ma tuttavia in compenso vivono nella realtà non nella fantasia già che anche quella sofferenza è vita senza sofferenza che soddisfazione ci sarebbe tutto si trasformerebbe in un tedeum senza fine tutto sarebbe santo sì ma anche un pochino scocciante e io invece io soffro eppure non vivo io sono la x di un'equazione indefinita sono una specie di fantasma della vita che ha perduto tutti i principi e i limiti e ha finito per dimenticare persino il proprio nome tu ridi no ma stai ridendo ti sei alterato un'altra volta tu ti alteri sempre per te conta solo l'intelligenza ma io te lo ripeto ancora una volta che darei l'intera mia vita eterea tutti i gradi e le onorificenze per entrare nell'anima di una mercantessa sul quintale e accendere una candela a dio così anche tu non credi in dio disse ivan con un sorriso carico di odio cioè come dire se stai parlando sul serio dio esiste o no gridò ancora una volta ivan con furiosa insistenza stai parlando seriamente caro mio quanto è vero il dio non lo so ecco l'ho detta non lo sai ma tu non vedi dio no tu non hai una tua esistenza tu sei me tu sei me e nient'altro che questo tu sei immondizia sei una mia fantasia cioè se vuoi condivido la tua stessa filosofia questo sarebbe vero je pense donc je suis questo lo so di sicuro quanto a tutto il resto che mi circonda tutti questi sono mondi dio e persino satana stesso tutto questo non è dimostrato per me gode di un'esistenza autonoma o è soltanto un'emanazione di me stesso uno sviluppo logico del mio io che è l'unico ad aver mai vissuto insomma mi affretto a fermarmi perché mi sembra che da un momento all'altro mi aggredirai e mi picchierai faresti meglio raccontarmi qualche storiella disse ivan con un'aria sofferente ho una storiella è giusto sul nostro tema cioè non è una storiella ma una leggenda tu mi rimproveri la mia miscredenza e mi dici vedi non credi neanche tu ma amico mio non sono soltanto io ad essere così ci troviamo tutti in una gran confusione adesso è tutto a causa delle vostre scienze fino a quando ci sono stati gli atomi i cinque sensi i quattro elementi tutto procedeva abbastanza bene gli atomi esistevano anche nell'antichità ma quando dalle nostre parti sono venuti a sapere che voi avevate scoperto la molecola chimica il protoplasma e il diavolo sa cos'altro anche da noi si sono messi la coda fra le gambe è cominciato un vero e proprio caos soprattutto superstizione pettegolezzi da noi il pettegolezzo impera come da voi persino un filino in più e infine le delazioni da noi infatti esiste una sezione dove vengono raccolte certe informazioni allora questa strana leggenda risale al medioevo non al vostro al nostro e nessuno ci crede nemmeno da noi ad eccezione delle mercantesse di un quintale sempre le nostre non le vostre tutto quello che c'è da voi se anche da noi ecco ti sta rivelando questo segreto solo per l'amicizia che ci lega anche se sarebbe vietato questa leggenda riguarda il paradiso si dice che da voi sulla terra ci fosse un certo pensatore filosofo che aveva rifiutato tutto leggi coscienza fede e soprattutto la vita futura questi morì si aspettava di andare direttamente nelle tenebre e nella morte quando invece trovò dinnanzi a sé la vita futura rimase allibito e indignato questo contraddice tutte le mie convinzioni disse ed egli fu punito per questo cioè vedi tu mi devi scusare ma io ti sto riferendo quello che ho sentito è soltanto una leggenda fu condannato a camminare nelle tenebre per un quadrilione di chilometri abbiamo adottato il sistema metrico anche noi adesso e quando finirà quel quadrilione le porte del paradiso gli saranno aperte e gli perdoneranno tutto e che altre pene ci sono da voi oltre al quadrilione lo interruppe Ivan con una certa animazione che pene non me lo domandare neanche ai vecchi tempi ne avevamo di tutti i tipi ma adesso piano piano sono passati alle pene morali ai rimorsi di coscienza ed è tutta un'assurdità anche questo l'abbiamo copiato da voi dalla mitigazione dei vostri costumi e chi se la passa meglio quelli privi di coscienza perché che rimorsi di coscienza può avere chi non ha affatto coscienza in compenso hanno sofferto persone per bene coloro i quali conservavano coscienza e onore le riforme quando non è stato ancora preparato il terreno adatto ad esse soprattutto se si tratta di istituzioni copiate dall'estero non fanno altro che danni meglio il vecchio fuocherello beh quell'uomo condannato a camminare per un quadrilione di chilometri rimase fermo poi si guardò attorno e si sdraiò in mezzo alla strada non voglio camminare non camminerò per principio prendi l'anima di un ateo russo illuminato e mescolala con l'anima del profeta ragione che tenne il broncio nel ventre di una balena per tre giorni e tre notti ed otterrà il carattere di quel pensatore sdraiato per la strada su che cosa si era sdraiato beh suppongo che ci fosse qualcosa sulla quale sdraiarsi non mi stai prendendo in giro bravo gridò Ivan sempre con quella strana animazione adesso ascoltava con inatteso interesse e allora se ne sta ancora sdraiato questo è il punto no rimase estraiato per circa mille anni poi si alzò e si incamminò che asino esclamò Ivan ridacchiando nervosamente come se fosse intento a riflettere su qualcosa fa forse qualche differenza se giace in eterno o cammina un quadrilione di verste o è un bilione ci metterebbe un bilione di anni per coprire quella distanza vero anche molto di più solo che non ho carta e matita altrimenti farei il conto ma è arrivato già da un pezzo ed è qui che comincia la storia come è arrivato ma da dove ha preso il bilione di anni per farcela il fatto è che tu continui a pensare nei termini della nostra terra come adesso ma la nostra terra di adesso può essere ripetuta un bilione di volte essa stessa si è estinta si è ghiacciata spaccata frantumata disintegrata nei suoi elementi primari di nuovo acque sopra il firmamento poi ancora cometa ancora sole e dal sole la terra ecco questa evoluzione potrebbe essersi ripetuta un numero infinito di volte ed esattamente nella stessa maniera fino all'ultimo particolare una scocciatura delle più indecorose che cosa successe quando arrivò semplicemente che gli furono aperte le porte del paradiso ed egli entrò ma ci rimase solo due secondi di orologio di orologio sebbene a parer mio il suo orologio doveva essersi dissolto nei suoi elementi primari là nella sua tasca durante il tragitto ci rimase soltanto due secondi e poi gridò che per quei due secondi valeva la pena di camminare non un quadrilione di chilometri ma un quadrilione di quadrilioni eppure elevati alla quadrilionesima potenza insomma intonò il suo osanna ed esagerò a tal punto che alcuni lì di idee più elevate sulle prime non volevano neanche stringergli la mano era saltato con troppo impeto dalla parte dei conservatori la natura russa è fatta così lo ripeto si tratta solo di una leggenda la riferisco così come l'ho sentita questo è il tipo di idee che abbiamo su questi argomenti al momento ti ho colto in fallo gridò Ivan con una gioia quasi infantile come se fosse finalmente riuscito a ricordarsi qualcosa questo aneddoto sul quadrilione di anni l'ho inventato io stesso avevo 17 anni allora ero al ginnasio inventai questa storia e la raccontai ad un solo compagno si chiamava Krovkin eravamo a Mosca è una storia così particolare che non potevo averla tratta da nessuna parte l'avevo quasi dimenticata ma adesso mi è tornata in mente inconsciamente è tornata in mente a me non sei stato tu a raccontarla migliaia di cose tornano alla mente così inconsciamente alle volte persino mentre ti stanno portando al patibolo me ne sono ricordato in sogno ecco tu sei quel sogno tu sei un sogno e non esisti per l'avemenza con la quale neghi la mia esistenza scoppiò a ridere il gentiluomo traggo la convinzione che nonostante tutto tu credi in me niente affatto non credo neanche alla centesima parte di te ma alla millesima ci credi le doji omeopatiche forse sono le più efficaci ammettilo che credi anche solo alla decimillesima parte neanche per un attimo gridò rabbiosamente Ivan anzi io vorrei credere in te soggiunse poi in maniera strana ecco una missione ma io sono buono ti aiuterò ancora una volta ascolta sono io che ho colto in fallo te e non il contrario ti ho raccontato di proposito la storiella che avevi inventato tu e che avevi dimenticato per distruggere completamente la tua fede in me tu menti lo scopo della tua apparizione è convincermi della tua esistenza esattamente ma i tentennamenti il turbamento la lotta fra la fede e l'incredulità costituiscono un tale tormento per un uomo di coscienza come te che impiccarsi sarebbe meglio sapendo che tu credi un pochino in me ti ho definitivamente punzecchiato con l'incredulità raccontando di questo aneddoto ti conduco alternativamente ora alla fede ora all'incredulità e ho il mio scopo a fare così è il nuovo metodo signore quando comincerai a non credere più in me allora immediatamente dirai che non sono un sogno ma una mia esistenza ti conosco già e allora avrò raggiunto il mio scopo e il mio è un nobile scopo ti getterò un minuscolo seme da quello nascerà una quercia e una quercia tale che tu sedendoti ci sopra desidererai unirti a monaci eremiti e donne caste da che è questa la tua intima fortissima aspirazione ti ciberai di locuste ed errerai nel deserto per purificare la tua anima così che tu canaglia staresti tentando di salvare la mia anima devo pur commettere qualche buona azione di tanto in tanto ma tu ti arrabbi tu ti arrabbi a quanto sembra buffone e qualche volta hai tentato proprio quelli che si cibano di locuste e che pregano per 17 anni di fila nel nudo deserto coperti di muschio ma caro mio non ho fatto altro ci si dimentica di tutto il mondo e di tutti i mondi per mettersi alle costole di uno di quelli perché sono diamanti davvero preziosi un'anima di quel genere a volte vale un'intera costellazione noi abbiamo un'aritmetica tutta nostra è una conquista preziosa quella e alcuni di loro quanto è vero il dio non sono inferiori a te per cultura anche se non ci crederai sono in grado di contemplare tali abissi di fede e di incredulità nello stesso momento che a volte sembra che ci manchi un filino per precipitare a gambi all'aria come dice l'attore Gorbunov allora hai fallito sei rimasto con un palmo di naso amico mio osservò sentenziosamente l'ospite meglio rimanere con un palmo di naso che senza come un marchese sofferente ha detto di recente doveva essere in cura da qualche specialista in confessione al suo padre spirituale o gesuita io ero presente una vera delizia restituitimi il mio naso diceva e si colpiva il petto figlio mio cavillava il prete ogni cosa accade in conformità alle leggi imperscrutabili della provvidenza e ciò che sembra una sfortuna a volte conduce a benefici straordinari sebbene invisibili se un duro destino vi ha privato del naso ne otterrete il vantaggio che nessuno oserà mai più dirvi in vita vostra che siete rimasto con un palmo di naso padre santo ma questa non è una gran consolazione per me esclama il martese disperato anzi sarei felice di rimanere ogni giorno con un palmo di naso purché esso si trovasse al suo solito posto figlio mio sospira il padre non si può pretendere che tutte le benedizioni arrivino tutta insieme questo equivale a mormorare contro la provvidenza che persino in questa occasione non si è dimenticata di voi già che se voi strillate come avete appena fatto che sareste ben disposto a rimanere con un palmo di naso per tutta la vita il vostro desiderio in qualche maniera è stato esaudito già che perdendo il naso siete giusto rimasto con un palmo di naso che stupidaggini gridò Ivan amico mio intendevo soltanto rallegrarti un po' ma ti giuro che questa è un'autentica casistica dei gesuiti e ti giuro che quello che ti ho raccontato è avvenuto così alla lettera si tratta di un caso recente che mi ha dato molti grattacapi infelice giovanotto tornato a casa si sparò quella notte stessa non l'ho abbandonato fino all'ultimo quanto ai confessionali gesuiti sono davvero il mio divertimento più caro nei momenti tristi della vita ti racconterò un altro caso che risale a qualche giorno fa una biondina normanna sulla ventina va a confessarsi da un vecchio prete una bellezza rotondetta un tipino di quelli che fanno venire l'acquolina in bocca si inginocchia e sussurra i suoi peccati al prete attraverso la grata allora figliuola siete già caduta un'altra volta esclama il prete oh sancta maria che cosa sento non con lo stesso uomo ma fino a quando continuerà questa storia ma non vi vergognate ah mon père risponde la peccatrice grondante di lacrime di pentimento salui fa tant de plaisir e a moi si può de pain beh figurati un po' che risposta a quel punto rinunciai era un grido della natura se vuoi ancora meglio dell'innocenza stessa e lasciai passare questo peccato e stavo per girarmi andarmene quando fui costretto a tornare sui miei passi sento che il prete attraverso la grata fissa un appuntamento con lei per la sera sebbene fosse un vecchio forte come una roccia aveva ceduto in un attimo era la natura la verità della natura che affermava i suoi diritti che fai storci ancora il naso ti arrabbi un'altra volta a questo punto non saprei proprio come farti piacere lasciami in pace mi martelli nel cervello come un incubo fastidioso gemette Ivan sofferente e impotente davanti alla propria apparizione con te mi annoio sei insopportabile sei un tormento tra i non so cosa per cacciarti via te lo ripeto modere le tue pretese non pretendere da me cose sublime e meravigliose e vedrai come andremo d'amore e d'accordo disse il gentiluomo in tono insinuante in realtà tu c'erai con me perché non ti sono apparso in uno scintillio rossastro fra lampi e tuoni con le ali infuocate e invece mi sono presentato sotto spoglie così modeste sei ferito prima di tutto nel tuo senso estetico e in secondo luogo nell'orgoglio come a dire come mai ad un grand'uomo come me è apparso un diavolo così volgare sì in te esiste quella corda di sentimentalismo che persino Belinsky ha deriso che fare sei un giovanotto poco fa mentre venivo da te pensavo proprio di farti lo scherzo di assumere l'apparenza di un consigliere di stato effettivo a riposo uno di quelli che hanno servito sul caucaso con tanto di ordini del leone e del sole sul frac ma ho avuto davvero paura perché tu saresti stato capace di picchiarmi solo per il fatto di aver osato appuntarmi sul frac il leone e il sole invece della stella polare o sirio per lo meno e non fai altro che ripetermi che sono uno stupido ma dio mio io non pretendo nemmeno di erigermi a tuo pari per intelligenza mefistofele apparso a faust diceva di sé di volere il male ma di fare solo il bene che faccia pure quello che gli pare io invece sono tutto l'opposto io forse sono l'unica persona in tutta la natura ad amare la verità e a desiderare sinceramente il bene ero presente quando il verbo morì sulla croce e ascese al cielo portandosi in braccio l'anima del ladrone pentito crocefisso alla sua destra ho udito gli strepiti di gioia dei cherubini che cantavano e inneggiavano osanna e le urlatonanti di entusiasmo dei serafini che squassavano il cielo e il creato tutto e ti giuro su tutto ciò che c'è di più sacro che avrei voluto unirmi al coro e gridare insieme a tutti osanna quel grido mi stava quasi per scappare stava per prorompermi dal petto io tu lo sai sono molto sensibile ed esteticamente impressionabile ma il buon senso una caratteristica infelice della mia natura mi ha trattenuto nei debiti limiti e mi sono lasciato sfuggire quell'attimo infatti che cosa mai sarebbe accaduto pensavo io dopo quel mio osanna ogni cosa si sarebbe estinta al mondo e non si sarebbe più verificato alcun evento e così unicamente per un senso del dovere e per via della mia posizione sociale mi sono visto costretto a soffocare in me quel momento di bontà e a tenermi alle mie turpitudini qualcuno si prende tutti gli onori del bene per sé e a me lasciano in sorte soltanto le turpitudini ma non invidio l'onore di vivere a scapito degli altri non sono ambizioso io perché fra tutte le creature del mondo soltanto io sono condannato a subire le maledizioni di tutte le persone per bene e persino i calci dei loro stivali dal momento che una volta assunte le sembianze umane a volte devo accettare pure queste conseguenze lo so che c'è sotto un segreto ma non me lo vogliono svelare a nessun costo perché forse se lo scoprissi mi metterei a urlare il mio osanna e quell'indispensabile meno svanirebbe all'istante e il buon senso regnerebbe supremo in tutto il mondo e questo comporterebbe ovviamente la fine di ogni cosa persino delle riviste e dei giornali perché chi si abbonerebbe più lo so bene che alla fine dei conti mi riconcilierò anch'io che anch'io dopo aver camminato per il mio quadrilione di chilometri scoprirò il segreto ma finché questo non accadrà io terrò il broncio e a malincuore eseguirò il mio incarico rovinare migliaia di uomini per salvarne uno per esempio quante anime si sono dovute rovinare e quante reputazioni infamare per guadagnare un solo giusto come job quello a causa del quale mi hanno tanto preso in giro a suo tempo no finché il segreto non sarà svelato per me esistono due verità quella di lì la loro che per ora mi è completamente sconosciuta e l'altra la mia e ancora non si sa quale sarà la migliore ti sei addormentato sfido giamette silenziosamente Ivan tutte le mie stupide idee già cresciute rimacinate nel mio cervello e gettate via come carcasse tu me le presenti adesso come una sorta di novità non ti è piaciuto nemmeno questo è io che pensavo di conquistarti con lo stile letterario della mia esposizione quella osanna nei cieli non mi è venuto affatto male vero e poi quel tono ironico al haine non è vero no io non sono mai stato un simile lacchè come mai la mia anima ha potuto dar vita a un lacchè come te amico mio io conosco un deliziosissimo e simpaticissimo signor Otto Russo un giovane pensatore un grande appassionato di letterature e di arte autore di un poema promettente intitolato il grande inquisitore mi riferivo soltanto a lui ti proibisco di parlare del grande inquisitore sclamò Ivan avvampando dalla vergogna beh e il cataclisma geologico te lo ricordi era anche quello un poemetto altro che taci o ti ammazzo tu ammazzare me no scusa ma devo parlare io sono venuto anche per togliermi questa soddisfazione io amo i sogni dei miei giovani amici ardenti e palpitanti di voglia di vivere ci sono uomini nuovi avevi concluso la primavera scorsa mentre ti accingevi a venire qui che ritengono di dover distruggere tutto e ricominciare dall'antropofagia che stupidi a non aver chiesto il mio consiglio secondo me non occorre distruggere proprio nulla basterebbe soltanto distruggere nell'umanità l'idea di Dio ecco il punto da cui bisogna intraprendere il lavoro da questo da questo occorre partire o miei poveri ciechi che non capiscono niente una volta che gli uomini avranno rinnegato Dio uno per uno e io credo che questo periodo sopraggiungerà di pari passo con i periodi geologici tutta la precedente visione del mondo verrà a cadere senza ricorso all'antropofagia e soprattutto cadrà la vecchia morale e partirà tutto da zero gli uomini si uniranno per prendere dalla vita tutto quello che essa potrà dar loro ma soltanto per la gioia e la felicità della vita terrena l'uomo sarà sollevato da uno spirito di divina titanica fierezza e apparirà l'uomo Dio conquistando di ora e in ora una natura senza limiti grazie alla propria volontà e alla scienza l'uomo sentirà di ora in ora un piacere così sublime che lo compenserà di tutte le passate speranze di volutà celesti ciascuno saprà di essere mortale senza possibilità di resurrezione e accetterà la morte con fierezza e tranquillità come un Dio e suo orgoglio insegnerà che è inutile stare a lamentarsi del fatto che la vita sia solo un attimo ed egli amerà suo fratello senza alcuna promessa di ricompensa quest'amore sarà soddisfacente soltanto per un attimo della vita ma basterà la consapevolezza della sua fugacità per intensificare l'ardore che in passato invece veniva dissipato in speranze di amore eterno e ultraterreno e così via sullo stesso tono affascinante affascinante Ivan stava seduto con le mani premute sulle orecchie e lo sguardo per terra ma cominciò a tremare per tutto il corpo la voce proseguiva la mia domanda è questa il mio giovane pensatore riteneva che questa era potesse arrivare un giorno o l'altro oppure no se arriverà allora è tutto determinato e l'umanità è sistemata per sempre ma dal momento che considerata l'inveterata stupidità umana questa era non arriverà che fra mille anni colui che riconosce la verità sin da adesso può organizzare legittimamente la propria vita secondo i nuovi principi in questo senso gli è tutto permesso e non basta se questo periodo non dovesse mai arrivare dal momento che Dio e l'immortalità non esistono all'uomo nuovo è permesso di diventare un uomo Dio anche se dovesse essere l'unico in tutto il mondo e promosso alla sua nuova posizione a cuor leggero scavalcherà tutte le barriere della vecchia morale di uomo schiavo se sarà necessario per un Dio non c'è legge che tenga là dove c'è un Dio ivi è già posto divino dove ci sarò io sarà il posto migliore tutto è ammesso punto e basta tutto questo è molto piacevole ma se volevi solo combinare ma scalzonate a che serve una sanzione di verità per farlo ma è fatto così l'uomo russo contemporaneo senza una sanzione morale non si decide a combinare ma scalzonate a tal punto è innamorato della verità l'ospite parlava evidentemente trasportato dalla propria eloquenza alzando sempre più il tono della voce e guardando con aria beffarda il padrone di casa ma non riuscì a finire il suo discorso Ivan afferrò all'improvviso un bicchiere dal tavolo e lo scalaventò contro l'oratore ah me se bette in fan esclamò questi balzando in piedi e scrollandosi di dosso con le dita gli spruzzi di tè si è ricordato del calamaio di lutero è il primo a considerarmi un sogno e poi si mette a prendere un sogno a bicchierate si comporta come una donniciola io lo sospettavo che facevi soltanto finta di turarti le orecchie e invece stavi ascoltando si udì all'improvviso un deciso e persistente battito alla finestra Ivan Fiodorovic balzò dal divano senti faresti meglio ad aprire gridò l'ospite è tuo fratello Agiosha che ti porta una notizia interessante e in attesa te lo dico io sta zitto ingannatore lo sapevo lo sapevo che senza di me lo dicessi tu che era Agiosha avevo il presentimento che sarebbe venuto e certamente non è venuta per niente quindi avrà una notizia da darmi esclamò Ivan freneticamente aprigli aprigli fuori c'è la tormenta e lui è tuo fratello messier se in till le time qu'il faut se stane pamet trancende or continuavano a battere Ivan fece per lanciarsi verso la finestra ma qualcosa gli bloccò le mani ai piedi compì uno sforzo per rompere quelle catene ma in vano i colpi alla finestra si facevano sempre più forti alla fine le catene si ruppero e Ivan Fiodorovic saltò in piedi dal divano egli si guardò intorno selvaggiamente entrambe le candele si erano quasi consumate il bicchiere che aveva scagliato contro l'ospite stava davanti a lui sul tavolo e sul divano non c'era nessuno i colpi alla finestra continuavano insistenti ma non così rumorosi come gli era sembrato in sogno al contrario piuttosto contenuti questo non è un sogno no giuro non è stato un sogno è tutto accaduto davvero gridava Ivan Fiodorovic poi si slanciò verso la finestra e aprì lo sportellino in alto Agiosha ti avevo proibito di venire gridò ferocemente al fratello dimmi cosa vuoi in due parole in due parole capito un'ora fa Smerdiakov si è impiccato rispose Agiosha dall'esterno passa sul terrazzino d'ingresso che adesso ti apro disse Ivan e andò ad aprire ad Agiosha è stato lui a dirlo Agiosha entrando comunicò a Ivan Fiodorovic che poco più di un'ora prima Maria Contratevna era a corsa a casa sua e gli aveva comunicato che Smerdiakov si era tolto la vita sono entrata per portare via il samovar e lui era lì appeso a un chiodo alla parete alla domanda di Agiosha se avesse informato chi di competenza e l'aveva risposto che non aveva informato nessuno ma mi sono precipitata direttamente da voi per primo ho corso a rotta di collo per tutta la strada era come impazzita disse ad Agiosha e tremava come una foglia quando Agiosha era arrivato con lei all'isba aveva trovato Smerdiakov ancora penzolante sul tavolo c'era un biglietto distruggo la mia vita per mio desiderio e volontà per non accusare nessuno Agiosha lasciò il biglietto dov'era e andò dritto dal capo della polizia gli riferì ogni cosa e da lì direttamente qui da te concluse Agiosha guardando fisso il viso di Ivan per tutto il tempo del suo racconto non gli aveva levato mai gli occhi di dosso come se fosse colpito dall'espressione del suo viso fratello gridò ad un tratto ma tu devi essere sicuramente molto malato sembra che tu non capisca quello che dico hai fatto bene a venire disse Ivan come sovrappensiero e come se non avesse affatto sentito l'esclamazione di Agiosha ma io lo sapevo che si era impiccato da chi l'hai saputo non so da chi ma lo sapevo lo sapevo? sì me lo ha detto lui me lo ha appena detto Ivan stava in piedi in mezzo alla stanza e parlava sempre nella stessa maniera assorta e con uno sguardo fisso a terra chi è lui? domandò Agiosha guardandosi involontariamente attorno hai scattaiolato via Ivan sollevò la testa e sorrise calmo ha paura di te di te? che sei una colomba tu sei un puro cherubino Dimitri ti chiama cherubino cherubino? le gridatonanti di entusiasmo dei serafini che cosa sono i serafini? forse un'intera costellazione o forse tutta la costellazione non è che una molecola chimica c'è la costellazione del sole del leone lo sapevi? fratello siediti disse Agiosha spaventato siediti sul divano per l'amor del cielo tu stai delirando poggiati sul cuscino ecco così vuoi un asciugamano bagnato sulla testa? forse ti sentirai meglio dammi l'asciugamano eccolo lì sulla sedia l'ha buttato lì poco fa ma non c'è non ti preoccupare so dov'è eccolo disse Agiosha trovando nell'angolo della stanza presso il lavabo di Ivan un asciugamano pulito ancora piegato e non usato Ivan guardò l'asciugamano in modo strano era come se la memoria gli fosse tornata in un baleno aspetta e si alzò dal divano poco fa un'ora fa io ho preso quello stesso asciugamano da lì e l'ho bagnato d'acqua me lo sono poggiato sulla testa e l'ho gettato là come mai adesso è secco non ce n'era un altro ti sei messo questo asciugamano sulla testa domandò Agiosha sì camminavo per la stanza un'ora fa come mai le candele si sono consumate tanto che ora è quasi le dodici no 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 gridò Ivan all'improvviso non era un sogno era qui stava seduto qui ecco su quel divano quando tu hai bussato alla finestra io gli ho scaraventato il bicchiere addosso ecco quello aspetta altre volte mi è capitato di sognare ma era un sogno che non era un sogno è accaduto anche prima Agiosha in questo periodo faccio dei sogni però non sono sogni ma realtà io cammino parlo vedo ma dormo ma lui era seduto lì stava lì su quel divano egli è terribilmente stupido Agiosha terribilmente stupido scoppiò a ridere Ivan e si mise a camminare su e giù per la stanza chi è stupido di chi stai parlando fratello domandò di nuovo Agiosha angosciato il diavolo ha preso l'abitudine di venirmi a trovare è venuto due volte quasi tre mi ha stuzzicato convinto che mi fosse addirato per il fatto che egli è soltanto un diavolo e non satana delle ali infuocate fra lampi e tuoni ma lui non è satana è una menzogna è un impostore egli è un semplice diavolo un diavoluccio meschino frequenta persino i bagni pubblici se lo spogli forse troverai una coda lunga liscia come quella di un danese lunga più di mezzo metro fulva agioscia tu hai preso freddo sei stato nella neve vuoi del tè che cosa è freddo se vuoi ne faccio mettere a bollire dell'altro seane pa metra anscende o agioscia corse al lavavo inumidì l'asciugamano convince Ivan a risedersi e gli mise l'asciugamano bagnato intorno al capo poi si sedette accanto a lui che cosa mi stavi dicendo prima a proposito di Liza presi a dire Ivan era diventato molto loquace mi piace Liza ti ho detto delle cose cattive su di lei mentivo lei mi piace ho paura per Katia domani soprattutto per lei ho paura per il futuro domani lei mi abbandonerà e mi calpesterà pensa che io stia rovinando mitia perché sono geloso di lei sì la pensa così ma non è affatto così domani la croce ma non la forca no io non mi impiccherò lo sai agli oscia che io non mi potrei mai togliere la vita sarà per vigliaccheria non sono un vigliacco per la voglia di vivere come facevo a sapere che Smerdiakov si era impiccato sì è stato lui a dirmelo ma tu sei proprio convinto che ci fosse qualcuno qui domandò agli oscia ecco su quel divano nell'angolo tu lo avresti cacciato e lo hai cacciato per davvero è sparito non appena sei comparso tu mi piace il tuo viso agli oscia lo sapevi che mi piace il tuo viso e lui sono io agli oscia proprio io tutto quello che in me c'è di meschino vile spregevole sì sono un romantico lui l'ha indovinato anche se questa è una calunnia è terribilmente stupido ma questo va a suo vantaggio è astuto astuto come un animale e sa come farmi perdere le staffe non ha fatto che stuzzicarmi dicendo che io credevo in lui e in questo modo mi ha costretto ad ascoltarlo mi ha raggiunto come un ragazzino del resto ha detto molte cose sul mio conto non avrei mai detto cose simili a me stesso sai agli oscia sai soggiunse Ivan con un'aria serissima e quasi confidenziale avrei tanto voluto che egli in effetti fosse lui e non me ti ha estenuato disse agli oscia guardando il fratello con compassione mi stuzzicava e sai abilmente molto abilmente la coscienza e cos'è la coscienza sono io stesso a crearla perché mai allora mi tormento per abitudine per un'abitudine universale dell'umanità che dura da settemila anni allora liberiamoci da questa abitudine e saremo dei è stato lui a dirlo è stato lui ma non sei stato tu non sei stato tu stesso agli oscia non potei fare a meno di gridare quando il fratello con uno sguardo luminoso ma non ti curare di lui lascialo stare dimenticatelo che si porti via tutto quello che stai maledicendo e non torni mai più sì ma lui è dispettoso lui rideva di me è stato insolente agli oscia disse Ivan fremendo per l'offesa mi ha calunniato mi ha calunniato in molte occasioni mentiva sotto il mio stesso naso tu stai per compiere un gesto di eroica virtù dichiarerai di aver ucciso tuo padre che la che ha ucciso tuo padre è stigato da te fratello lo interruppe agli oscia controllati non sei stato tu ad uccidere questo non è vero questo è lui a dirlo lui e lui lo sa tu stai per compiere un gesto di eroica virtù ma tu non credi nella virtù ecco che cosa ti tortura e ti fa imbestialire ecco perché sei così vendicativo stava parlando di me e lui sa quello che dice sei tu a dirlo e non lui esclamò agli oscia afflitto e lo dici perché sei malato stai delirando ti stai torturando no lui sa quel che dico tu agirai per orgoglio dirai sono stato io ad uccidere perché la brividite dal terrore voi mentite io disprezzo la vostra opinione disprezzo il vostro orrore stava parlando di me e a un tratto dice sai tu vorresti che quelli ti lodassero che ti dicessero è un criminale un assassino ma che sentimenti magnanimi ha voluto salvare il fratello e ha confessato ma questa è una menzogna agli oscia gridò ad un tratto Ivan con gli occhi scintillanti io non voglio le lodi di quei servucoli mentiva agli oscia mentiva te lo giuro te lo giuro così gli ho gettato addosso il bicchiere e quello si è rotto contro il suo brutto muso fratello calmati smettila lo supplicava agli oscia no egli sa come torturare egli è crudele Ivan continuava imperterrito ho sempre avuto un presentimento del motivo per cui sarebbe venuto ammesso che tu avessi agito per orgoglio comunque avresti avuto la speranza che incolpassero smerdiakov e mandassero lui in siberia che assolvessero mitia e condannassero te soltanto moralmente capisci e a questo punto si è messo a ridere e che alcuni per di più lodassero il tuo gesto ma ecco che smerdiakov è morto si è impiccato e adesso chi crederà soltanto alla tua testimonianza al processo eppure tu ci vai ci vai lo stesso ci andrai comunque tu hai deciso che ci andrai che ci vai a fare dopo quello che è accaduto è intollerabile agli oscia io non posso sopportare queste domande chi osa pormi queste domande fratello lo interruppe agli oscia raggelato dalla paura ma ancora animato dalla speranza di far ragionare Ivan come ha potuto parlarti della morte di smerdiakov prima del suo arrivo quando ancora nessuno ne era al corrente e nessuno aveva avuto il tempo di venirlo a sapere me l'ha detto lui ribette decisamente Ivan senza ammettere il minimo dubbio anzi se vuoi non ha fatto altro che parlarmi di questo sarebbe un bene che tu credessi nella virtù e se dicessi non importa se non mi crederanno ci andrà lo stesso per principio ma se tu sei uno sporcaccione come Fiodor Paolovic che te ne fai della virtù a che serve che tu ti trascini fino a lì se il tuo sacrificio non servirà a nessuno perché neanche tu lo sai a che scopo ci vai daresti non so cosa per sapere a che scopo ci vai e poi ti sei veramente deciso non ti sei ancora deciso non chiuderai occhio per tutta la notte per decidere se andare oppure no comunque tu ci andrai e lo sai che ci andrai lo sai anche tu che per quanto tu ci rimugini sopra la decisione non dipende più da te ci andrai perché non hai il coraggio di non andarci perché poi non ne hai il coraggio tocca a te indovinarlo ecco un enigma che devi risolvere si è alzato e se n'è andato tu sei arrivato e lui è andato via mi ha chiamato codardo agli oscia le motte le enigme è che io sono un vigliacco non è da aquile di questo genere planare sulla terra è stato lui a soggiungere questo è stato lui anche smerdiakov lo aveva detto bisogna ucciderlo katia mi disprezza è un mese che me ne sono accorto e anche elisa comincerà a disprezzarmi vai per avere le lodi altrui è una volgare menzogna anche tu mi disprezza gli oscia adesso torno ad odiarti e odio anche il mostro odio anche il mostro non voglio salvare il mostro marcisca pure in prigione ha iniziato a cantare il suo inno domani andrò al processo mi metterò davanti a lui e gli sputerò in faccia davanti a tutti e gli saltò in piedi con un gesto frenetico dettò via la giugamano dalla fronte e si rimise a camminare per la stanza agli oscia ricordò le sue parole di poco prima è come se dormissi sveglio cammino parlo vedo e dormo proprio come stava facendo in quel momento agli oscia non si allontanava da lui gli era balenata l'idea di correre a chiamare un dottore ma aveva paura di lasciare il fratello da solo e non c'era proprio nessuno al quale poteva affidarlo a poco a poco Ivan perse del tutto coscienza continuava a parlare parlava senza un attimo di pausa ma senza coerenza ormai addirittura articolava male le parole ad un tratto traballò violentemente ma agli oscia fece in tempo a sorreggerlo Ivan si lasciò condurre a letto agli oscia lo svestì in qualche modo e lo fece coricare poi rimase a vegliarlo per altre due ore il malato dormiva a sodo immobile con un respiro tranquillo e regolare agli oscia prese un cuscino e si straiò sul divano vestito com'era prima di addormentarsi pregò per Mitia e per Ivan cominciava a capire la malattia di Ivan le pene di una decisione piena di orgoglio una coscienza profonda Dio nel quale egli non credeva e la verità di lui stavano conquistando il suo cuore che ancora non voleva sottomettersi sì passò per la mente ad agli oscia mentre era già sdraiato adesso che smerdi a cofè morto nessuno crederà alla deposizione di Ivan ma lui andrà lo stesso a testimoniare agli oscia sorrisse sommessamente Dio trionferà pensò o risorgerà nella luce della verità oppure perirà nell'odio vendicandosi con se stesso e con gli altri per avere servito a una causa nella quale non crede soggiunse amaramente agli oscia e pregò ancora per Ivan che si è